Buongiorno e benvenuti alla giornata delle carriere internazionali seconda edizione. Io sono Michela Prest, delegato del Rettore a Comunicazione, Orientamento e Fundraising e do il benvenuto a tutti i relatori, quelli di stamattina e quelli di oggi pomeriggio. Sono veramente tanti perché analizzeremo diversi aspetti dell'ambito delle carriere internazionali e ovviamente do il benvenuto a tutti voi che siete collegati. Abbiamo studenti universitari praticamente di tutti i nostri corsi di laurea e anche studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Perché è una giornata dedicata alle carriere internazionali? Io oserei dire, per cominciare, che nell'ultimo anno l'idea di internazionale si è un po' modificata nella nostra testa. Fino al 22 febbraio del 2020 pensavamo di poter andare in ogni luogo in qualunque momento. Dal 22 febbraio 2020 diciamo che il nostro spazio è decisamente risultato più confinato e anche l'idea del tempo ha subito delle modifiche. Allora per dare là alla giornata di stamattina io vorrei utilizzare un'immagine che viene dal mio mondo. Io sono un fisico sperimentale delle particelle elementari che nel suo percorso di lavoro si è occupato anche di spazio e ha costruito un satellite. Quindi nelle ultime settimane mi sono particolarmente emozionata quando il robottino Perseverance è arrivato su Arte, ha cominciato a muoversi, a mandare le fotografie. E questo mi ha fatto pensare a un altro momento emozionante dell'esplorazione spaziale. Il 14 febbraio del 1990, quel giorno, il giorno di San Valentino del 1990, la sonda Voyager 1 che adesso si sta avviando verso la nube di Orte, la casa delle comete, si è girata, si trovava a 6 miliardi di chilometri dalla Terra e ha fatto la sua ultima fotografia. Ci ha fatto la sua ultima fotografia. Questa fotografia è nota come Pale Blue Dot, il pallido puntino blu. E Carl Sagan, che era un divulgatore scientifico e un astrofisico, di questa foto amava dire è qui, è casa, è noi, tutti coloro che siano mai esistiti, tutti coloro che avete conosciuto, tutti quelli che amate abitano qui, su questo piccolo pallido puntino blu. È l'unica casa che abbiamo, è l'unica casa che conosciamo. Ecco, per me carriere internazionali significa occuparsi di questo pallido puntino blu, cioè della casa che abbiamo e di coloro che ci abitano. Che cosa vi racconteremo stamattina e oggi pomeriggio? Vi racconteremo un mondo a cui magari dal punto di vista professionale non avete mai pensato, oppure ci avete pensato ma non sapete come accedere a questo sbocco professionale. Quindi avremo dei relatori che ci racconteranno i possibili sbocchi professionali in ambito carriere internazionali e percorsi per arrivarci e avremo delle testimonianze, dei testimonial che racconteranno la loro esperienza di carriera internazionale, quali sono le caratteristiche che dovreste avere per intraprendere questo percorso, come il percorso formativo può aiutarvi o che cosa manca in un eventuale percorso formativo. La giornata è organizzata in questo modo, c'è una prima parte della mattinata che è trasversale per tutti e in cui sarò io il moderatore. La seconda parte della mattinata vedrà come moderatore la professoressa Barbara Pozzo e sarà dedicata alla figura del giurista nell'Unione Europea. E poi ci sposteremo il pomeriggio in un ambito scientifico e parleremo con i fisici del ruolo del fisico in ambito internazionale. Questo è un live event, quindi voi non potete fare direttamente le domande a voce ai relatori, ma potete scriverle via chat, poi le domande verranno inviate ai moderatori, saranno i moderatori a farle ai relatori. Non solo, questo è anche tutto l'evento è videoregistrato, quindi poi voi troverete le diverse sessioni pubblicate sul nostro sito per riascoltare quello che non avete sentito o magari per andare a curiosare qualcosa che non avete fatto in tempo a seguire stamattina. Che cos'altro posso dire? Innanzitutto devo ringraziare tutti quanti i relatori per l'entusiasmo con cui hanno accettato di partecipare a questa giornata e chiedo a tutti per favore di rispettare i tempi, così abbiamo anche il tempo di fare le domande e riusciamo a mantenere la nostra roadmap. Poi devo ringraziare l'ufficio orientamento e placement che ha organizzato questa giornata insieme alla commissione placement e devo ringraziare soprattutto tutti i servizi tecnici che ci hanno permesso di organizzare il live event, di videoregistrare e di non incastrarci in nessun meandro della tecnologia. Quindi detto questo, parchiamo in quarta, io auguro a tutti buon lavoro e passo la parola al professor Giorgio Zamperetti che è il delegato all'internazionalizzazione del nostro Ateneo. Giorgio, prego. Grazie Michela, buongiorno a tutti. Come responsabile dello sviluppo internazionale dell'Ateneo nel portarvi anche i saluti del magnifico Rettore non posso che rallegrarmi di questa bellissima iniziativa che la professoressa Presto e i suoi collaboratori ha realizzato per il secondo anno e non posso che ringraziare anche i relatori che hanno accettato di portarvi la loro esperienza e la loro testimonianza. Poche cose per non rubare spazio agli stessi. Si può avvantare di lavorare all'estero per scelta oppure per necessità. Per scelta quando si possiede una naturale vocazione a sentirsi cittadini del mondo perché i legami con il nostro paese e con la nostra lingua con tutto quanto rappresenta le nostre radici non sono così stringenti da impedirci di rivolgere lo sguardo altrove per cogliere delle opportunità. Per necessità quando la nostra specifica vocazione è a fare un determinato lavoro non può trovare realizzazione oppure può trovarla molto più difficilmente nel nostro paese. Se ad esempio faccio l'archeologo specializzato nella cultura maia è chiaro che in Messico troverò molte più opportunità che in Italia. Che sia per scelta o per necessità occorre avere chiara la visione che per vivere all'estero serve sviluppare una notevole capacità di adattamento e qui i nostri pro relatori potranno conformarlo. Mi piace ricordare Dante Alighieri visto che ricorre al settecentesimo anniversario della sua morte e che come noto dovette lasciare la sua patria senza più farvi un ritorno per ragioni politiche. E qui scrive nel Paradiso come sa di sale lo pane altrui e come duro calle lo scendere lo salire per l'altrui scale. Anche le diverse abitudini alimentari di un paese banalmente come il pane salato in un shop come si usa in Toscana e doversi ogni giorno confrontare con scale che non sono quelle di casa nostra sono cose di cui tenere conto quando si valuta un'esperienza di questo tipo. Ecco, questa capacità di adattamento, questa propensione a uscire dalla propria comfort zone, come si dice, voi dovete svilupparla fin da ora per fare di patria un concetto esteso. Patria deve diventare per voi dovunque essa sia il luogo dove si sta bene. Come le lingue si imparano da giovani così la capacità di adattamento occorre esercitarla fin da subito perché dopo con l'età possiamo dirlo subentrano le abitudini e con le abitudini non ci si muove più. Questo obiettivo è molto presente nella nostra visione di educatori ed è per questo che investiamo molto delle nostre energie per trasmettervi questo abitus mentale e permettervi fin da ora che state facendo l'università di vivere delle esperienze all'estero. Unedì è uscito il nuovo bando Erasmus che mette sul piatto centinaia di migliaia di euro in borse di studio per trascorrere uno o due semestri in università straniera perfezionando la lingua e sostenendo gli esami quello che molti non sanno è che accanto all'Erasmus Studio che si svolge in un'università c'è anche l'Erasmus Traineeship che permette di affrontare la stessa esperienza ma con un taglio già più professionale o pre-professionale in un ente in un'organizzazione in un laboratorio e questa è una cosa molto importante ecco nei primi tre giorni da quando ha aperto il bando sono arrivate più di cento domande e quindi è evidente che la pandemia non frena la voglia di innaturare questa esperienza un'esperienza fondamentale che se dipendesse da me forse sono un po' dittatore ma la renderei obbligatoria la mia generazione ha vissuto la leva obbligatoria e sinceramente sarebbe stato più produttivo fare un Erasmus ma purtroppo non esisteva ancora in quest'anno siamo riusciti ad andare all'estero 160 studenti con tutte le difficoltà che potete immaginare e che sono comunque riusciti a svolgere l'Erasmus e a portare a casa il risultato ecco a voi in particolare che siete collegati e che quindi avete uno sguardo naturalmente rivolto verso una visione geograficamente aperta della vostra esistenza io rivolgo l'invito di considerare questa opportunità che la vostra università vi offre segnalo che il 16 marzo dalle 10 alle 12.30 si svolgerà l'Erasmus Day in cui verranno date tutta una serie di informazioni tecniche sul bando e parteciperanno molti studenti che hanno già fatto l'Erasmus o lo stanno facendo in questo momento per rendere la loro testimonianza quindi riceverete tutti il link per la partecipazione e vi invito caldamente a essere presenti se perdete una lezione o un'esercitazione non succede niente non voglio rubare altrettanto i nostri relatori la cui esperienza siamo veramente ansiosi di ascoltare grazie grazie professor Zamperetti devo dire che forse il fatto che ci siano tutte queste domande dà anche l'idea che vogliamo respirare come respiravamo prima in qualche modo vogliamo riappropriarci di qualcosa che in qualche modo sentiamo sia sfuggito per quest'anno e quindi vogliamo proprio riappropriarci di questo palido puntino blu e di chi ci vive in questo palido puntino blu allora come abbiamo deciso di cominciare con questa prima sessione abbiamo deciso di cominciare invitando due persone che in realtà sono due studenti stranieri che stanno facendo il dottorato presso l'università degli studi dell'insubria e abbiamo chiesto loro di raccontarci che cosa vuol dire dal punto di vista di crescita professionale e di crescita personale fare un percorso di questo tipo cioè andarsene da casa diventare cittadini del mondo sono entrambi due dottorandi di ambito scientifico e spostarsi spostarsi in un luogo che ha tradizioni diverse lingua diversa cultura diversa modo diverso perché una cosa del genere che cosa porta in più come crescita personale allora io comincerei subito dando la parola e ovviamente ricordo a voi fate domande non preoccupatevi nessuna domanda è ingenua nessuna può essere anche una semplice curiosità fatele in maniera tale che noi possiamo rivolgere ai nostri relatori quindi passo la parola subito al dottor Morgan Rogers che sta facendo un PhD in ambito matematico adesso vedo se il dottor Rogers compare eccolo qua e gli lascio la parola a dottor Rogers ha circa 12-13 minuti tutti i suoi grazie Michela quindi io sono nato a Shrewsbury che è una città che si trova in Inghilterra all'Ovest e c'è un altro c'è un altro famoso che un cittadino di Shrewsbury che forse conoscete tutti Charles Darwin che chiaramente ha avuto una carriera abbastanza internazionale e sarebbe stato bello dire che mi sono ispirato di lui per fare la mia carriera internazionale ma la verità è che a me non piace tanto viaggiare mi piace essere in altri posti ma la pratica di viaggiare non mi piace tanto quindi forse abbiamo ispirazioni diverse quindi mi sono laureato a Cambridge facendo matematica e ho fatto la magistrale anche lì e quando ho iniziato a Cambridge pensavo che alla fine farò la fisica che che cercavo di imparare cose matematica per applicarmi nella fisica e in Inghilterra penso che sia il stesso caso in Italia non non scopriamo la vera matematica quando lo facciamo a scuola è solo quando arriviamo all'università che vediamo la pratica delle dimostrazioni la bella matematica pura che si trova lì mi sono innamorato e soprattutto ho scoperto in un libro nel mio primo anno la teoria delle categorie che è una materia abbastanza avanzata quindi non si insegna in ogni università e anche dove si insegna si può solo fare alla magistrale dopo si è laureato quindi ho scoperto quello nel mio primo anno e avevo quasi già deciso che volevo studiarlo di più quindi alla fine al mio quarto anno ho potuto fare un corso ufficiale ma i professori che insegnano questo materiale erano troppo vecchi per prendere studenti dottorandi quindi già vedevo che c'era un dovuto di cercare in altri posti per trovare un posto di ricerca già quindi come diceva il professore Zamperetti c'era un po' necessità di cercare in altri paesi perché in Inghilterra nel Regno Unito c'è solo tre quattro professori che fanno la teoria delle categorie non è non è abbastanza vorrei dire non c'era abbastanza opzioni soprattutto quando mi sono applicato ho fatto qualche applicazione e poi questi professori non hanno potuto prendermi perché hanno già troppi studenti dottorandi quindi c'era un po' necessità ma c'era anche opportunità vorrei dire ho incontrato in una conferenza a Nice quando facevo la magistrale la professoressa Caramello che prima avevo contattato ma non mi ha risposta ma quando ci siamo incontrati mi ha conosciuta e mi ha avvisato di applicarmi perché aveva ragione ci sono tante opportunità se ci lasciamo a cercare nel mondo c'è tanto di più che possiamo trovare che se cerchiamo solo nel nostro paese poi c'era anche altre ragioni quindi io ho la buona fortuna di essere metafrancese la mia madre è francese quindi anche col Brexit non aveva il problema stesso che ha avuto per esempio c'è un altro dottoranno che si chiama Josh che ha dovuto fare molto di più per muoversi in Italia ma per voi italiani se volete andare in altri paesi europei potete farlo facilmente non c'è troppo da fare per muoversi in altri paesi c'è l'opportunità di scoprire le altre culture quindi vedete che il mio italiano è lento ma l'ho imparato da zero quando sono arrivato quindi c'è anche l'opportunità di imparare altre cose che è la sua materiale il suo soggetto potete anche imparare le lingue vedere altre culture mangiare gelato vedete c'è tanto da fare c'è anche aspetti negativi che dovete sapere quindi se quando si muove in un altro paese chiaramente c'è ci sono differenze che creano difficoltà per esempio se non parlavo italiano e qua a Como l'inglese non si parla ovunque diciamo ma quelle difficoltà sono anche una buona preparazione per altre situazioni perché la ricerca è davvero una professione internazionale è quello che volevo avere questa esperienza di professione internazionale il più presto possibile lo aspettavo forse dal mio primo anno di Loria perché quando leggiamo libri quando guardiamo video vediamo gente di tutto il mondo è una gente che vorremmo incontrare parlare con loro capire essere membro di questa comunità internazionale quindi Morgan posso fare una domanda io come le scimmie io vorrei sapere che cosa pensi di fare dopo dove ti vedi in futuro e che cosa ti piace dell'insubbria ok quindi al futuro ho deciso che vorrei ancora spostarmi non so ancora dove quindi forse in Germania in Francia vorrei ancora vedere nel posto stesso un'altra cultura capire ancora della gente ma anche forse cambiare un po' la mia specializzazione perché ho anche altri interessi e naturalmente dopo di aver fatto il dottorato c'è ci sono opportunità industriali che vorrei almeno esplorare cosa mi piace all'insubbria prima cosa il posto c'è Abito a Como è una città bellissima e soprattutto molto diverse di ogni città che si trova nel Regno Unito nel Regno Unito non ci trovano montagne che possiamo vedere facendo una piccola uscita di trenta minuti all'università stessa mi piace di essere in una comunità piccola dove conosco tutti i matematici almeno tutti i fisici che sono al stesso posto chiaramente ci sono altri avaresi che non conosco così bene ma mi sento davvero parte di qualcosa che forse che sarò sempre una parte di questa piccola comunità mi piace molto questa risposta che hai dato mi sento parte di qualche cosa che cosa ti manca di casa e quale caratteristica c'è qual è la molla che ti fa fare un salto nel buio perché alla fine ti sposti di paese non sai cosa trovi non conosci la molla vera che ti fa trovare le baniere spiacente non conosco la parola molla la molla lo sprint la spring cioè che cosa what è un vento ok c'è parlavo prima di opportunità quindi c'è in particolare la come si dice funding di Indam che molto che quando mi sono applicato era molto generosa quindi c'era sapevo che se mi se mi lasciavo andare potevo aspettare una qualità di vita abbastanza buona per un cercatore perché non è vero che in ogni paese pagano bene i dottorandi e quindi chiaramente c'era una competizione ho dovuto fare molto lavoro per avere questi fondi ma visto che li ho vinto mi trovo molto meglio che ho un amico che si è spostato in america dove ha avuto difficoltà di vivere sui suoi fondi ha dovuto per esempio prendere un lavoro che io non ho dovuto fare che mi sento molto fortunato per questo e poi ho parlato di opportunità limitati nell'area unito quindi mi sono applicato ho avuto qualche offerte ma comparativamente l'Italia era chiaramente meglio come possibilità l'altra domanda era cosa ti manca di casa i miei naturalmente ci sono cose un po' più sottili per esempio c'è nel mio appartamento qua non posso mettere una kettle per pulire l'acqua che usiamo molto in Inghilterra che ti fa saltare la corrente probabilmente sì ci sono anche amici che che fanno con chi posso parlare ma chiaramente c'è c'è modo di parlare ancora con amici e mi trovo fortunato perché è il stesso modo che loro devono utilizzare parlarsi con internet perché chiaramente la situazione lì non è meglio di qua hai ragione Morgan senti io ti ringrazio tantissimo vedo se sono arrivate domande non le vedo allora grazie veramente emozionante grazie mille perché ti dico perché se spegni il microfono perché se no si sente il ritorno fantastico è emozionante sapete perché io sono un fisico delle particelle quindi io lavoro al CERN nei due anni che non andiamo al CERN prima perché non c'erano fasci adesso perché c'è sta cosa della pandemia eccetera eccetera e io continuo a dire ai miei ragazzi se non mi fanno andare a CERN guai ma non è tanto solo il lavoro è come ha detto Morgan sentirsi parte di qualche cosa cioè una un percorso internazionale vi fa sentire parte di qualche cosa e questo secondo me è cioè entrare in una comunità internazionale sedersi a un tavolo dove c'è gente da tutte le nazioni parlare sentire parlare lingue diverse vedere persone creative è una cosa che vi fa crescere non solo dal punto di vista professionale che è fondamentale ma soprattutto vi fa crescere dal punto di vista personale allora io adesso passo la parola alla prossima dottoranda che è una dottoranda in scienze chimiche e io non so se si chiama Elena o Elena adesso lei mi correggerà e soprattutto dirà lei il suo cognome perché io lo storpirei in maniera assolutamente impropria Elena ti passo la parola vediamo se riusciamo a sentirti a vederti anche in questo momento sei muta adesso sei non più muta e vediamo se ti mettiamo anche grazie per l'invito è un piacere ma scusi sono solo sei mesi qui e non parlano italiano correttamente vai tranquilla se vuoi parlare in inglese puoi anche parlare in inglese questi ragazzi parlano carriere internazionali quindi vogliono questo per la plasticità riuscii ginnt Guild su sono numerare fu fu avographic at lio cristale come lïtua niente I moved to Italy for PhD in chemical sciences in organic chemistry and I'm very incredibly honoured to be here in this event and also to be representing my network and my story. It is a really beautiful thing to be part of this international multidisciplinary network and be here as an early stage researcher working on cancer research essentially which is my project is all about. Our network Magic Bullet Reloaded is a 15 BDD project and my part happens to be here in Como in Italy and it is all part of Marie Curie's Kludowska actions and for me working on such a multidisciplinary international and impactful projects like the Magic Bullet Reloaded is like a dream coming true moreover to be in such a beautiful city and continuing my research in a place like here in Como and but how did I arrive here and what helped me throughout the way and my story is what I'd like to share with everybody today. My very first long-term international experience started back in 2013 when I was only 19 and I moved to Scotland to Glasgow for studies at the University of Glasgow. I was very excited and 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 huge enthusiasm to know the world and different cultures and and learn about what it means to be living abroad and also I was fascinated with different educational opportunities that an international experience could offer at the time. My personal passion was with molecular world the interactions between atoms and molecules but specifically I actually did not know what I wanted to study um and first and foremost this is what going abroad has actually given me as at the University of Glasgow I was given a chance to discover and fall in love with a subject I still study today which happens to be chemistry um to be honest moving abroad you never know what you will find it's you can have different expectations but the reality is always very different uh but my personally throughout for me personally throughout this five year period abroad I happen to experience not only high education in a world known university met aspiring lectures and peers I had the chance to participate in various clubs and societies like tennis and filmmaking which was then in Glasgow and engage in cultural activities like trying Kaley dancing which is the Scottish typical folk dance and also expand my network connecting with people from all around the world um my study program then involved a year in industry and I was offered a position in organic chemistry lab working for Bayer in Frankfurt Germany so I spent another year um in a different country and in addition to many benefits living abroad separately gives the soft skills well my company also gave me competences a network that built my confidence and helped me enormously later on when I was applying for PhDs later on and overall after these five years of intense studies I found my passion for STEM I graduated from a master's degree in chemistry I spent a year in industry became fluent in two foreign languages almost German now I'm learning the third one Italian I made lifelong friends um we still keep in touch today and created a wide international professional network and it gave me opportunity and the ability to work in diverse to work in diverse groups collaborate across cultures uh problem solve across disciplines and and grow as a young scientist and as a person and most of what this opportunity gave me is actually it brought me to to where I am now to this PhD opportunity in a way the skills that I've obtained throughout my years and as an international student now I also sort of am living my dream um the application process to do it 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 wasn't easy and it always takes a little bit of effort um but I'm very thankful to be part of as a Marie Curie in Cuomo I get to live in a beautiful country uh like Italy I am trying to learn the language and also know the culture better and uh and this this gives provides opportunity to grow as a person first of all to sort of foster the hobbies like I love the alps I'm going on hikes uh but more importantly faccio una traduzione veloce perché magari l'inglese non lo capisce I just translate a bit what you have you have told us so that if there is somebody who is not understanding English I just summarize what you have told us ok I summarize it in Italian for ok fantastic allora la Elena l'avete sentita vediamo se compare anche qualche domanda cioè lei arriva dalla Lettonia e ha passato 33 diversi stati meraviglioso lei adesso è una dottoranda qua con una rete internazionale che la rete Marie Curie però ha cominciato nel 2013 e questo io vorrei sottolinearlo a soli 19 anni andando a fare l'università a Glasgow in Scozia e dove si è innamorata della chimica furiosamente ha passato un anno a Francoforte ha lavorato un anno eh nella industria e adesso sa due lingue straniere quindi ha delle competenze eh fantasmagoriche e la cosa che mi piace di Elena what I love Elena from you is eh the sparkling of your eyes ok è chiaro che sta parlando di qualcosa che lei ama particolarmente soprattutto la passione per il lavoro can I ask you what your family told you when you decided to go to Glasgow che cosa la famiglia gli ha detto quando ha deciso va bene vado a Glasgow a fare l'università è per l'università è stato sempre stato supporto di me ma non ho non ho mai sempre disoncouragate le persone non ho sempre disoncouragate le persone perhapsa a l'università in ripensare l'università magari vado a una volta in corso perché noi siamo un nuovo paura e anche avanti sono un paura che sembra un gemo di essere un gemo di questo they were very happy for me but i guess it was more like my personal wish and they just wanted to be happy and i guess by seeing that enthusiasm and need they they were only trying to help but they also said it is your dream and we cannot we are not going to help you we can help you a bit financially perhaps which was very i am very thankful for that because it's of course a big part of that is to have some stability when you arrive but throughout the application process it was all all my own so it was a bit learning how to experience it like the hardships in a way by reaching the goal eventually and I'm very happy with that. E' entusiasmante quello che Elena dice cioè il fatto che ha seguito i suoi sogni, you followed your dreams e questo è quello che noi diciamo ci sono collegati dei ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado quando dovete scegliere il vostro percorso universitario seguite i vostri sogni perché se seguite i vostri sogni poi c'è la passione che vedete in questi due ragazzi la passione che vi fa andare ovunque 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 senza pace con la paura che ovviamente non sapete che cosa aspettarvi e cosa no ma vi fa abbattere qualsiasi barriera c'è la passione che fa la differenza e secondo me è una carriera internazionale è un grande segno di passione is really follow your dreams and even if you find obstacles even if you find problems you can overcome them because you are following your dreams your future Elena. So I literally just moved here so it is I am quite open to see because I will be staying for three years as part of this project here so I believe there is a lot to learn and I really hope to explore this network as much as possible and see what it opens. So I prefer rather than having a very direct purpose I prefer to stay it a little bit open because when you're a bit relaxed even though as you say it comes with a lot of challenges you know there's a lot of obstacles and I seldom speak Italian and sometimes need to communicate like this with people and stuff but I personally I personally I'm learning also here a lot from Italian culture to be a bit more relaxed and to enjoy life and I hope of course to continue in research I'm either an industry or in academia but but so far it's still an open question where exactly I will go. E' bellissima questa definizione cioè avere ecco io direi che questa è la prima caratteristica per intraprendere una carriera internazionale poi vedremo cosa dicono gli altri testimonial cioè avere la mente open avere la mente aperta e mi piace moltissimo la definizione di Elena stay relaxed perché se sei relaxed then you can look around and see if something happens cioè guardatevi attorno rilassati pensando ai vostri sogni ed essendo aperti alle opportunità che arrivano. Cioè io vorrei dire grazie a tutti a due sia a Morgan che a Elena perché è stato entusiasmante non vedo domande arrivare sono sempre molto timidi poi via 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 chat è sempre difficile mandare le domande però io trovo che sia stato e volevamo proprio questo volevamo raccontare che cosa vuol dire fare una vita diversa cioè uscire dal proprio spazio confinato e guardare oltre sull'orizzonte sull'orizzonte questo era quello che volevamo come apertura di questa giornata delle carriera internazionale quindi grazie entrambi thanks to both of you è stato fantastico ovviamente avete visto come si chiamano se volete mandargli delle domande via mail potete mandargli delle domande via mail you can write them an email just put the name chiocciola uninsubria.it e loro saranno disponibili a rispondervi grazie grazie veramente di cuore grazie grazie grazie. Allora dopo aver sentito Elena e Morgan entusiasmanti adesso passiamo alla sessione che proprio ci porta nel mondo del nel mondo del diciamo della carriera diplomatica e non solo nel senso che la nostra prossima sessione si intitola lavorare per il ministero degli affari esteri. è una sessione molto ampia abbiamo due due rappresentanti di due mondi diversi il dottor Corsaro che ci parlerà della carriera diplomatica il dottor Raus che ci parlerà degli istituti italiani di cultura nel mondo e poi abbiamo due testimonianze di un laureato e di una studentessa che hanno fatto proprio in quest'ambito il loro tirocinio come parlava prima il professor Zamperetti quindi io mi taccio e pendo dalle labbra del dottor Francesco Corsaro che è il primo segretario dell'ambasciata d'Italia a Bratislava. e non vedo l'ora che ci racconti la sua esperienza dottor Corsaro lei può esatto vediamo se arriva anche la telecamera se lei parla io la vedo io non ancora ma se c'è qualche problema ce lo faranno sapere immagino chiedo tutto a posto ok allora dottor Corsaro può parlare per 20 minuti con tranquillità poi se ho quasi qualche curiosità come vedi io sono molto curiosa la interromperò anche se non arrivano domande io ne ho tante a dir la verità prego. Buongiorno buongiorno a tutti grazie ringrazio molto la professoressa Michela Presto e il professor Giorgio Zamperetti per l'opportunità che mi danno così di spendere qualche parola per raccontare un po' in cosa consiste il mio mestiere. innanzitutto un saluto a tutti da Bratislava su questa piattaforma virtuale Francesco Corsaro svolgo le funzioni di primo segretario presso l'ambasciata d'Italia a Bratislava vice capo missione numero due della rappresentanza e quindi in realtà la professoressa Presto oggi mi ha affidato un compo dottor Corsaro la sentiamo un po' a pezzetti in realtà la sentiamo che va e viene cioè non sentiamo continuo non capisco se è un problema di connessione sì un problema di rete ok cosa possiamo fare Roberto spegniamo tutte le altre telecamere o è un problema di rete non cambia allora proviamoci vediamo cosa succede ok sì ecco dicevo il compito che mi date oggi è un compito abbastanza arduo perché raccontare in poche parole un po' l'essenza di questo mestiere i tratti un po' come dire ontologici caratteriologici di questa di questo losco figuro che è il diplomatico che si aggira tra cocktail ed eventi conviviali secondo una certa narrativa insomma può essere può essere complesso ci sono tante definizioni da poter dare in realtà sono tante come come avete detto voi stessi le esperienze professionali che riguardano l'estero e le carriere internazionali per cui quello che vorrei dare io un po' il mio punto di vista personalissimo su questo su questo mestiere e così attraverso questa piattaforma virtuale veicolare un messaggio che è un messaggio di entusiasmo è un messaggio credetemi autentico reale cioè questo è un mestiere bellissimo è veramente un bellissimo lavoro che noi diplomatici facciamo con tanto entusiasmo perché perché ci permette di rappresentare il nostro paese all'estero ci permette veramente di valorizzare le eccellenze dell'Italia spesso si usa questa parola sistema paese questo vuol dire che noi valorizziamo il bello e l'eccellenza di tutte le componenti dell'Italia dalla parte culturale all'aspetto scientifico all'aspetto industriale noi all'estero abbiamo il compito di raccontare di valorizzare, di promuovere tutto quello che di eccellente, di straordinario fare l'Italia all'estero e questo credetemi da una grande carica di entusiasmo e questo è particolarmente evidente nelle ambasciate dove si svolge un rapporto bilaterale cioè noi abbiamo un rapporto con l'autorità del governo del paese dove siamo accreditati fondamentalmente svolgiamo se si può così categorizzare due grossi compiti seguono due linee direttrici una è quella dell'analisi cioè quella di raccontare la realtà del paese dove ci troviamo la realtà vuol dire la situazione politica politica interna di politica estera le posizioni delle autorità di governo ma anche in generale tutto quello che succede nel paese perché particolarmente importante perché nel mondo di oggi dove con uno smartphone in realtà tu sei connesso e in due secondi puoi avere un aggiornamento totale di tutti gli eventi di tutti gli accadimenti noi abbiamo un valore aggiunto cioè quello di offrire un punto di vista privilegiato da parte di chi è qui in loco e quindi può o meglio deve deve fare qualcosa in più che non è soltanto raccontare un evento ma è anche offrire i punti di vista i pareri gli angoli visuali di per esempio in questo caso degli slovacchi delle persone che noi vediamo tutti i giorni quindi questo è l'altro aspetto importante cioè il diplomatico per questo dicevo all'inizio scherzo sapete ci dipingono spesso come loschi figuri tra un cocktail e un evento conviviale in realtà il diplomatico è immerso fortemente nella realtà del paese dove vive e lavora proprio perché il suo compito è offrire un'analisi che deve essere puntuale deve essere aggiornata ma soprattutto deve essere completa cioè noi dobbiamo raccontare effettivamente il punto di vista delle persone che incontriamo voi potrete trovare sui giornali magari i risultati delle elezioni politiche in Slovacchia o un determinato avvenimento ma chi lavora in ambasciata ha parlato magari direttamente con quell'autorità di governo con quel referente o semplicemente può dirvi quelle che sono le opinioni i punti di vista dell'opinione pubblica quindi in questo senso la nostra analisi importante cioè un'analisi che permette di vedere una realtà che è in continua evoluzione diciamo se possiamo dirlo in altri termini noi siamo la fonte più diretta da cui il ministero degli esteri il governo ma tutte le autorità italiane possono attingere per sapere quello che succede nel paese e questo è un primo filone se vogliamo un po' è un po' il filone classico si usa come questo termine reporting politico insomma sostanzialmente questo l'attività di racconto di dirlo su conto ma c'è un altro fondamentale aspetto cui facevo accenno prima che è quello invece della promozione della valorizzazione cioè noi dobbiamo raccontare alle autorità al popolo del paese dove ci troviamo nel mio caso gli Slovacchi l'eccellenza del nostro paese e questo in vari campi prendiamo ad esempio l'aspetto economico e commerciale quindi l'ambasciata pianifica, programma, organizza iniziative di promozione per valorizzare ad esempio le eccellenze italiane nel campo potrebbe essere dell'aerospazio come della meccanica come dell'automobile e organizza eventi organizza convegni missioni di aziende italiane nel paese per promuovere occasioni di contatto e la nostra missione è sostanzialmente quella di creare occasioni di collaborazione di contatto noi dobbiamo fare rete noi non dobbiamo essere dei tutologi non dobbiamo sapere tutto di economia di cultura di cesto dobbiamo saperne abbastanza ma il nostro compito fondamentale è quello di creare le opportunità e le occasioni per i contatti per i contatti tra soggetti dell'Italia e soggetti del paese dove stiamo nel campo economico sono gli operatori economici le aziende ma la stessa cosa riguarda ad esempio l'area culturale noi abbiamo una mission molto precisa che è quella di promozione della lingua e della cultura italiana questo lo facciamo attraverso le articolazioni del ministero degli affari esteri che sono gli istituti italiani di cultura ma lo facciamo anche con altre realtà parlo di Bratislava dove ad esempio abbiamo una realtà di eccellenza che è una scuola italiana una scuola dove i ragazzi decidono di fare un liceo in italiano e di studiare le materie italiane vi faccio questo esempio per dire come possono essere tanti i veicoli di promozione della lingua e cultura italiana e l'ambasciata fa un po' questo coordina e mette insieme tutti quei soggetti che possono valorizzare gli elementi della cultura italiana anche in questo caso organizzare iniziative eventi nei vari campi dalla cultura dalla musica al cinema all'arte alla scienza questo è un altro aspetto che mi piace ricordare perché se è vero che dobbiamo valorizzare l'eccellenza del nostro paese un altro aspetto fondamentale è la ricerca scientifica e tecnologica proprio qui a Bratislava ad esempio abbiamo organizzato vari eventi in cui valorizzavamo l'apporto dei ricercatori italiani dei giovani italiani laureati che sono venuti qui a lavorare nelle università ma anche in tante multinazionali del parco tecnologico come IBM o Amazon quindi il nostro compito è un po' quello di accendere i riflettori su tutto il meglio dell'Italia e anche il meglio degli italiani che sono nel paese e questo è un aspetto fondamentale vorrei dire un ulteriore elemento è chiaro che in pochi minuti è difficile trattare esattivamente tutto però c'è un elemento che vorrei sottolineare che è quello della diplomazia di servizio cioè noi svolgiamo anche un altro compito che è quello di fornire dei servizi per gli italiani che stanno qui e sono i servizi consolari sono i passaporti le carte d'identità tutti quei servizi che potete immaginare ma sono anche operazioni impegnative e allora come può essere l'organizzazione del voto all'estero o altri servizi che sono invece per gli stranieri che vogliono venire in Italia come per esempio i Visti quindi c'è tutto un aspetto di servizio che tocca ad esempio lo stesso aspetto commerciale perché noi assistiamo le aziende quando hanno per esempio un problema un contenzioso con le autorità con le stazioni appaltanti della Slovacchia o semplicemente li mettiamo in contatto con gli operatori economici slovacchi o ancora gli forniamo loro indicazioni utili su un determinato mercato pensate ad esempio per farvi un esempio pratico di un'azienda impegnata nel settore della componentistica per aerei e ha bisogno di sapere com'è il mercato dell'aerospazio dell'avionico in Slovacchia allora si rivolge in prima battuta all'ambasciata che dà una prima informazione generale su quel mercato e poi l'azienda valuterà anche in questo caso l'ambasciata svolge un ruolo di coordinamento perché sono tanti i soggetti che ci aiuta l'istituto per il commercio estero ad esempio l'ICE svolge un ruolo fondamentale come articolazione del ministero dello sviluppo economico proprio per promuovere il commercio ma anche la penetrazione dei mercati esteri da parte delle nostre aziende e le camere di commercio in quasi ogni paese c'è una rete di camere di commercio italiane che danno sostegno quindi un po' l'ambasciata svolge questo ruolo di coordinamento altri due punti per Corsaro posso interromperla un attimo perché stanno arrivando un sacco di domande quindi io gliele faccio poi lei risponde come nel suo percorso diciamo risponde come vuole gli studenti stanno chiedendo sono molto interessati poi ognuno di loro racconta di che percorso di laurea eccetera eccetera però vorrebbero sapere che tipi di percorso ha fatto lei di percorso formativo proprio che tipo di percorso formativo ha fatto come è arrivato al percorso come diplomatico se c'è un concorso che tipo di percorso insomma il percorso per arrivare ad essere un diplomatico dunque per diventare diplomatici si accede tramite concorso quindi diciamo è un criterio oggettivo meritocratico sono varie i titoli di laurea che permettono di accedere a questo concorso diciamo fondamentalmente appartengono però a tre grosse macro aree che sono l'area giuridica quella economica e quella delle scienze politiche il mio percorso io ho fatto studi giuridici ero ero un avvocato però ho sempre avuto questa questa passione per le carriere internazionali e devo dire quindi sono riuscito a incrociare queste due passioni però ecco si può accedere al concorso anche con una laurea in discipline economiche o scienze politiche perché perché il concorso effettivamente richiede la conoscenza di una pluralità di ricevere il concorso prevede tre fasi primo segmento è una prova attitudinale di logica quindi direi non spenderei troppe parole senza una prova di logica non è particolarmente impegnativa fondamentalmente lo step importante è quello degli iscritti cinque prove scritte di diritto internazionale dell'Unione Europea di storia delle relazioni internazionali a partire dal congresso di Vienna e di politica economica e finanziaria quindi materie economiche più due lingue straniere un tema in inglese e un tema in una seconda lingua straniera che è a scelta tra francese spagnolo e tedesco senza l'uso del visionario il diciamolo probabilmente lo scoglio più impegnativo più grosso è quello di superare gli iscritti insomma devo dire per la mia esperienza come diceva anche lei professoressa se uno ha un obiettivo e un'ambizione non c'è non c'è veramente nulla di irraggiungibile quello che consiglio io è di studiare molto di studiare però in maniera intelligente se posso dire la mia esperienza personale che mi ha aiutato molto è stata quella diciamo di non partire dal presupposto di studiare esaustivamente tutti i dettagli di tutti i programmi perché sarebbe impossibile credo che sia molto importante studiare contestualmente e governare tutte e tre le materie importanti storia delle relazioni internazionali diritto internazionale e economia cioè studiarle tutte e tre contestualmente contemporaneamente in modo tale da avere sempre un controllo della materia perché è un po' questo poi che viene richiesto soprattutto nell'orale in cui la commissione chiederà queste materie ma anche molte altre contabilità di Stato diritto civile diritto internazionale privato geografia politica ed economica la commissione lì è vero che deve accertare le conoscenze dei candidati ma deve accertare soprattutto quella che poi è la qualità fondamentale di un diplomatico cioè interdisciplinarietà la versatilità la capacità di passare logicamente da un argomento a un altro per fare collegamenti concettuali questa è un po' l'attitudine fondamentale interdisciplinarietà e versatilità ma una volta passato il concorso che cosa succede cioè il luogo di destinazione o quant'altro l'iter a quel punto è un iter in cui uno può scegliere o è un iter determinato direttamente dal ministero allora si diventa segretario di legazione in prova ok si inizia un periodo di prova che dura nove mesi e per i quali si è in servizio a Roma si viene immediatamente applicati presso un ufficio ministeriale e al tempo stesso si segue un corso di formazione presso l'istituto diplomatico quindi i primi nove mesi si fanno a Roma poi segue un periodo che è variabile diciamo fino ai tre anni tra i due e i tre anni e poi si parte per l'estero ok si parte per l'estero la permanenza all'estero può durare per un massimo di otto anni ed è un po' questo il senso del nostro mestiere si passa diciamo si passa parte del tempo a Roma e grande parte all'estero all'estero decide direttamente la persona o è una destinazione decisa dall'alto diciamo sulla base dei posti che si rendono vacanti volta per volta la persona fa una avanza una candidatura con una serie di proposte e poi l'amministrazione però sceglie quindi non è giusto che si venga assegnati nella prima opzione che viene scelta però ecco si avanzano delle candidature e poi l'amministrazione sceglie ok c'è una domanda molto caratteristica molto voglio dire che mi fa sorridere effettivamente perché è un pensiero che immagino in tanti di noi hanno avuto come è possibile coniugare una professione itinerante con la vita familiare ci vuole un po' di organizzazione bisogna bisogna programmarlo però è assolutamente fattibile è chiaro che se per esempio si ha una famiglia le scelte vanno condivise insomma quindi è evidente questo richiede richiede sicuramente un impegno maggiore in termini di programmazione è assolutamente fattibile ed è un arricchimento senz'altro un arricchimento ma di tutte le attività di responsabilità dell'ambasciata che lei ha citato qual è che è top nella sua lista di priorità cioè qual è quella che la intriga di più la interessa di più per cui si sente più portato quali sono le sue caratteristiche tali per cui lei si sente particolarmente portato per questo ma allora in un'ambasciata in realtà un'ambasciata medio piccola come Bratislava ha una peculiarità diciamo il numero due il vicario dell'ambasciatore segue un po' tutte le attività nel senso non essendoci tanti diplomatici come potrebbe essere a Washington o a Pechino o la rappresentanza a Bruxelles è chiaro che tutto il rapporto bilaterale viene affrontato dal numero due dall'ambasciatore quindi in realtà non c'è non c'è un'attività privilegiata ogni giorno noi ci occupiamo di tutto a differenza magari di altre sedi dove c'è la possibilità di frazionare il lavoro ad esempio vengo dal Canada la mia prima sede è stata Ottawa dove dirigevo l'ufficio commerciale dell'ambasciata e lì per quattro anni ho avuto un dossier specifico che era commerciale e è chiaro perché essendo il Canada un paese vastissimo con enormi opportunità con enormi sfide è chiaro che era un dossier molto immediativo in un'ambasciata medio piccola come Bratislava io ogni giorno mi occupo di tutto cioè la mattina posso dover scrivere un messaggio di approfondimento di questioni politiche poi il pomeriggio magari avere un incontro con il rappresentante di un'azienda italiana in Slovacchia e poi invece la sera parlare con i docenti della scuola italiana che espongono quelli che sono i programmi eccetera quindi il bello diciamo di questa sede è che si può avere ogni giorno un quadro totale nello spettro del rapporto bilaterale in tutti i suoi cambi tutto questo è incredibilmente intrigante a me piace la cosa che che sottolineerei subito è il fatto che lei ha detto che bisogna studiare molto cioè questo è una bisogna studiare molto in un certo modo da subito questo è uno degli elementi che sottolineiamo sempre ai ragazzi quando devono scegliere l'università ripeto ci sono collegati dei ragazzi che ancora non sono all'università ma anche che per chi è all'università l'elenco che lei ha fatto degli elementi delle fasi del concorso diciamo così la parola versatilità che lei ha citato per l'esame orale senza contare appunto il bagaglio di conoscenze e competenze che uno deve avere che diamo per scontato lo studiare molto è questo però questa parola la parola versatilità che vuol dire in qualche modo mettersi in gioco da subito giusto? è proprio questo vorrei sottolineare questo aspetto cioè quello che è richiesto non è solo la conoscenza di tutti i dettagli di tutti i programmi perché sarebbe impossibile cioè impossibile il programma totale al 100% della storia delle relazioni internazionali o del diritto internazionale dell'Unione Europea quello che questo diciamo bisogna avere una conoscenza ma quello che è richiesto maggiormente perché quello che deve saper fare un diplomatico è saper fronteggiare l'imprevisto saper fare collegamenti cioè anche se una domanda magari non è non è completamente conosciuta saper far fronte perché è quello un po' che facciamo noi tutti i giorni noi dobbiamo spaziare da un settore a un altro e per cui questa è la cosa fondamentale e anche un'altra se posso dire un'altra caratteristica è quella l'attitudine alla soluzione dei problemi al problem solving cioè ogni mattina io non vengo con un manuale con le istruzioni per i problemi da risolvere ogni giorno si incontrano problemi diversi perché è chiaro che la realtà è in continua evoluzione non si possono prevedere quindi un po' la capacità di mettersi in gioco e di far fronte ai problemi perché la grande parte delle cose che ci capitano non rientrano in uno schema non rientrano in un protocollo standardizzato bisogna saper far fronte in questo senso la versatilità e l'adultità e il concorso è già una buona palestra per addestrarsi a questo fantastico c'è un'altra domanda da parte di un'altra di una studentessa penso che chiede se per il concorso è meglio studiare autonomamente o seguire dei master offerti da varie università in preparazione questa domanda diciamo posso dire entrambe entrambe io personalmente non ho seguito corsi e ho fatto tutto da autodidatta però devo dire tantissimi miei colleghi hanno seguito i corsi sono corsi validi corsi utili dipende un po' secondo me anche dalla persona nel senso che i corsi hanno una grande utilità che è quella di allenarti alla redazione degli iscritti ok e anche allenarti a farlo con una certa cadenza quindi se una persona magari ha una forza di volontà ferrea e riesce a fare questo studio autonomamente lo può fare però altrimenti i corsi sono un validissimo supporto fantastico stanno continuando ad arrivare domande svariato io faccio questo corso di laurea ho qualche opportunità in questo senso allora io direi che il professor il dottor Cossaro ha sicuramente risposto cioè vi ha detto che per accedere con un concorso dovete avere un concorso che prevede una base giuridica una base economica e una base possibilmente di scienze politiche questo secondo me dà già un'idea cioè un laureato in fisica come me ecco sarebbe perso prima di cominciare e questo è poco ma sicuro siamo versatili anche sì ma ecco non abbiamo sicuramente le competenze le conoscenze che avete voi quindi questo vi dà già l'idea del percorso universitario in funzione del percorso universitario che state facendo di che cosa dovete andare a colmare se non state facendo nessuna lingua e poi dovete scrivere due scritti in due lingue diverse senza vocabolario ecco io mi farei una domanda se non altro prima di darmi una risposta direi questa cosa un consiglio a questi ragazzi tanto guardo le altre domande che arrivano no il consiglio è che non c'è nulla non c'è nulla di irraggiungibile se avete un obiettivo un'ambizione e una passione avete assolutamente gli strumenti per poter raggiungere non è non è un concorso per pochi eletti è un concorso che richiede impegno ripeto richiede una forza una forza d'animo mentale forte ma è assolutamente un concorso alla portata faccio il mio esempio cioè io studia sono laureato in giurisprudenza e quindi anch'io ho dovuto studiare ex novo materie come storia per esempio la stessa cosa per chi magari ha fatto economia ha dovuto studiare ex novo quindi la di scienze politiche che probabilmente è l'unica facoltà un po' più completa però ecco si può accedere anche dagli altri ambiti di studio universitario senza problemi come in tutte le cose con l'impegno e avendo chiaro l'obiettivo si possono vedere e insisto ovviamente grande versatilità grande capacità di passare da un concetto a un altro essere flessibili l'ultima domanda che le faccio poi la libero non senza prima averle chiesto una cosa e un'altra domanda arrivata da un altro studente il contatto con le organizzazioni internazionali cioè il diplomatico di ambasciata che tipo di rapporto ha con le organizzazioni internazionali qui bisogna distinguere perché io ovviamente vi ho parlato della mia esperienza personalissima però questo ci tengo a dirlo non copre tutto il mondo della diplomazia c'è un'altra fetta che è quella del multilaterale cioè delle rappresentanze che operano presso le organizzazioni internazionali come può essere l'Unione Europea o le Nazioni Unite o l'Organizzazione Mondiale del Commercio o l'Organizzazione Mondiale della Sanità quindi questo è un altro aspetto importante dove ovviamente l'azione e l'operatività è diversa io mi occupo di rapporto bilaterale quindi io mi occupo come vi dicevo di rapporti con gli slovacchi di raccontare cosa fa di bello l'Italia agli slovacchi e di raccontare agli italiani cosa succede in Slovacchia chi lavora invece per esempio nell'ambito Nazioni Unite rivolge un compito diverso che è quello di promuovere gli interessi italiani nell'ambito di un'organizzazione in questo consenso e quindi avendo rapporti anche con le altre ambasciate ovviamente da allora per creare alleanze per sostenere una candidatura o comunque per promuovere le azioni integrate quindi è un tipo di lavoro diverso il bello di questo mestiere è che possono veramente può veramente fronteggiare tante occasioni diverse io stesso non saprò cosa farò tra 10 o 15 anni proprio perché diversi possono essere le destinazioni diversi possono essere gli ambiti di azione C'è un limite di età per partecipare al concorso? Guardi questo dovrei dovrei vedere perché ogni tanto viene allungato credo sicuramente fino a 40 anni ma forse anche questo confesso vi voglio impreparato però consiglio a tutti le persone interessate che di guardare sul sito del nostro ministero che hai fatto molto bene fantastico tante informazioni aggiornate non soltanto sull'articolazione del concorso ma anche sui testi consigliati quindi per chi vuole avere maggiori informazioni suggerirei di andare sul sito il sito del ministero degli affari esteri fantastico dottor Corsaro io continuerei a parlare con lei per le prossime due ore e mezza però come ho detto quasi mi sbranano per la roadmap però io le chiedo una cortesia cioè le domande stanno continuando ad arrivare ovviamente io non darò il suo indirizzo email perché lei non venga bombardato però la mia domanda è se in un futuro volessimo organizzare un momento specificatamente dedicato alla carriera diplomatica in cui chiacchierare con tutti questi studenti che hanno voglia e stanno pensando di andare in una certa direzione possiamo contare su di lei cioè fare una piccola giornata delle carriere internazionali un addendum alla giornata delle carriere internazionali io glielo chiedo adesso lei in diretta non può dirmi di no perché è registrato quindi adesso non può dirmi proprio no deve trovare il modo di mediare questa cosa io dico con un tasso di sincerità su cui garantisco assolutamente sì con molto piacere ovviamente questo mio punto di vista che è personale legato all'attività che ho smotto in questi anni però con molto piacere grandioso io la ringrazio veramente tantissimo tra le altre cose il mondo diplomatico è apparso sui giornali sui telegiornali ultimamente sappiamo in occasioni non felici diciamo così quindi il fatto che ci siano tanti studenti che continuano a fare domanda è una grande speranza per il futuro secondo me dottor Cosaro la ringrazio veramente tantissimo come dire se io tornassi indietro nel tempo farei un'altra strada ogni volta che faccio la giornata dei telegiornali io cambierei strada però è un dato di fatto la ringrazio veramente di cuore grazie 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 e si consideri contattato a breve quindi si prepari moralmente a questa cosa grazie a lei ringrazio lei e ringrazio anche il professor Zanteretti per questa bella opportunità che avete creato grazie mille grazie grazie veramente grazie e passo la parola adesso al dottor Andrea Raus che ci parlerà di un altro ambito del lavorare per il ministero degli affari esteri che sono gli istituti italiani di cultura nel mondo vediamo se il dottor Raus compare se sentiamo la sua voce buongiorno eccolo qua fantastico dottor Raus esatto io mi taccio fondamentalmente e le lascio libertà fino a quando poi non mi scateno con le domande e con le domande che arrivano dai nostri studenti Teresa Presti la ringrazio ringrazio anche il professor Zanteretti per l'ospitalità e un saluto a tutti gli studenti che ci che ci ascoltano dunque gli istituti italiani di cultura avevano opportunamente il mio intervento è stato molto opportunamente collegato collocato dopo quello sulla carriera diplomatica perché sono due persone due percorsi per certi versi paralleli che si integrano complementari gli istituti di cultura hanno una una storia un po' specifica all'interno del ministero degli esteri quindi prendo due minuti per raccontarla i primi erano sono stati fondati negli anni 30 del secolo scorso e la prima finalità storica degli istituti italiani di cultura era di l'Italia era stata soggetta a forti movimenti migratori nei decenni precedenti quindi c'erano tantissimi italiani all'estero o di origine italiana l'idea era di avere delle strutture che permettessero agli italiani all'estero di mantenere un contatto con la madre patria sia in quanto attività culturale sia in quanto insegnamento della lingua soprattutto per i figli dei per i figli degli emigrati se si va a vedere dove erano dove erano collocati gli istituti italiani di cultura alle origini questo lo se vede in modo molto chiaro seguivano geopoliticamente direi le grandi le grandi destinazioni dell'immigrazione italiana quindi Francia Belgio Germania America Latina alcune parti degli Stati Uniti e poi gradualmente oltre a questo si istituivano gli istituti italiani di cultura in un certo numero di grandi capitali mondiali con i quali si riteneva opportuno mantenere un rapporto anche a livello di diplomazia culturale come viene chiamata nel corso dei decenni le finalità del il tipo di lavoro che svolgono gli istituti è cambiato inevitabilmente diciamo che la necessità di mantenere di mantenere un forte rapporto dei figli degli immigrati con l'Italia è diminuito come necessità principale e gradualmente gli istituti hanno cominciato a venire utilizzati non tanto per rivolgersi agli italiani all'estero quanto per rivolgersi a un pubblico straniero anche ma non solo di origine italiana con la proposta di sulle attività specifiche parlo di più dopo comunque diciamo in generale attività manifestazioni culturali corsi di lingua per non per italiani quindi per stranieri che è una una cosa che risponde sempre un grandissimo un grandissimo interesse l'ultima riforma degli istituti di cultura è stata fatta nel 90 nel 1990 ed è una una riforma che ha diciamo sistematizzato il tipo di lavoro che svolgono gli istituti rendendoli degli strumenti quanto più possibile leggeri agili integrati al sistema paese a cui accennava il dottor Corsano su intervento precedente sulla specificità delle attività culturali gli istituti italiani di cultura sono oggi 82 non sono alcuni sono rimasti in Francia Germania Belgio America Latina e le destinazioni di quali accennavo prima altri non sono stati aperti altrove si cerca credo che la logica dell'amministrazione sia quella di seguire i mutamenti geopolitici geostrategici di interesse italiano per fornire anche con attività culturali un sostegno alle attività del sistema paese italiano nel concreto allora ogni istituto è un po' diverso dall'altro in realtà ci sono innanzitutto ce ne sono di diverse dimensioni dai più grandi ai più piccoli questo ovviamente influisce molto sul tipo di lavoro che si è in grado di fare degli istituti più grandi con più spazi a disposizione è possibile organizzare mostre di artisti italiani per esempio conferenze sulla cultura italiana in tutti i campi da quelli più umanistici ai campi scientifici musica proiezioni di film e via dicendo negli istituti più piccoli questi spazi a volte non ci sono quindi ci si arrangi in altro modo che può essere anche molto interessante quindi collaborando con istituzioni locali come musei o serie da concerto appunto si creano interazioni di questo tipo con l'obiettivo di far conoscere una cultura italiana di qualità c'è uno straordinario interesse per la cultura italiana all'estero che va in un certo senso non voglio dire convogliato ma questo grandissimo interesse per la cultura italiana va spesso insieme insieme a un certo numero di stereotipi che può essere utile e interessante smontare uno a uno perché poi in realtà il paese paese areale per usare un'espressione che è un po' alla moda è sempre sistematicamente più interessante più vivo più ricco di quello che noi stessi ci rendiamo conto spesso l'altro aspetto fondamentale l'altro aspetto centrale dell'attività degli istituti che vi accennavo prima è quello dell'insegnamento della lingua italiana e qui si ha un aspetto si vede un aspetto molto interessante dell'attività degli istituti ossia che gli istituti devono fare corsi di lingua per legge e li possono fare a condizione cioè li devono fare chiedo scusa a condizione che non siano in perdita cioè i corsi sono salvo casi molto particolari i corsi sono che dipendono dalla situazione del paese specifico ma ripeto sono casi sono casi rari i corsi sono a pagamento e l'istituto li gestisce o li fa gestire adesso non entro in questa non entro in questo aspetto che è un po' un po' troppo tecnico per questo tipo di presentazione però li fa a condizione di poter di non andare a gravare sull'erario italiano insomma cose che gravano sull'erario italiano ce ne sono già abbastanza ci manca solo che si mettono anche a finanziare i corsi degli istituti quindi gli istituti li fanno a condizione che siano economicamente autosufficienti non solo gli istituti ricevono dal ministero degli esteri dallo stato italiano una dotazione annuale per le loro attività culturali un ammontare che è variabile a seconda del paese dell'istituto delle dimensioni dell'istituto eccetera di questo i proventi dei corsi di lingua sono un'integrazione fondamentale quindi in molti istituti si crea questo circolo virtuoso di di attività culturali che vengono autofinanziate dall'istituto stesso devo dire fare fare sì fare attività culturali con i soldi che ti hanno dato con i soldi che si sono arrivati da Roma è una bellissima cosa lo si fa al meglio fare le stesse cose o altre cose con i soldi che ti sei guadagnato tu è una senza andare a gravare sul contribuente italiano una soddisfazione ancora maggiore quindi questo è uno degli aspetti più non voglio dire emozionanti ma insomma più stimolanti del lavoro e per il resto un lavoro estremamente vario in campi diversi come dicevo prima in parallelo con il lavoro diplomatico in senso stretto a cui si accennava nell'intervento precedente è raro che si faccia che si faccia la stessa cosa per due giorni di fila o è raro che si faccia la stessa cosa nell'arco di una giornata quindi anche un lavoro molto stimolante molto vario si impara molto cosa che per un lavoro di ufficio è piuttosto rara credo dottor Raus posso farle una domanda come ci si arriva ovviamente ci sono studenti in questo momento gli studenti stanno chiedendo che tipo di percorso anche in questo caso dobbiamo fare cosa succede dopo l'ottenimento della laurea che tipo di laurea che cos'è il concorso qual è il percorso per arrivare a entrare a far parte di un istituto di cultura italiano nel mondo concorso pubblico dunque la carriera dell'istituto di cultura è molto molto più semplice molto più schematica rispetto a quella di un diplomatico si entra come addetti culturali e la denominazione è questa o addetti alla promozione culturale e dopo un certo numero di anni se c'è un giudizio favorevole da parte dell'amministrazione si può aspirare a diventare direttore di istituto questo è ci sono due gradini si entra come dicevo con concorso pubblico diciamo che generalmente sono le facoltà umanistiche credo quelle che adesso non non ricordo se sono chiedo scusa su questo se sono previste delle delle lauree che non sono accettate però diciamo quello sbocco più naturale voglio dire uno laureato in fisica può diventare direttore di istituto non lo so ma il sito del ministero degli esteri è fatto molto bene da questo punto di vista però dicevo tendenzialmente sono più la formazione umanistica che prelude a un lavoro in istituto indispensabile perché ovviamente si tratta di cultura indispensabile ma non sufficiente perché poi c'è un aspetto di lavoro amministrativo che è molto che è molto importante che è rilevante e che si impara sul campo al momento ma anche in questo caso una volta superato il concorso si entra come ha detto culturale e direttamente al ministero che decide in quale istituto di cultura uno viene spedito il sistema è lo stesso dei diplomatici ossia si entra al ministero ci sono nove mesi di prova no 18 chiedo scusa è un po' più lungo 18 mesi di prova dopodiché si può fare domanda per l'estero sulla base delle sedi disponibili che sono stato c'è una lista che esce si devono chiedere un minimo di tre sedi nelle quali si è disponibili ad andare dopodiché tra quelle tre sedi e l'amministrazione che decide non si può essere mandati in una sede che non si è chiesta ma sulle tre sulle tre sedi che hai chiesto una di quelle poi la devi accettare cioè non puoi cambiare idea dopo che ti sei dichiarato disponibile non puoi cambiare idea per salvo casi estremamente particolari ma non è la sede per sempre grosso modo simile a quello del sistema è un sistema grosso modo simile a quello dei diplomatici come per i diplomatici sono otto anni al massimo e un massimo di otto anni in una sede quindi concretamente vuol dire fare due standard in due istituti e poi rientrare a Roma per un periodo e poi ripartire dopo ci racconta dove è stato lei sono stato a Chicago e a Tokyo la mia prima seconda è stata a Chicago e la seconda a Tokyo e dal punto di vista dell'esperienza che cosa possiamo dire a questi giovani com'è un'esperienza di questo tipo cioè com'è fare la valigia e partire voglio dire poi in posti completamente diversi perché immagino che dal punto di vista culturale stiamo parlando proprio di culture completamente diverse richiede un grado di adattabilità di flessibilità ovviamente molto alto prima ci si comincia ad abituare questa cosa istituzione fa bene comunque viaggiare imparare lingue quindi è comunque uno dei prerequisiti fondamentali quasi più della laurea di per sé che ovviamente è indispensabile e sì è inutile nasconderse che non è sempre facile cambiare paese cambiare cultura però è anche una sfida enorme si impara moltissimo si cresce ci si arricchisce culturalmente insomma è una cosa che non non scoraggerei mai nessuno dal farlo in ogni caso indipendentemente da quale lavoro si da quale lavoro si svolge per quanto riguarda la formazione le lingue straniere naturalmente almeno almeno due ma più sono più più sono meglio è anche ai fini concorsuari ma non solo quando si quando si passa il concorso ci sono si prove scritte senza dizionario di varie di diverse lingue di due lingue prove di cultura generale non non c'è un testo non c'è un corso che ti prepara a diventare direttore di istituto bisogna bisogna essere credo forse bisogna essere caduti nel calderone da piccoli come Obelix nel senso che è fondamentale avere un interesse interesse culturali a 360 gradi che sia che sia la musica che sia l'arte che sia la la scienza la letteratura ma lei l'ha scelto da giovane cioè è partito all'università pensando che avrebbe fatto questo percorso assolutamente no ho fatto per una buona metà della mia vita tutt'altro sono arrivato al concorso degli istituti relativamente tardi appunto 12 anni fa ero prima ero insegnante ero ricercatore in università e docente mi era mi era stata prospettata mi era stato detto che c'era questo concorso a Roma sembrava un lavoro interessante e ho deciso di tentare non me ne sono mai pentito ma non non c'è un corso che ti prepara a diventare direttore di istituto una forte una buona base umanistica una capacità gestionali che si sviluppano in problem solving che servono sempre e comunque posso chiedere di aggiungere posso provare ad aggiungere un altro aggettivo e lei mi dice perché sia lei che il dottor Cosaro avete citato la flessibilità la versatilità il problem solving e quantanto la parola creatività quanto è necessario essere creativi e quanto invece è necessario essere inquadrati cioè tra le due cose non non è una posizione servono servono tutte e due nel lavoro nel lavoro quotidiano quando devi gestire delle persone devi gestire un ufficio un ufficio statale devi farlo andare secondo secondo parametri ben precisi e giustamente rigidi quindi in grande capacità di organizzazione lavorativa è fondamentale al tempo stesso chiedo scusa la creatività che è che è contro le attività culturali sei tu che le devi concepire che le devi pensare che devi sognarteli inventarteli metterle in pensare a cosa può essere più adatto cosa può piacere di più al pubblico locale cosa può essere più stimolante per partire le persone a sentire è un po' quasi un lavoro da impresario in un certo senso adesso lo dico molto molto esagerando però in istituto in istituto italiano di cultura le persone non sono obbligate a venire nessuno è obbligato a venire a sentire l'autoconferenza nessuno è obbligato a pagare 300 euro per dire una cifra qualsiasi per imparare l'italiano se tu hai 300 euro a trimestre se tu che devi convincere se tu che devi rendere interessante devi far capire che cosa c'è di interessante di stimolante di emozionante nella cultura italiana di oggi c'è solo l'imbarazzo della scelta perché è una cultura straordinaria sia oggi sia come sia storicamente però bisogna saperlo saperlo fare saperlo canalizzare convogliare la parola emozionante non si finisce mai di imparare molto bello anche questa cosa l'avete sottolineata entrambi c'è qualcosa in cui si parla ogni giorno non si finisce mai di imparare quindi le domande che stanno arrivando che corso è fatto perché ha deciso così e cosa devo studiare allora sia il dottor Cossaro che il dottor Raus mi hanno detto andate sul sito del ministero degli esteri www.esteri.it slash mai se cercate il ministero degli esteri lo trovate sicuramente dottor Raus anche a lei faccio la stessa richiesta che ho fatto al dottor Cossaro le domande sono veramente tantissime ci piacerebbe organizzare un addendum dedicato specificatamente alla carriera diplomatica se posso contare sulla sua collaborazione anche in questo caso lo faccio in diretta qui su tutto questa cosa e mi piacerebbe veramente avere un momento in cui ci ragioniamo con questi studenti e anche andiamo in profondità magari guardandoli anche accendendo le telecamere e non lasciando non passando attraverso questa cosa della chat che comunque diventa come dire priva di di papos in qualche modo perché devo comunque interpretare io le loro domande posso contare su di lei anche per il futuro può naturalmente contare su di me se mi consente una frase una sola sì te consento assolutamente non di approfondimento ma su che cosa si è studiato per quello su come ci si prepara agli istituti dico solo agli studenti che ci stanno ascoltando per quello che aveva la mia esperienza personale sono laureato in letteratura giapponese e poi per diversi anni ho insegnato sia giapponese sia italiano quando ho dovuto ho voluto scegliere cosa studiare se mi avesse detto che un giorno avrei lavorato in un istituto di cultura o mi sarei messo a ridere o non avrei neanche capito la domanda perché non sapevo cosa fosse un istituto la cosa fondamentale che è già stata detta è fare quello che si vuole davvero fare seguire la propria passione non si è mai non si viene mai puniti dalla vita se si fa quello che quello che davvero si vuole e dopodiché le porte si aprono le prospettive si creano la realtà si si è più in grado di interagire con la realtà che ci si presenta e quindi trovare qualcosa che si una dimensione in cui si sta bene insomma questo è un bellissimo messaggio positivo devo dire che è il messaggio che tutti hanno fatto dall'inizio a partire dai dottorandi attraverso il dottor Cosaro attraverso lei c'è quest'idea di seguire i propri sogni e e mi piace molto questa definizione che la vita non ti punisce se segui la tua passione e che poi le prospettive si creano è veramente mi fa battere il cuore questa cosa perché una prospettiva bellissima soprattutto in un momento come questo che sicuramente non è un momento facile da affrontare per nessuno ecco appunto flessibilità e versatilità cioè quando passiamo dalla didattica a distanza alla didattica in presenza questo e quest'altro versatilità e flessibilità impariamolo da subito che sono gli elementi chiave per il lavoro del futuro dottor Raus grazie di cuore veramente è stato un piacere è stato veramente un piacere grazie ancora grazie 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 mille dopo questi due questi due momenti queste due testimonianze così importanti adesso passiamo a due testimonianze di qualcuno che è molto vicino all'età dei nostri studenti cioè un laureato il dottor Riccardo Lagonegro e a Elisa Conti a cui concediamo dieci minuti a testa mi dispiace di essere un po' stretta ma non voglio sforare troppo che entrambi hanno fatto un tirocinio un tirocinio in un caso quello del dottor Lagonegro presso l'Istituto Italiano di Cultura di Pechino e invece Elisa Conti presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale dottor Lagonegro Riccardo lo vedo già aperto il microfono quindi le lascio la parola e mi tacito grazie professoressa Prest sì io come appena citato ho svolto un periodo di tirocinio di tre mesi presso l'Istituto Italiano di Cultura di Pechino sono un laureato in traduzione giuridica ed economica inglese e cinese presso l'Insubria e questa opportunità di tirocinio è capitata non dico per caso l'ho sempre cercata insomma se siete qui è perché avete una propensione una voglia di andare all'estero di sperimentare e io l'ho sempre cercato durante il mio percorso universitario tant'è che prima ho svolto sei mesi di Erasmus in Francia e una volta tornato mi sono detto ma perché fermarmi perché fossilizzarmi in aula e non andare altrove allora digitando un po' su internet e anche tramite il portale dell'università ho scoperto questa possibilità passiamo a tecnicismo per accedere bisogna essere in laurea magistrale non è possibile effettuare questo tirocinio in laurea triennale e non è un tirocinio che viene regalato passatemi il termine bisogna rispettare dei requisiti di media di voti e essere in corso di laurea quindi una media richiesta sopra il 27 e essere in corso una volta una volta rispettati questi requisiti c'è un portale d'accesso che è condiviso tra MIUR MAICI e Fondazione Crui dove potete fare la vostra application vi verranno richiesti tutti i voti che avete preso nella laurea triennale tutti gli esami sostenuti in magistrale e vi verrà chiesta una lettera motivazionale che è molto importante come requisito per essere accettati spendeteci tempo fatela bene perché veramente ne vale la pena una volta fatti queste operazioni si passa al processo di selezione e una volta selezionati verrete contattati e sarà inizierà il vostro bellissimo tirocinio nel mio caso è stato appunto a Pechino e come diceva prima il dottor Raos nell'istituto non si fa mai la stessa cosa ogni giorno è diverso ogni giorno c'è un problema diverso da risolvere un'attività diversa da organizzare un tipo di pubblico che non è quello della serata precedente o del pomeriggio precedente quindi dirvi esattamente si va all'istituto e si fa questo non è molto reale non è verosimile perché ogni giorno c'è una sfida nuova c'è qualcosa diverso da imparare imparare e qualcosa diverso da fare è un'esperienza che mi sento assolutamente di proporvi di dire ragazzi fatelo iscrivetevi impegnatevi soprattutto perché come vi ho detto non è un'esperienza che viene regalata a tutti gli studenti ci vuole impegno per arrivarci e una volta che ci arrivi non ve ne pentirete di aver messo magari quelle tre ore in più nella biblioteca passata per prendere un bel voto no non te ne pentirai perché prendi la valigia c'è un po' di paura c'è sempre perché comunque spostarsi dall'altra parte del mondo non è non è esattamente facile per ragazzi anche giovani per dire nei vent'anni insomma dire oggi vai prendi la valigia arrivi all'aeroporto e ciao a tutti e sei da solo per tre mesi quattro mesi dall'altra parte del mondo ci vuole ci vuole coraggio poi flessibilità ovviamente che è la parola del giorno perché essere inquadrati è difficile essere inquadrati in questo tipo di esperienze ma è qualcosa di molto soddisfacente ti dà davvero un sacco di soddisfazione a livello personale e anche a livello professionale si cresce si impara perché non tutti i giorni si è a contatto con delle persone veramente formate professionali e specializzate come il direttore dell'istituto che al tempo era il dottor Franco Medei il mio tutor addetto culturale che era il dottor Matera sono persone che hanno studiato hanno ricevuto una formazione veramente impegnativa e a poter apprendere da loro è una cosa che ti forma ti rende ti dà tanto ti dà veramente tanto e poi avete anche tutto l'ambito dell'essere in un paese diverso io a Pechino ho studiato cinese la mia propensione era mi piace la cultura orientale quella cinese quella giapponese e lì volevo andare sostanzialmente e quando fate un application per questo tipo di tirocinio pensate anche a quello che state studiando voi è più facile essere accettati in un istituto cinese quando sei uno studente di cinese magari avete la passione tutto però se state studiando non so la lingua che può essere il tedesco francese o spagnolo pensate anche a quello in cui siete voi in questo momento in modo tale da ampliare ancora di più le vostre possibilità di accedere perché non è non è facile arrivarci non è per tutti accederci ci sono pochi posti all'anno e il mio consiglio è quello veramente se lo volete impegnatevi fin da subito date il massimo in tutti gli esami in tutto il percorso universitario perché se vi impegnate e avete voglia le opportunità ci sono sicuramente non ve le regalano non ve le regala niente nessuno però se vi impegnate avete voglia siete solo voi a decidere quello che potete fare e questo posso chiederti cosa stai facendo adesso sì adesso lavoro mi sono spostato sono sempre in Italia ma lavoro con l'altra parte del mondo lavoro col Canada ok sono un agente vendo vendo in Canada passo il mio tempo le mie giornate a parlare con i clienti canadesi a discutere dei loro ordini insomma è molto bello mi piace quello che sto facendo sono sempre in contatto comunque particolarmente col Quebec ho studiato anche francese anche se non era il mio percorso di studi e passo le mie giornate con degli allegri canadesi a discutere di quanto vogliono comprare o no hai passato cioè sei stato anche in questo caso da posti diversi del mondo la cosa che Riccardo ha detto che a me piace moltissimo è cogliere l'occasione cioè a Riccardo brillavano gli occhi quando parlava della sua esperienza all'istituto di cultura italiana a Pechino e questo cioè quando l'ufficio orientamento e placement vi scrive una mail dicendo si sono aperti si è aperto il bando per i tirocini maecci la mail non va nel cestino cioè leggetela questa mail cerchiamo di non solcherare normalmente però questo è anche l'unico modo per contattarvi per sollecitare la vostra curiosità sollecitare anzi la vostra curiosità e sollecitare la vostra risposta quindi quando succede questa cosa leggete ascoltate chiedete le cose che non si capiscono il 16 c'è la presentazione dell'Erasmus posso fare l'Erasmus Traineship da una parte o dall'altra partecipate alla presentazione degli esperti vi daranno la risposta al riguardo c'è il tirocino chiamate l'ufficio placement per chiedere che cosa significa un tirocino di questo tipo cioè è veramente un'esperienza e cogliere l'opportunità non fermarsi cogliere l'opportunità perché le porte come ha detto il dottor Raus si aprono ma bisogna essere versatili flessibili attenti e appassionati e penso che la testimonianza di Riccardo da questo punto di vista sia stata fantastica se non altro Riccardo cioè guarda hai detto delle cose interessantissime ma soprattutto quegli occhi che brillavano raccontando di che cosa hai imparato per me sono il top e dei top un'esperienza diversa grazie Riccardo è stata quella fatta da Elisa Elisa ci sei sì buongiorno grazie mille a partecipare a questa giornata mi scuso già per l'emozione perché sono un po' timida quindi mi scuso anticipatamente inizio col presentarmi sono Elisa Conti e sono una studentessa laureanda in scienze del turismo e oggi vi racconterò della mia esperienza all'amministra degli affari esteri e delle cooperazioni internazionali quindi cercherò di portarvi con me nelle attività svolte nelle emozioni provate e nell'intera esperienza che sono stati questi tre mesi di permanenza a Roma vorrei inoltre portarvi oltre a quello che è il semplice resoconto di un viaggio ma alla consapevolezza che dietro agli studi del mondo del turismo c'è ben altro quindi non solamente le solite figure professionali che tutti conosciamo quindi agente di viaggio receptionist o guida turistica ma al contrario questo corso apre spazio a quello che è un settore pieno di fascino che ancora oggi purtroppo è sconosciuto sul panorama comune soprattutto per quanto riguarda le grandi opportunità lavorative che potrebbe dare un esempio è infatti il mio tirocinio presso il commissione carattere generale per la partecipazione italiana ad Expo dove mi sono trovata appunto a programmare quello che è il padiglione italiano ad Expo Dubai e questo è un chiaro esempio di come il corso del turismo ma l'intero settore turistico ha delle possibilità quelle che sono carriere e sbocchi lavorativi diversi anche di un certo prestigio e di respiro internazionale diciamo che il mio tirocinio è nato un po' come gioco nel senso che ho appunto ricevuto questa mail e un po' per gioco mi sono iscritta senza pensare di vincere il bando o meno però comunque sperandosi infatti avevo già iniziato a farmi un po' di illusioni mentali un po' di sogni e alla fine quando mi è arrivata la telefonata è stata un'emozione unica non nego l'emozione sì ma anche tantissima paura domande sull'essere all'altezza di questo compito però in fin dei conti questa avventura è stata per me una grandissima occasione di crescita non solo professionale ma anche umana e personale perché c'è solo entrare a far parte di quella che è l'istituzione pubblica della Farnesina interloquile con cariche pubbliche come per esempio ministri commissari cioè cose che vedi solitamente solamente in televisione è stata sì una crescita professionale di tutte quelle che sono le mie competenze lavorative ma più che altro mi ha portato alla consapevolezza che con la passione l'impegno ma soprattutto la voglia e anche un pochino di fiducia in se stessi si arriva a raggiungere dei traguardi straordinari quindi c'è il consiglio che do a tutti è quello di credere sempre in voi stessi nelle vostre abilità e in quello che volete fare perché lottando per i vostri sogni raggiungerete sicuramente dei traguardi fantastici io in questa esperienza infatti ho avuto modo di toccare con mano quello che vogliamo fare quindi organizzare gli eventi ma non tanto quelli che sono momenti ludici ma quelli che sono degli itinerari da vivere a 360 gradi quindi non è solamente la promozione di una destinazione turistica ma quella che è la promozione di un'esperienza di tutte le emozioni connesse ad esse quindi penso che Expo Dubai in questo senso sia stata per me una grandissima occasione di crescita e un po' una sfida con me stessa e per l'Italia sarà un'occasione di ripartenza di rilancio perché comunque rappresenta quello che è un porto per rappresentare quella che è la nostra bellezza perché la nostra penisola è bellissima e purtroppo c'è ancora oggi non siamo orgogliosi di noi stessi invece dobbiamo essere orgogliosi dei nostri talenti della nostra creatività e dell'innovazione che portiamo quindi penso che a Dubai verrà anche mostrata quella che è un'Italia insolita e orientata al futuro quindi un'Italia che è sempre più aperta a quelle che sono le sfide di oggi e penso che tutti noi con i nostri studi e le competenze che abbiamo siamo indispensabili per questo quindi per dimostrare e per rappresentare quella che è l'Italia e la grandezza della nostra nazione soprattutto sull'ambito internazionale Elisa posso farti una domanda allora quando sei partita nella valigia hai messo la paura di non essere all'altezza l'emozione chissà cosa trovo adesso sarà un disastro speriamo di no quando sei tornata nella valigia cosa c'era? nella valigia devo dire che c'era tanta soddisfazione personale perché per me cioè io non credo molto in me stessa ma a prescindere da ciò quindi mi ha alzato molto molto la autostima e mi ha aiutato tantissimo anche in quelli che sono i rapporti intrapersonali con le persone perché comunque sono andata a parlare con persone di un certo livello quindi anche ministri e avevo paura ecco però in realtà ho capito che siamo un po' tutti uguali quindi di non aver paura e di mettere passione in tutto in tutto Elisa mi chiedono quando hai fatto l'esperienza? allora l'ho fatta da ottobre fino a gennaio di quest'anno è stato abbastanza difficile perché poi con tutte le limitazioni covid è stato complicato però immagino immagino tra le altre cose vorrei dire che adesso c'è il mio capo qua che mi sta mandando le mail sui tirocini maecci e e anche sul programma per gli interessati al programma aspettiamo aspettate che vedo il titolo quello sui volontari per Expo Dubai quello che possiamo fare possiamo mettere sulla sulla pagina dell'evento sulla chat lo sto dicendo al mio boss possiamo mettere direttamente le indicazioni perché se ci sono dei bandi ancora aperti li trovate direttamente nella pagina dell'evento di oggi questo è il bando crui per quanto riguarda sempre Expo Dubai ad Expo proprio a Dubai quindi personale proprio che sia il loco quindi è chiaro che si vive la giornata non si partecipa a un bando si pensa di partire con la valigia pronta e il giorno dopo ti mettono in qualche colore diverso da quello chiaro e quindi la valigia rimane in casa però chi vuol fare la carriera diplomatica secondo me quella valigia deve avercela sempre pronta perché altrimenti il problema è che quando ti si presenta l'opportunità e tu non hai la valigia pronta beh quello sei tu che perdi un'opportunità ragazzi fantastici siete stati perfetti nei tempi avete raccontato un'esperienza meravigliosa io spero che tanti dei ragazzi che vi stanno seguendo e anche tanti dei ragazzi che stanno facendo ancora il liceo o comunque una scuola secondaria di secondo grado gli si apra un mondo con queste vostre parole ovviamente anche loro avete i nomi quindi eventualmente scrivete sulla chat se volete contattarli se volete qualche qualche cosa in più e poi noi faremo in modo di mettervi in contatto grazie sia Riccardo sia Elisa secondo me è stata una bellissima sessione veramente grazie 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 l'ho detto all'infinito stamattina ma ci ritroveremo se facciamo un addendum dedicato alla carriera diplomatica preparatevi che vi facciamo parlare per un sacco di tempo grazie ancora grazie grazie ciao allora terza sessione cioè Maria sarà orgogliosa di me perché sono andato con il ritmo giusto ok lavorare nell'Unione Europea lavorare nell'Unione Europea anche qui abbiamo tre persone che ci racconteranno due persone che lavorano la dottoressa Affer la dottoressa Bozic che lavorano nella rappresentanza a Milano della Commissione Europea e poi Francesco Rossi che è il career student ambassador è un career student ambassador EPSOR che ci racconterà tutta una serie di modi in cui si può accedere a questi percorsi quindi io lascerei la parola direttamente alla dottoressa Affer e alla sua collega dottoressa Bozic mi taccio e loro ci racconteranno proprio il modo in cui possiamo entrare in cui possiamo arrivare a questi spocchi professionali che strada dobbiamo fare che opportunità ci sono prego grazie a tutti grazie professoressa Preste grazie al professor Zamperetti tutti voi i ragazzi studenti e i relatori a nome della rappresentanza appunto a Milano della Commissione Europea dove io e la collega appunto la mia collega Moica lavoriamo oggi io farò una breve presentazione una su appunto le modalità di assunzione presso l'Unione Europea poi appunto Francesco entrerà più nel dettaglio tecnico soprattutto delle prove e dei test adesso condivido lo schermo ditemi se lo vedete perfettamente benissimo allora iniziamo con i tirocini vi dicevo la o scusatemi il tirocino presso la Commissione Europea è il tirocino cosiddetto Blue Book è un tirocino retribuito che si effettua presso le direzioni generali che sono un po' i dipartimenti della Commissione Europea presso le rappresentanze come la nostra o le delegazioni o le agenzie esecutive dura cinque mesi è retribuito appunto intorno ai 1200 euro al mese e i requisiti riguardano il fatto che i giovani devono essere laureati e non abbiano fatto già un tirocino presso una delle istituzioni europee di una durata superiore a sei settimane o che ovviamente non siano già stati i dipendenti di un'istituzione è richiesta la conoscenza di una di due lingue europee ovviamente una delle quali può essere anche la madrelingua qualora la candidatura non andasse a buon fine è possibile appunto ripetere la domanda al turno successivo quali sono i turni allora ci sono due sessioni annuali che vanno da marzo a luglio in questo caso le candidature si aprono verso luglio agosto la seconda è tra ottobre febbraio e le candidature si aprono a gennaio una volta che i selezionati che i candidati vengono appunto selezionati ci hanno passato tutti i test saranno inseriti in questo cosiddetto blue book dove la commissione attinge le candidature al bisogno ed inserisce i tirocinanti nelle direzioni generali o nelle rappresentanze per esempio per quanto riguarda noi l'anno il 16 marzo ospiteremo uno stagiaire blue book che inizia appunto il suo stage presso la rappresentanza ovviamente in questo periodo voi sapete che gli stage non sono in presenza ma ovviamente come diceva anche la professoressa Presta si vive alla giornata e si spera tutti di poter renderli misti di quanto meno se non definitivamente in presenza vi dicevo poi appunto del blue book si soffermerà di più di più Francesco in ogni caso presso invece la rappresentanza a Milano esiste anche un'altra tipologia di stage che sono i cosiddetti stage atipici vale a dire sono stage curriculari full time previsti per i laureandi non sono retribuiti e durano tre mesi questo avviene in virtù del fatto che la rappresentanza stipula delle convenzioni con le varie università italiane affinché appunto sia possibile uno stage curriculare in corso di laurea per quanto riguarda la rappresentanza i tirocini si effettuano nei tre settori principali della nostra rappresentanza che riguardano la stampa che si accompagna all'attività di comunicazione anche media e social e il servizio documentazione voi sapete che in ogni stato c'è una rappresentanza a volte due come in Italia proprio per per rendere più facile la comunicazione sul territorio di ciò che fa la Commissione Europea e creare un ponte quindi con ciò che viene deciso a Bruxelles per questo le rappresentanze dipendono dalla direzione generale comunicazione che costituisce infatti l'attività prevalente io approfitto visto che stiamo parlando della rappresentanza a ricordarvi che siamo ovviamente sempre disponibili a ricevere domande e quesiti a prescindere dalle possibilità di carriera ma anche che possono variare possono riguardare il corso di studi se state facendo delle ricerche piuttosto che informazioni di carattere generale quindi all'indirizzo che trovate qua mail com rep mil voi oltre ad inviare appunto le candidature qualora foste interessati a partecipare a candidarvi ad uno stage potete anche rivolgerci domande appunto a 360 gradi il come candidarsi appunto per la rappresentanza viene inviando un CV accompagnato da una lettera motivazionale e a questo punto condivido molto il commento che ha fatto Riccardo prima sul fatto che quando scrivete una lettera motivazionale davvero mettete la vostra attenzione in questa cosa perché questo viene molto percepito da chi riceve il vostro CV e è importante capire che un ragazzo ci ha riflettuto ha dato le sue motivazioni per una scelta di questo genere perché spesso può capitare che arrivino candidature ma poi alla fine probabilmente sono queste candidature che vengono mandate alla Commissione europea come a tante altre istituzioni e allora lì si perde un po' l'attenzione e può essere diciamo meno di valore quindi è molto importante sono d'accordo appunto con Riccardo di motivare il vostro interesse non deve essere eccessivamente lunga ma attenta proseguendo per quanto riguarda invece le opportunità di lavoro presso le istituzioni in particolare presso la Commissione scusate ma ho il cursore che va molto veloce lavorare presso le istituzioni il modo di accesso è il concorso l'Unione Europea ha 40.000 dipendenti con profili variegati culturali e formativi quindi si può essere assunti o su base permanente o con contratti a tempo determinato e in entrambi i casi l'organismo che si occupa della gestione appunto della candidatura della procedura del concorso e della selezione è l'EPSO in fondo ad una slide ci sarà il sito voi lo troverete sul sito dell'EPSO troverete tutti i concorsi appunto che vengono banditi e troverete appunto l'ufficio tecnico che vi supporta nel momento in cui voi avrete anche domande tecniche che riguardano la compilazione del form o dubbi su i vostri titoli di studio e quant'altro quali sono i requisiti bisogna essere cittadino di un paese dell'Unione Europea conoscere almeno due lingue dell'Unione e poi appunto avere i requisiti che riguardano appunto il livello di istruzione richiesto a seconda del posto che viene offerto vi dicevo appunto che sul sito ma probabilmente Francesco ve lo mostrerà ci sono una serie di domande di fac proprio che riguardano l'esperienza professionale e i vari tipi di qualifiche che sono ammesse quali sono le categorie del personale che lavora per la Commissione Europea in particolare ma in generale per le istituzioni dell'Unione allora ci sono i funzionari permanenti che sono appunto i contratti a tempo indeterminato e diciamo ti consentono di proprio partecipare alla funzione pubblica dell'Unione Europea in questo caso appunto è necessario superare un concorso generale che è abbastanza impegnativo poi ci sono gli agenti contrattuali che sono contratti a tempo determinato e svolgono funzioni a latere rispetto alla parte che riguarda prettamente la funzione pubblica sono di supporto amministrativo forniscono anche delle capacità aggiuntive ma non per questo non importanti in settori in particolare in cui magari non ci sono sufficienti funzionari gli agenti temporanei invece appunto è possibile essere assunti verso le istituzioni su base temporanea e in questo caso sono riguardano settori altamente specializzati come nel campo per esempio della ricerca c'è il personale interinale che prevalentemente è preposto a mansioni di segreteria e di solito la durata è più breve è di circa sei mesi raramente superiore ai sei mesi i tirocinanti appunto abbiamo visto la possibilità di fare un tirocinio blue book o un stage atipico e infine ci sono gli esperti nazionali distaccati vale a dire dei dipendenti di un'amministrazione pubblica che decidono di temporaneamente distaccarsi presso un'istituzione dell'Unione Europea i concorsi sono divisi in due fasi c'è una fase di ammissione che riguarda i test attitudinali che sono quelli che voi conoscete che probabilmente avrete fatto per magari in altre occasioni per entrare all'università o in altri contesti sono questi test verbali di logica di ragionamento per cui come già dicevano i precedenti relatori non occorre prepararsi su materie specifiche e questo primo test avviene negli stati membri quindi non è necessario trasferirsi a Bruxelles per fare questo test di ammissione una volta invece sorpassato allora si entra nella fase di un lavoro di un gruppo di un test scritto e poi infine di un colloquio orale a Bruxelles dove effettivamente qua lo studio di materie specifiche è richiesto e va approfondito se si passa al concorso si entra in una lista di riserva con una graduatoria e anche qui stessa modalità come per i tirocini la commissione e le varie direzioni generali attingono i funzionari da inserire vi dicevo EPSO è l'ufficio che ha il compito di selezionare il personale per tutte le istituzioni dell'Unione Europea e su questo sito europa.eu slash EPSO troverete tutte le informazioni che riguardano tutti i tipi di concorso vi invito a consultare periodicamente nel senso che monitorandolo potete essere informati dell'uscita di bandi di volta in volta infine ho pensato che potesse essere utile parlarvi di un'altra opportunità che forse consiste di più in un non so in un piccolo passo in un'entrata in un'esperienza di lavoro comunque internazionale forse un pochino più soft passatemi il termine un pochino più facile vale a dire le opportunità che sono offerte dal corpo europeo di solidarietà il corpo europeo di solidarietà è un'iniziativa dell'unione europea relativamente giovane che offre appunto ai giovani la possibilità di partecipare a dei progetti che sostanzialmente vanno a beneficio della comunità sia all'estero sia nel proprio paese quindi in che cosa consistono allora diciamo che la prima attività che poi è quella prevalente è quella del volontariato il volontariato è tendenzialmente trasfrontaliero cioè che significa che si fa in un paese diverso da quello in cui si vive e coinvolge attività che riguardano prevalentemente settori di priorità sia per la commissione che per in generale gli stati stessi vale a dire l'ambiente la salute l'inclusione sociale la cultura gli sport e la tecnologia digitale che cosa offre? offre prima di tutto l'opportunità di aiutare dopodiché di acquisire anche nuove competenze e di trascorrere un periodo all'estero che di conseguenza aiuta anche poi l'apprendimento di una lingua straniera l'attività di volontariato può essere o individuale o di gruppo cioè individuale dura dai 2 ai 12 mesi e a tempo pieno apporta dei benefici diretti alla comunità locale e di solito come vi dicevo appunto è trasfrontaliero quello di gruppo invece è un'altra opzione vale a dire se un ragazzo se qualcuno di voi non si vuole impegnare per un lungo periodo può considerare l'opportunità di fare un'attività di volontariato in gruppo cioè bisogna infatti questa attività dura meno va da 2 settimane a 2 mesi è a tempo pieno anche questa e il gruppo sarà composto da 10 a 40 volontari almeno 2 saranno sicuramente di un paese diverso dal vostro e di solito all'estero però a volte può svolgersi anche nel proprio paese ora se decidete di fare un'attività di volontariato all'estero ovviamente saranno coinvolte due organizzazioni un'organizzazione di sostegno che sarà l'organizzazione che è nel tuo paese e ti aiuta a prepararti alla partenza da un punto di vista pratico e tecnico e poi c'è un'organizzazione ospitante che invece sarà quella che ti accoglierà che ti aiuterà e ti accompagnerà appunto al lavoro nel paese di destinazione ora queste organizzazioni dove si trovano dove si scelgono si scelgono sul portale del corpo europeo di solidarietà in particolare nella voce banche dati delle organizzazioni che sono quelle accreditate appunto con il marchio di qualità le attività di volontariato si fanno nei paesi partecipanti e nei paesi partner quindi i paesi partecipanti sono i paesi UE più i paesi extra UE e i paesi partner sono quelli appunto vicini all'UE sostanzialmente comunque vengono praticamente coinvolti quasi tutti i paesi la seconda invece possibilità che offre il corpo europeo anche qui è una possibilità di effettuare un tirocinio quindi che significa quello di poter seguire appunto una formazione un percorso formativo sempre in virtù di aiutare una comunità in stato di bisogno questi tirocini durano da due a sei mesi sono rinnovabili una sola volta ma non per più di altri sei mesi sono a tempo pieno e vengono retribuiti dall'organizzazione che li organizza la partecipazione invece ad attività lavorative riguarda attività lavorative della durata di tre mesi la durata massima non è non è fissata nel senso che possono durare a seconda del tipo di attività lavorativa che si sceglie però la copertura finanziaria copre soltanto i primi 12 mesi e anche questo un'attività a tempo pieno vengono appunto poiché le persone vengono retribuite dall'organizzazione che appunto stipola dei contratti di lavoro che ovviamente rispettano le caratteristiche dei contratti di lavoro secondo il diritto nazionale si svolgono all'estero oppure nel proprio paese e bisogna anche qua registrarsi sul corpo europeo di solidarietà troverete entrando proprio nel sito sei un giovane registrati e accedi oppure la parte sei un'organizzazione quindi è molto semplice e a quel punto ti puoi monitorare le offerte di lavoro infine l'ultima attività scusate l'ultima attività è la partecipazione invece a progetti locali di solidarietà cioè se sei una persona particolarmente appunto desiderosa di fare esperienze di migliorare poi un problema perché la caratteristica del corpo europeo di solidarietà è proprio un aiuto a una comunità locale che ha bisogno quindi sia se vuoi migliorare un problema vuoi affrontare un problema e migliorarlo inerente ad una zona in cui vivi oppure a tematiche che ti interessano puoi appunto puoi appunto effettuare un progetto di solidarietà che deve avere ovviamente un valore europeo cioè deve corrispondere ad una delle priorità dell'Unione Europea come abbiamo detto l'inclusione i cambiamenti climatici l'impegno democratico la cittadinanza le parità di genere e questi progetti possono durare da 2 a 12 mesi di solito è un'attività part time che ben si può svolgere nel tempo libero quindi si può anche conciliare con impegni che voi state già portando avanti magari a livello universitario riguardi i paesi partecipanti questo come le altre attività e il gruppo appunto di lavoro deve essere composto di almeno 5 persone 5 ragazzi sempre tra i 18 e i 30 anni che risiedono legalmente tutti nello stesso paese non c'è un numero massimo di partecipanti c'è solo un numero minimo di ragazzi per cui se voi trovate 4 amici 5 amici con cui avere un'idea e provare a sviluppare un progetto locale di solidarietà potete farlo si possono ricevere 500 euro al mese perché riguarda una copertura dei costi di gestione per l'attuazione del progetto e a differenza appunto delle attività di volontariato e di tirocinio e di attività lavorative in questo caso per i progetti locali di solidarietà è il candidato stesso siete voi ragazzi che dovete partecipare ad un bando chiedere quindi di poter partecipare ad un bando per ottenere un finanziamento diretto come si fa? si monitora il sito sempre del corpo europeo di solidarietà nella particolare sezione di inviti aperti ovviamente la vostra idea di progetto verrà poi valutata da un'agenzia nazionale che per l'Italia è l'agenzia nazionale giovani e che vi aiuterà poi anche ad avere tutte le informazioni e tutto il supporto tecnico di cui avete bisogno per portare avanti il progetto quindi riassumendo io vi invito davvero a visitare il sito del corpo europeo di solidarietà proprio anche come primo passo davvero per fare un'esperienza di confronto non estremamente impegnativa proprio perché vedo che anche molti ragazzi all'inizio dicono sì non è facile prendere e partire questo può essere una buona opportunità per mettersi in gioco una buona opportunità per capire qual è il vostro interesse per conoscere culture diverse per imparare una lingua diversa e perché appunto siamo mi sembra tutti d'accordo in questa sede nel dire che la crescita soprattutto la vostra nasce dal confronto che mi sembra la cosa la cosa da non dimenticare per accedere appunto al corpo europeo di solidarietà vi dicevo è necessario registrarsi sul portale chi gestisce il corpo europeo è la commissione europea ovviamente che però sul territorio è aiutata da varie agenzie dall'agenzia ECEA che appunto l'agenzia esecutiva per l'istruzione gli audiovisivi e la cultura dalle agenzie nazionali dei paesi partecipanti che vi ripeto per l'Italia e l'agenzia nazionale giovani e i centri salto e infine un centro di risorse proprio del corpo europeo di solidarietà quindi avete sul territorio una buona base di punti di riferimento a cui rivolgere anche delle domande tecniche e specifiche in ogni caso noi siamo a disposizione come dicevo prima quando se nel corso delle vostre navigazioni del vostro futuro percorso di carriera avete bisogno potete inoltrarci una mail e noi assolutamente vi rispondiamo posso fare un inciso su questa cosa perché in realtà la giornata delle carriere internazionali è inserita in una rassegna di iniziative che si intitola New Career Opportunity e la prossima settimana al giorno 18 marzo noi avremo un'altra giornata sulla falsariga di questa che è dedicata tutta come focus il terzo settore quindi la giornata del terzo settore all'interno di questa giornata che quindi esplorerà anche il volontariato da tanti punti di vista abbiamo una sessione proprio dedicata al servizio civile e all'interno di questa sessione la dottoressa Faggetti del CSV in Subria visto che ha citato anche gli elementi sul territorio di supporto parlerà proprio del Corpo Europeo di Solidarietà progetti di mobilità internazionale per i giovani quindi è proprio un gancio perfetto con questa rassegna effettivamente è proprio magari uno strumento meno noto di quelli forse più conosciuti ma come tanti altri programmi appunto della commissione vale la pena di approfondire quindi ottima idea complimenti per averlo organizzato io a questo punto lascio la parola alla mia collega Mojza Bozic che vi parlerà un po' della sua esperienza personale giusto per alternare una presentazione magari un pochino più tecnica e poi che verrà completata da Francesco che invece vi darà degli elementi veramente e dei suggerimenti e dei consigli per affrontare i test di ammissione ringraziandola io le faccio anche un'altra domanda veloce che è apparsa qui sulla chat in particolare mi chiedono se per poter partecipare a uno stage a Milano quindi nella serie della rappresentanza curriculum lettere in italiano inglese cioè immagino che l'inglese vada sempre bene l'inglese va sempre bene assolutamente ma solitamente i candidati le inviano entrambe in italiano e in inglese quindi se magari voi vi vogliete togliere qualche licenza più poetico letteraria nella vostra lingua lo potete fare e le inviate entrambe grazie mille grazie a voi lascio la parola a Moizza grazie grazie buongiorno a tutti e grazie di avermi invitata allora io vorrei per cominciare dire che sono stata molto toccata che mi hanno ammazzionata tantissimo i racconti dei ragazzi Riccardo e Elisa mi sembra e veramente cioè mi dico non ho proprio niente da aggiungere perché è quello che volevo trasmettere io io ho già 15 anni di carriera alle spalle ma è quella diciamo quello è il messaggio principale che volevo trasmettere oggi e quindi costruite una carriera internazionale sin da adesso e avete tante possibilità che per esempio nella mia generazione non non c'erano quando io ero all'università non c'era ancora Erasmus adesso con tutte queste possibilità avete un mondo che viene a casa a vostra casa quindi è molto molto più facile e un'esperienza come servizio volontario scusate corpo europeo di solidarietà è molto molto buona perché offre giustamente l'inserimento nel mondo lavorativo e io ho conosciuto durante la mia carriera tanti ragazzi che hanno fatto questo che hanno partecipato a questa iniziativa della commissione e sono rimasti tutti super contenti ci sono anche per esempio per chi è un po' meno interessato per esempio chi non si interessa tanto al sociale e ci sono iniziative anche tipo animali per esempio un'iniziativa di osservare gli uccelli questo per esempio l'ho incontrato e poi un altro ragazzo che ha fatto un stage come filmmaker quindi c'è un veramente ci sono delle possibilità straordinarie allora per tornare a me io sono di nazionalità slovena e adesso lavoro con Anna Elisa alla rappresentanza di Milano prima ho lavorato alla rappresentanza della commissione europea in Francia a Parigi e mi occupavo degli eventi e della comunicazione presso le scuole e le università quindi in pratica facevo quello che faccio oggi e ho fatto una laurea mi sono laureata in scienze linguistiche lingue spagnolo e francese e poi ho fatto un master al collegio di Europa di Bruges e questo master posso veramente consigliarvelo è una formazione molto riconosciuta dalle istituzioni europee giustamente ci sono formazioni nei vari campi come politiche diplomazia economia e diritto se non sbaglio avete anche voi un collegio di Europa che è nato un po' più tardi ma esiste a Parma e anche lì vengono ragazzi di tutto il mondo e quindi avete la possibilità di incontrare questo contesto multiculturale che poi vi servirà nel mondo lavorativo e allora ribadisco sulla parola d'ordine che volevo darvi e proprio l'interculturalità diciamo agire a livello internazionale è un'impostazione mentale è un nuovo paradigma che tutti adesso devono diciamo accettare e anche poi non è una cosa difficile perché penso che tutti i ragazzi abbiano voglia di incontrare altre nazionalità di conoscere altre lingue di parlare delle altre culture e quindi è una cosa abbastanza facile anche se qua torno alla presentazione di Elisa se non sbaglio scusatemi se ho dimenticato il nome la ragazza che ha lavorato nel turismo e proprio quello anche io quando sono partita avevo 19 anni sono partita all'estero e avevo anch'io paura ovviamente e poi non parlavo le lingue il francese per esempio che è mia prima lingua straniera l'ho imparata in Francia facendo dei piccoli lavori come facciamo tutti quando siamo studenti ma poi piano piano è diventato tutto molto facile e ora se mi chiedete vorresti tornare in Slovenia per risolgere un lavoro lì al piano nazionale mi dico ma no non mi viene neanche in mente è proprio non so è una ricchezza che penso abbia avuto diciamo in tutti questi anni e che non vorrei adesso buttare via cioè non vorrei sprecarla perché perché mi sento molto bene così no e niente non so perché poi va bene ho lavorato presso varie istituzioni europee per dire per forse un po' diciamo pensare alla presentazione di analisa ci sono vari tipi di contratti e io ho cominciato come agente temporaneo era nel 2004 presso un'istituzione scusate che è un po' meno nota che si chiama Comitato Economico Sociale Europeo ma sebbene sia piccola è un'istituzione molto interessante perché molto molto polivalente e permette una carriera molto più orizzontale diciamo che puoi passare velocemente da un campo di azione a un altro quindi tra cultura affari internazionali environment ci sono tante possibilità e siccome è piccola è più fattibile questo movimento e poi ho lavorato presso l'agenzia di sicurezza alimentare che è un'agenzia europea che si trova a Parma e lì ho fatto un lavoro di assistente anche contratto temporaneo e lì ho lavorato nel mondo della scienza ovviamente come assistente quindi non bisognava essere diciamo laureato in scienze ma per me è stata una possibilità un'opportunità bellissima per imparare un po' questo mondo che è tutto un altro linguaggio la scienza e dopo ho superato il concorso di amministrazione pubblica e orientamento politiche europee e sono stata assunta e adesso sono di ruolo da 10 anni un po' più di 10 anni e noi abbiamo possibilità di formare di formazione continua quindi si possono imparare le lingue e questo è molto buono e anche altri contenuti tipo informatica digitale tutti i contenuti del futuro insomma e quindi è una carriera che viene appoggiata dall'istituzione non ci lasciano diciamo lì e ci spingono a formarci perché quello è molto importante imparare dei nuovi contenuti durante tutta la vostra vita quello è veramente importantissimo essere coraggiosi ma essere curiosi anche di avere questa curiosità intellettuale che vi porta poi facilmente verso gli altri anche e questo si può fare per esempio già con le lingue prima non so abbiamo parlato delle esigenze per entrare nelle istituzioni esigenze linguistiche devo dire che nella mia carriera ho parlato soprattutto inglese quello diciamo è la base ma più lingue parli meglio è perché le lingue non sono solo uno strumento di comunizzazione le lingue sono anche uno specchio della nostra cultura della nostra educazione istruzione no visione della nostra visione del mondo quindi con le lingue andiamo molto molto lontano no e anche le lingue che non sono lingue dell'Unione Europea quindi le lingue extraeuropee sono molto interessanti per l'Unione Europea per le istituzioni e vanno anche appoggiate dalle politiche dell'Unione Europea nell'ambito del multilinguismo quindi più lingue sappiamo meglio è per noi no e allora l'inglese comunque rimane la base ma poi non bisogna avere paura delle lingue perché per esempio cioè è sufficiente avere una conoscenza di due no cioè non so se conoscete questo quadro europeo di riferimento per le competenze linguistiche lo potete guardare sul sito del Consiglio di Europa ma non sono per forza conoscenze super alte cioè io non parlavo così l'italiano quando ho cominciato e quindi non vi scoraggiate perché questo è un feedback che ho avuto molto quando lavoravo a Parigi quando quando andavo a fare le presentazioni presso le scuole i ragazzi mi dicevano no ma io non posso partire perché non parlo la lingua oppure c'erano dei ragazzi per esempio dei background svantaggiati tipo nelle periferie ho dato ragazzi che venivano da lontano e dicevano no ma io non parlo nessuna lingua ma come non parli parli la tua lingua la tua lingua madre che non è una lingua europea ma è altrettanto importante e una cosa di cui bisogna essere cosciente questo cioè lo ribadisco perché siccome ho lavorato anche come traduttrice durante tanti anni ho veramente preso coscienza dell'importanza di questo multilinguismo no che poi dottoressa Bozzic grazie veramente perché ha sottolineato dei punti che completano quello che hanno detto i ragazzi cioè la prospettiva dei ragazzi è la prospettiva di chi inizia no chi in qualche modo ha l'entusiasmo di mettere i sogni nella valigia di partire lei ha la prospettiva della persona che ha fatto questo percorso e il percorso che anche loro hanno cominciato a seguire e sta raccontando quali sono gli elementi chiave del percorso che lei ha fatto e la cosa che mi piace in tutti i racconti di stamattina ma anche nella presentazione della dottoressa Affer è che in qualche modo carriere internazionali vuol dire essere cittadini del mondo e in quest'ultimo anno non c'è stato niente di penso che l'elemento chiave che per tutti ormai che tutti abbiamo nella mente e nel cuore in questo momento è che siamo cittadini del mondo o impariamo a essere veramente tutti i cittadini del mondo oppure qua si affonda cioè non è che la barca può continuare ad andare avanti quindi io la ringrazio di cuore per questa testimonianza ovviamente anche in questo caso avverto i ragazzi che sono collegati che noi intanto sono queste testimonianze sono tutte videoregistrate le metteremo sul sito come metteremo sul sito anche la presentazione della dottoressa Affer e ci sono anche tutti i contatti per cui potete contattare direttamente gli speaker o alcuni degli speaker in questo caso gli speaker che vi raccontano il percorso da fare e per fare eventuali domande se non c'è un contatto diretto voi scrivete all'indirizzo dell'orientamento orientamento chiocciolaunisubria.it anche se state frequentando una scuola secondaria di secondo grado per farci le domande e poi ci pensiamo noi a creare il contatto oppure a darvi la risposta veramente considerateci al vostro servizio questo è lo scopo della giornata di oggi quindi io ringrazio la dottoressa e la dottoressa Bozic e passerei la parola a questo punto a Francesco Rossi che di nuovo ci aggancia a un percorso fatto da ragazzi da peer una peer contribution diciamo perché Francesco è un ragazzo è uno studente universitario che ha scelto un certo tipo di percorso esatto grazie a voi innanzitutto grazie professoressa e grazie anche agli interventi precedenti esatto io sono di fatto uno studente universitario che ha scelto un percorso un po' particolare oltre alle esperienze di lavoro di tirocinio dell'Unione Europea che un po' rivedremo insieme tra poco e che vi sono state dette prima c'è anche questa questa possibilità dell'EU Careers Ambassador di cui magari alla fine della presentazione vi dirò qualcosa perché vi garantisco è veramente un'esperienza bellissima e entusiasmante e vi dico lo sto vivendo in un anno di pandemia ma nonostante questo posso veramente dire che è qualcosa di incredibile e che se doveste avere in futuro l'opportunità di fare buttatevici dentro perché veramente tira fuori il meglio di voi e vi dà veramente l'opportunità di dare un contributo concreto a questa a quest'Unione Europea e ai ragazzi come voi ma anche di conoscere tante tante persone quello che è il mio compito adesso prima di ritornare qui è quello di darvi una qualche informazione su cosa più o meno possa significare lavorare nell'Unione Europea non nel senso ovviamente di darvi un'esperienza come può aver fatto Monica ma di darvi qualche prospettiva un po' più tecnica di che cosa effettivamente significhi e di quali siano le procedure di selezione ecco spero nella mia presentazione che appunto più tecnica più specifica di non perdere quell'entusiasmo che si è che si è creato prima di non sterilizzare questo questo crema che si è creato che è veramente che è veramente bellissimo allora provo a condividere la mia presentazione e poi ditemi se si vede correttamente ok ecco qua si vede perfetto perfetto allora cominciamo subito quindi a dire due parole di EPSOL come diceva la dottoressa per prima l'EPSOL European Personnel Selection Office quindi è l'ufficio di selezione del personale della Commissione Europea ma vi invito subito a non farvi trarre troppo in inganno già dal nostro perché EPSOL infatti è responsabile per l'organizzazione delle procedure di selezione ma non è in realtà ecco qui attenzione l'organo che effettivamente seleziona in ultima analisi quelli che sono i funzionari perché questo è affidato alle singole istituzioni alle singole agenzie e vedremo tra poco come come funziona dove ci può portare una carriera nelle istituzioni europee in un numero veramente ampissimo di istituzioni che si occupano di materie completamente diverse vediamo qui alcune dal Parlamento al Consiglio alla Commissione alla Corte di Giustizia alla Corte dei Conti allo European External Action Service che è il servizio diplomatico delle istituzioni europee quindi veramente tantissime istituzioni tantissimi organi tantissime agenzie che si occupano di settori completamente diversi quindi veramente un'esperienza a 360 gradi e ovviamente occupandosi queste agenzie queste istituzioni di settori completamente diversi ricercano profili veramente di tutti i tipi e che possano essere impiegati in settori diversissimi questa slide sui profili ci dà due informazioni una più generale e una più tecnica specifica quella generale che appunto come vi dicevo ci cerca qualsiasi tipo di profilo solitamente si pensa che l'Unione Europea sia qualcosa solo per chi si occupa di diritto o per economisti ma non è assolutamente così si cerca veramente di tutto come vi dicevano prima da chi si occupa di comunicazione da chi si occupa di traduzione di interpretariato segreteria vedremo addirittura autisti personale scientifico per i centri di ricerca esperti in politiche internazionali veramente si cerca di tutto e l'altro dato più tecnico che vi fornisce questa slide sui profili è appunto che proiettata questa cosa nelle procedure di selezione bisogna sottolineare il fatto che quando si fa application per entrare e accedere a una posizione di lavoro nelle istituzioni europee si fa application per un profilo cosa intendo dire solitamente quando presentiamo un curriculum quando presentiamo una domanda di lavoro lo facciamo per una specifica posizione per uno specifico contratto sapendo che andremo a fare e che sarebbero impiegati in quell'ufficio con quella mansione ecco nelle istituzioni europee per la stragrande maggioranza dei casi non funziona così ci sono casi in cui questo avviene e sono spesso contratti a tempo determinato quindi counter agents come vedevamo prima ma nella maggior parte dei casi delle selezioni per personale appunto permanente a tempo indeterminato quello che si fa è un application per un profilo poniamo economista si fa questa application si superano le procedure di selezione che tra poco vedremo dopodiché se si saranno superate con successo e si sarà arrivato in fondo si sarà inserito in una lista di candidati e le singole istituzioni a quel punto valuteranno il vostro curriculum e saranno loro a proporvi una specifica posizione in questo caso magari da economista in un determinato ufficio di una determinata direzione generale ovviamente se in quello che dico c'è qualcosa di non chiaro sentitevi liberi di inoltrare domande sono assolutamente a disposizione che cosa stiamo cercando qualcosa diceva già prima anche chi stiamo cercando qualcosa di questi requisiti diceva già prima anche la dottoressa dovete essere cittadini dell'Unione Europea deroghe a questo requisito sono previsti solo per alcune tipologie di tirocinio magari dopo se abbiamo tempo e modo vediamo qualcosa dovete conoscere almeno due lingue ufficiali dell'Unione Europea in questo caso appunto devono essere lingue ufficiali dell'Unione Europea e il livello solitamente è di 2 c1 poi magari i requisiti particolari come magari lingue procedurali quindi la richiesta di conoscenze di lingue procedurali quindi inglese francese o tedesco oppure di una terza lingua se state facendo application per un profilo di traduzione sono previste insomma per le specifiche per i specifici bandi però queste sono regole più particolari la regola generale è questa due lingue ufficiali dell'Unione Europea dovete avere là come si diceva prima la disponibilità di lavorare in un contesto interculturale che è la base di tutto questa è una cosa che si richiede ma in realtà anche una grandissima opportunità che vi dà il lavorare nell'Unione Europea perché è veramente qualcosa di unico ed esistono opportunità sia per personale laureato che per personale non laureato d'altra parte che cosa offrono le istituzioni europee un lavoro assolutamente interessante e che vi mette alla prova proprio challenging non saprei renderlo meglio meglio in italiano quello che vi diceva la dottore Zabodic penso che basti da questo punto di vista contate che veramente lavorare nelle istituzioni europee vuol dire avere la possibilità di di entrare anche in alcune dinamiche che con il proprio lavoro possono davvero fare la differenza e migliorare la vita di più di 500 milioni di cittadini europei quindi veramente è veramente challenging insomma e poi d'altra parte l'abbiamo visto prima come requisito di nuovo un ambiente un ambiente di lavoro internazionale che è qualcosa che vi viene offerto opportunità di viaggiare ampissime e direi proprio questo Shaping Europe Together che è il motto di EPSO ma che è anche appunto forse la più bella motivazione del lavorare nell'istituzione europea cioè proprio avere la possibilità di contribuire assieme alla formazione alla creazione di questa Europa dare forma a questa Europa e all'Europa del futuro ma credo che gli interventi di chi mi ha preceduto siano meglio e siano più esaustivi di qualsiasi parola che io possa spendere da questo punto di vista e poi come già diceva anche la dottoressa Bodic viene offerta una possibilità di formazione costante dal punto di vista delle lingue ma anche di corsi di team leading di comunicazione di sicurezza informatica di negoziazioni insomma veramente in qualsiasi ambito proprio perché nelle istituzioni europee c'è una grandissima mobilità all'interno delle istituzioni la dottoressa Bodic vi ha portato prima la sua esperienza e anch'io con la maggior parte dei funzionari cui ho avuto modo di confrontarmi in pochissimi sono rimasti per più di dieci anni nella stessa istituzione nella stessa direzione generale proprio perché c'è la possibilità di spostarsi e di vivere sempre esperienze di lavoro differente in settori diversi e poi anche altre iniziative altre misure innanzitutto che riguardano appunto quello che è il work life balance che può essere la possibilità di lavorare part time o per mesi speciali insomma in base anche alla condizione familiare e poi anche iniziative di benessere no? well being initiatives e tanti funzionari di varie direzioni generali mi raccontavano che magari nei loro uffici nella loro direzione vengono organizzati corsi di yoga palestre momenti anche di scambio appunto di più leggeri per anche aumentare la coesione tra i colleghi quindi è anche un ambiente di lavoro piacevole come si può accedere ecco qui che entriamo veramente nel tecnico a queste opportunità di carriera la primissima cosa da fare è visitare il sito di EPSO che già vi vi menzionava prima la dottoressa Affer EPSO.europa.eu magari visitare appunto sulla sulla sezione vedete che c'è questa banda nera dove dove c'è scritto job opportunities cliccate vi verrà fuori un elenco di tutte le opportunità di lavoro ma soprattutto il primo passaggio per poter accedere effettivamente fare effettivamente application per una di queste opportunità di lavoro è quella di creare un proprio account sul sito di EPSO tramite questo account riceverete tutte le informazioni riguardo la vostra procedura di selezione quindi innanzitutto vi avrete invitati ad iscrivervi ad un primo test di preselezione che vedremo tra poco e poi vi verranno comunicati i risultati i dati ed eventuali altri aggiornamenti che possono riguardare la vostra application come già vi dicevano prima ci sono due tipi principali di selezione un primo concorso appunto i concorveri e propri sono quelli per il personale permanente e un altro tipo di selezione appunto i cast che sono invece riservati al personale temporaneo guardiamo in modo particolare quelli che sono riservati al personale permanente il personale permanente è diviso in due grandi categorie quello degli assistenti che sono tendenzialmente personale non laureato sono tutte quelle posizioni lavorative a cui si può accedere senza avere un titolo di laurea ma basta talvolta un diploma di scuola superiore ed eventualmente un po' di esperienza lavorativa e quelli che sono invece gli administrators appunto dai gradi ad 5 fino ad ad 16 che è il personale a cui si può accedere avendo un titolo di laurea per il grado ad 5 basta effettivamente solo un titolo di laurea almeno triennale per il grado ad 6 serve un titolo di laurea almeno triennale più almeno 3 anni di esperienza lavorativa nel settore o di esperienza lavorativa in generale insomma in base al bando e dal grado ad i 7 in poi invece servono nuovamente un diploma di laurea almeno triennale e almeno 6 anni di esperienza lavorativa quello che vedete qui è un overview appunto generale della procedura di selezione dal momento cioè in cui create il vostro account su EPSO al momento in cui se passate tutti questi step di selezione venite inseriti nella lista di successful candidates quindi sono le procedure di selezione di cui effettivamente si occupa EPSO quelle fasi di ammissione e valutazione di cui vi parlava prima la dottoressa il primo step quindi dopo che avrete creato l'account che sarete stati invitati a prenotare un test l'avrete prenotato e vi sarete iscritti sarà appunto questo CBT e io non so se avete avuto modo se avete dovuto fare un test di ammissione per l'università immaginatevi qualcosa di questo tipo appunto sono esercizi di logica esercizi di comprensione esercizi sostanzialmente abbastanza semplici che in un qualche minuto si possono arrivare a risolvere senza problemi dov'è però il problema qui che qualche minuto voi non lo avete perché il vostro vero nemico di questa primissima fase della selezione dove pensate vengono selezionati il 95% dei candidati è il tempo un consiglio che posso darvi è provate tanti di questi esercizi mettetevi in gioco provatene 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 fin tanto che non acquisite appunto quel metodo perché poi c'è in realtà un trucchetto dietro ognuno di essi per cui si può arrivare alla soluzione in pochissimo tempo troverete anche degli esempi dei test sul sito di EPSO scaricateli provateli qua vedete appunto alcuni esempi di questi di questi test dal punto di vista sia della comprensione testuale che quello che sono invece test numerici e di ragionamento vedete questa è logica è una sequenza di quadratini vi chiede quale sarà quello successivo se passerete questo test sarete invitati a quello successivo cioè all'intermediate se il primo test si svolgeva nella vostra prima lingua che può essere benissimo la vostra lingua madre quindi eventualmente l'italiano questo si svolge invece nella vostra seconda lingua e vengono qui valutate appunto le vostre competenze linguistiche e quelle che sono alcune conoscenze o competenze più specifiche che ineriscono al vostro profilo quindi al profilo che avete scelto se sarà economista vi verranno fatte insomma alcune domande di economia finanza eventualmente anche di diritto se passerete anche questo step sarete invitati a quello che è l'assessment center l'assessment center è l'occasione che avete per essere valutati proprio sul campo se prima forse era più una preselezione il primissimo step e una valutazione di conoscenze il secondo il secondo step qua vengono effettivamente valutate le vostre competenze come avviene in vari modi potrete avere delle interviste dei colloqui one to one ma potrete anche essere inseriti in gruppi di lavoro vi sarà ovviamente sarete tutti tirocinanti vi sarà assegnato un compito da portare a termine e nel frattempo sarete osservati mentre lavorate valuteranno in modo particolare otto competenze l'analisi la capacità di comunicare la capacità di produrre risultati la continua capacità di apprendere quindi di essere disponibili ad apprendere dai colleghi e dalla situazione che qui siete qui siete posti insomma all'interno sarete valutati anche nella resilienza vi metteranno sotto pressione durante questi test dovrete dare prova di riuscire insomma lavorare anche in contesti non sempre facilissimi sarà valutata questo è importantissimo la vostra capacità di lavorare con altri quindi di lavorare in team di fare squadra e anche eventualmente se le avete le capacità di leadership e di prioritizing quindi di organizzare insomma le vostre task questo perché una cosa che è veramente fondamentale dal punto di vista della selezione è non solo che voi sappiate o che abbiate conoscenze tecniche ma che voi sappiate fare sappiate lavorare in gruppo perché le vostre conoscenze sono utili nel momento in cui possono essere effettivamente impiegate in un contesto lavorativo contate che quasi nessuno guarda il vostro curriculum prima che voi abbiate passato questi tre step quindi è essenziale che sappiate lavorare in gruppo è essenziale che sappiate produrre risultati insomma è essenziale che dimostriate di avere queste otto competenze perché qualcuno possa poi guardare quali sono le vostre la vostra esperienza e i vostri titoli più specifici e magari poi offrirvi un posto di lavoro ecco che allora Francesco posso fare un inciso perché oggi pomeriggio in ambito scientifico ci sarà proprio un fisico che lavora alla commissione europea proprio in ambito scientifico e quindi ha fatto il percorso che tu in questo momento hai raccontato quindi oggi pomeriggio per gli scienziati o per chiunque abbia voglia se vi ricollegate c'è modo di e nel profitto anche per dirti che hai cinque minuti massimi 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 proprio corro 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 ma ormai ci siamo bravo bravo ormai ci siamo allora solitamente questa fase dell'assessment si svolgeva in presenza a Bruxelles a Lussemburgo e contate che ovviamente con il covid insomma è un po' cambiato tutto si sta pensando si stanno ripensando questi test per riuscire a farli online trovate comunque tutte le informazioni sul sito sul sito di EPSO e qualora doveste passare tutti questi tre step sarete appunto inseriti in una lista di successful candidates chiamati anche laureates una lista che dura solitamente un anno quindi è valida un anno però in realtà viene spesso prorogata c'è la possibilità di prorogarla e dopodiché a questo punto le singole istituzioni scorreranno questa lista magari troveranno il vostro nome leggeranno il vostro curriculum vedranno le vostre esperienze e potrete essere contattati e vi verrà a questo punto si offerta una specifica posizione lavorativa che potrete accettare e allora poi verrà stipulato effettivamente un contratto di lavoro o che potrete rifiutare e in questo senso non finisce tutto ma sarete reinseriti nella lista questo è solo per darvi un po' un'idea dei salari insomma il trattamento è abbastanza buono pensate che una segretaria appunto quindi a livello assistenti segretari il livello di base prende circa 2500 euro 2600 euro al mese e il personale laureato insomma entry level siamo intorno ai 4009 ovviamente un'ulteriore riflessione sarebbe poi da fare su tutti i profili di tassazione solamente due parole velocissime su quelli che sono i contratti temporanei di cui in realtà vi hanno già parlato quindi non non mi dilungo troppo vi dico solo che questi contest agents hanno contratti solitamente di tre anni che sono rinnovabili una volta sola quello che cambia nella procedura di selezione è che invece che affrontare prima le procedure di EPSO e poi eventualmente essere inseriti in una lista e quindi contattate delle istituzioni qui avete interfacciate immediatamente con l'istituzione che se troverà il vostro le vostre esperienze il vostro curriculum interessante vi reindirizzerà ad EPSO per compiere alcuni test che sono un po' diversi assomigliano insomma al secondo test che abbiamo visto non esiste l'ultima e terza fase di assessment e poi di nuovo vi interfaccerete con l'istituzione ci sono ovviamente anche opportunità di tirocinio e la più importante è quella del Blue Book di cui già vi la più importante o meglio possiamo dire la più grande quella che coinvolge un maggior numero di tirocinanti è quella dei Blue Book Cainish quindi quelli presso la Commissione Europea questo è uno dei casi in cui non è per forza necessario essere cittadini dell'Unione Europea devo dirvi che i posti per cittadini non è è abbastanza limitata e ristretta però insomma c'è questa c'è questa possibilità poi insomma qualche informazione vi dava già prima la dottoressa trovate comunque tutto sul sito della Commissione c'è un portale dedicato appunto ai Blue Book e trovate veramente tutte le informazioni non è però la Commissione Europea l'unica a organizzare tirocini quindi vi invito anche qui a visitare il sito di EPSO sempre nella banda nera che abbiamo visto all'inizio cliccando su Job Opportunities andate su cioè inisci e su tirocini insomma in base se lo visitate in italiano in inglese qui vi si aprirà una pagina dove vedrete varie finestre con i nomi delle varie istituzioni cliccate di sopra e sotto vi si aprirà a tendina eventuali tirocini disponibili presso quell'istituzione e in diretto al sito dell'istituzione vi consiglio sempre comunque di verificare anche i siti delle istituzioni perché a differenza di quanto non avviene per le procedure di selezione per posizioni lavorative qui per i tirocini le procedure di selezione sono gestite dalle singole istituzioni quindi non sempre l'istituzione poi comunica ad EPSO l'effettiva attivazione del tirocino quindi eventualmente fate sempre un double check e comunque troverete troverete tutto sui siti delle istituzioni soprattutto nella notice of competition cercatela sempre insomma lì ci sono ci sono veramente tutte le informazioni veramente ultimissime due cose la prima sul Junior Professional Program solitamente questo mi preme dirvelo avere partecipato a un tirocino nelle istituzioni europee non vuol dire avere la possibilità di poi essere assunti direttamente presso quell'istituzione l'unica eccezione tra virgolette che vale però solo per la Commissione Europea è quella del Junior Professional Program ed è una procedura molto particolare per cui se date prove insomma di eccellenti competenze durante il vostro tirocino potete essere selezionati insomma indicati dal vostro dal vostro tutor e quindi puoi prendere parte a questo programma con una procedura di selezione interna più particolare che vi può permettere alla fine di raggiungere direttamente una posizione lavorativa a contate che sono 25 posti su 900 tiraccinanti a tornata insomma quindi sono veramente limitati avrei voluto parlarvi un po' anche della mia esperienza perché è veramente qualcosa di entusiasmante il tempo corre rimango a disposizione di tutte le vostre domande qui e mi raccomando anche sul sul nostro account mail italiano quindi youcareers.italy chiocciola gmail.com scriveteci tutti i vostri dubbi tutte le richieste di consiglio possibili perché siamo veramente qui per voi e seguiteci anche sui profili social sia youcareers che youcareers.italy dove appunto pubblichiamo alcuni eventi a cui partecipiamo che sono aperti a tutti cui potete venirci a sentire ma in cui soprattutto pubblichiamo anche alcune delle opportunità di lavoro di tirocinio che escono per il quale potete fare application io vi ringrazio davvero per l'attenzione posso lanciarti una proposta visto che abbiamo sforato e adesso vorrei passare la parola alla professoressa Barbara Pozzo per la sessione finale diciamo dedicata al giurista della comunità europea hai voglia di farci un mini video in cui racconti la tua esperienza che poi noi pubblichiamo sul sito cioè ti riprendi da solo e noi poi questo video tanto le liberatorie le abbiamo già fatte tutte quindi te ne faremo firmare un'altra ma una più una meno non cambia e in maniera tale da sommerso sommerso esatto siamo tutti abituati e quindi in maniera tale da abbiamo la tua presentazione con tutti i dettagli e quant'altro però anche un mini video tuo che i ragazzi possono che rimarrà sul sito per sempre anche questo in modo che i ragazzi possano ascoltare dalla tua viva voce questa esperienza come dici assolutamente fantastico Francesco grazie mille allora ci conto ci conto proprio su questa cosa veramente ci conto grazie allora ringrazio tutti e tre gli speaker di questa sessione è stato interessantissimo avete dato un sacco di spunti e un sacco di indicazioni quindi vi ringrazio per l'ennesima volta a questo punto io passo la parola alla prossima moderatrice che è la professoressa Barbara Pozzo per la sessione dedicata al giurista nella nell'Unione Europea mi dispiace per questo breve ritardo spero che la professoressa Pozzo abbia pietà di noi e avverto la regia per favore di mandare le domande via chat direttamente alla professoressa Pozzo a questo punto e non a me perché sarà lei la moderatrice grazie a tutti per questa prima parte della mattinata continuate a seguirci adesso in questa sessione e poi oggi pomeriggio nella sessione dedicata agli scienziati professoressa Pozzo grazie grazie Michela grazie mille sei stata bravissima puntualissima raccolgo il testimone benvenuti a tutti sono Barbara Pozzo all'insubria di Rigo il Dipartimento di Diritto Economia e Cultura e sono molto entusiasta devo dire dopo questa botta di energia che ci è arrivata dalla prima parte della mattinata di proseguire con voi raccontando un po' quelle che sono le figure di giurista all'interno delle diverse istituzioni dell'Unione Europea abbiamo con noi la dottoressa Stella Cigni Angelidis che ci parlerà della sua esperienza alla Corte Martina Tonetti che è una nostra laureata ora avvocato che ha svolto un periodo di stage presso il Parlamento Europeo la dottoressa Franca Pogliani che è legal advisor alla Commissione Europea e poi non poteva mancare la nostra collega Silvia Marino che è professore di diritto dell'Unione Europea non vi dico la contentezza di vedere quattro giuriste sono proprio felicissima ma comunque per non perdere tempo in cose troppo frivole vorrei dare subito la parola alla prima delle nostre relatrici che è la dottoressa Stella Cigni Angelidis però non posso esimermi dal dire due cose sulla dottoressa Stella Angelidis ci conosciamo da 35 anni ci conosciamo da 35 anni e ci siamo conosciute dove alla Faculté Internazionale dei Droit Comparé a Strasburgo perché ancora prima che crollasse il muro di Berlino ancora prima che ci fosse il programma Erasmus due intrepide studentesse una di Torino la dottoressa Cigna e la sottoscritta andavano a Strasburgo col trenino a fare questi cicli di studi di diritto comparato un po' diciamo così incuriosite molto così pronte a imparare lingue straniera a confrontarci con gli altri sono stati momenti magici stamattina riflettevo sul numero di anni che sono passati ma siamo contenti così Stella a te la parola illuminaci sulla tua brillantissima carriera alla corte e raccontaci un po' anche di quello che hai fatto per arrivare dove sei adesso tu sei capo dell'U aspetta che mi sono dimenticata sei responsabile dell'unità pubblicazioni e media elettronici della corte che è l'ufficio che tiene tutti i rapporti col mondo esterno con i cittadini quindi un compito importantissimo a te la parola per illustrarci quello che fai e quello che hai fatto il microfono Stella 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 il microfono buongiorno a tutti grazie per l'invito vi parlo da Lussemburgo dalla mia casa perché non frequentiamo gli uffici dal marzo scorso quindi lavoriamo assolutamente in telelavoro potrei proprio dire al cento per cento e quindi ecco prima di tutto grazie mille per questa opportunità di avere questo contatto con il mondo con i ragazzi dell'università e con l'università italiana in particolare e come ha detto Barbara ormai non si può più tacere l'ha detto la storia incomincia la storia incomincia anche molto molto prima ma non vi vogliamo annoiare con delle con degli aneddoti personali ce ne sarebbero ma li riserviamo ad altra sede dopo il trenino dopo i corsi di diritto comparato all'università di Strasburgo e beh possiamo dire come diceva questa mattina il professor Zamperetti è arrivata la vocazione c'è c'è un momento in cui una persona decide sì mi piace continuo ad andare ci riprovo ci tento perché andrei volentieri e quindi questa per me è la vocazione che però è maturata pianino e anche in maniera abbastanza silenziosa nel senso che ci sono stati vari episodi ci sono stati vari diciamo punti cruciali diciamo a livello di formazione di apprendimento nel tempo io direi per quanto mi riguarda essenzialmente delle lingue queste sono state determinanti poi per decidere di partire e poi ci sono state delle belle occasioni delle belle opportunità che sapete i momenti dei momenti veramente cruciali ci arrivano così ci vengono serviti li scegliamo non li scegliamo poi quando si guarda indietro si capisce quali sono stati e perché e come sono andate le cose io quindi sono arrivata a Lussemburgo e sono arrivata alla Corte di Giustizia devo dire che sono stata sono molto fedele alla Corte di Giustizia perché sono 30 anni che lavoro per questa istituzione e sono arrivata nel 91 sono arrivata nel 91 quindi era era l'anno in cui effettivamente stavano succedendo al mondo tante cose nuove tante novità io mi sono sfacciata qua sul sul Kirsberg su questa collinetta del Lussemburgo dove stanno le istituzioni europee aveva un aspetto completamente diverso allora e mi sono buttata all'interno di questo mondo che è la Corte di Giustizia cioè un condensato di giuristi e linguisti veramente un concentrato un concentrato di diritto lingue e ricerca di qualcosa che non sta scritto in maniera definitiva da nessuna parte e adesso cerco di spiegarvi il perché innanzitutto nel 91 l'Europa non era l'Europa di oggi era un'Europa con era l'Europa dei 12 così si studiava sui libri di scuola era l'Europa dei 12 c'era già c'era la Corte c'era già anche il Tribunale dell'Unione Europea quindi doppio grado di giurisdizione si parlava in diverse lingue in questa istituzione ma le lingue ufficiali erano in quel momento 9 non 23 come oggi e soprattutto l'istituzione era aveva una dimensione che si aggirava intorno insomma lo staff malcontato era 500 persone quindi un ambiente ancora molto molto raccolto direi quasi familiare e io sono arrivata alla Corte di Giustizia con un concorso perché questa è la via era la via d'accesso fondamentale nel senso avevo fatto un concorso per giurista linguista e vorrei spendere una parola su questo punto poi se avete interesse ritorniamo successivamente giurista linguista è un giurista con una formazione completa con nel suo paese di origine nel paese nello stato in cui si è formato e che però in qualche modo ha preso anche non una ma diverse lingue che vengono richieste appunto per partecipare a questo concorso per giuristi linguisti io ho partecipato nel 91 le cose sono andate molto molto rapidamente allora e sempre nel 91 sono arrivata appunto qua a Lussemburgo e sono stata assunta per lavorare sono stata nominata per lavorare nella unità della traduzione italiana della Corte di Giustizia dell'Unione Europea si concretizzava quello che avevo letto e avevo studiato nei libri universitari dice che la Corte di Giustizia è un'istituzione giurisdizionale dell'Europa e che in questa istituzione le procedure giurisdizionali si svolgono in tutte le lingue perché tutte le lingue sono lingue ufficiali questo si legge sui libri e poi quando si passa alla vita vera nella realtà concreta si capisce cosa significa questo significa che ci sono dei piccoli eserciti di traduttori che sono giuristi e che debbono tradurre tutta la giurisprudenza di questi organi giurisdizionali in tutte le lingue ufficiali veniamo oggi questo significa che al giorno d'oggi tutta la giurisprudenza della corte di giustizia viene tradotta in 23 lingue ufficiali si parlerà anche l'irlandese di più fra poco per il momento non è ancora così diciamo 23 o 24 lingue ufficiali e per fare ciò è necessario che l'istituzione si 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 possa appoggiare su un corpo di traduttori che sono giuristi con formazione completa e che devono appunto non solo tradurre le decisioni dei giudici ma partecipare molto attivamente a tutto lo svolgimento della procedura giurisdizionale perché non si traduce solamente poi il documento finale ma anche dei documenti intermediari o si partecipa alla traduzione da parte delle altre unità linguistiche insomma il giurista alla Corte di Giustizia e se fa questo mestiere del giurista linguista ed è un mestiere che diciamo si apprende anche molto nel corso dell'attività partecipa non solo nel momento finale ma anche nel corso dello svolgimento della procedura dovete immaginare parlo ai ragazzi che studiano il diritto che i cittadini europei possono rivolgersi alla giurisdizione europea o direttamente o attraverso i giudici nazionali nella loro lingua e quindi per mettere in moto il meccanismo giurisdizionale dell'Unione europea è necessario che questo primo atto che viene ad esempio spedito in una lingua nazionale in italiano venga poi tradotto in tutte le altre lingue venga tradotto ad uso e consumo non solamente dei giuristi interni all'istituzione perché questi se la cavano anche con altre lingue ma ad uso e consumo degli altri stati membri e di come gli altri stati membri possono partecipare alle procedure davanti alla Corte di Giustizia quindi questo tipo di questo tipo di di attività è un'attività nettamente giuridica in cui le conoscenze linguistiche vengono diciamo date per acquisita almeno fino direi che sono indispensabili almeno tre o quattro lingue ufficiali dell'Unione europea per partecipare già ai concorsi e da questa combinazione scaturisce proprio il mestiere del giurista linguista si tratta di tradurre ma si tratta anche di trasportare nella terminologia nazionale esatto esatto ti volevo proprio interrompere su questo perché volevo enfatizzare questo aspetto importantissimo della traduzione giuridica perché tradurre è una cosa ma tradurre il diritto è qualcosa di più complicato per cui c'è una complicazione in più il diritto non è un fatto naturale è una creazione umana e non sono una creazione umana ma ha un forte portato nazionale quindi è vero che tutte le nozioni del diritto europeo debbono e hanno si poggiano su delle una terminologia uniforme e assolutamente trasversale ma dall'interazione del diritto nazionale con il diritto europeo nasce spessissimo l'esigenza di trasformare di spiegare di far capire che cosa significa ad esempio in un'altra lingua un istituto che nel diritto del paese che quest'altra lingua utilizza non esiste come rendere un istituto o un tipo di contratto o un tipo di procedura come renderlo come spiegarlo nella lingua di destinazione e è abbastanza una sfida molto spesso io so che su determinate novità giurisprudenziali quando un argomento viene portato la prima volta dinanzi alla Corte di Giustizia o un tipo di istituto nazionale si tratta veramente di valutare fino a che punto posso tradurre semplicemente fino a che perché esiste lo stesso istituto nel diritto del diritto in cui io cerco di far comprendere questo istituto oppure devo spiegare trasformare aggiungere una definizione fra l'altro anche solo attraverso questa spiegazione è chiaro che per quanto riguarda molte lingue esiste un'univocità fra la lingua di cui si parla e lo stato a cui le traduzioni in questa lingua sono rivolte cioè tutta la giurisprudenza tradotta in italiano è destinata fondamentalmente ai giuristi italiani ai avvocati ai giudici che devono poi interagire con la Corte di Giustizia però questo discorso non è valido per tutte le lingue per tutti i paesi ad esempio la lingua olandese viene utilizzata in Olanda viene utilizzata però anche in Belgio quindi il riferimento sostrato giuridico a cui devono corrispondere le traduzioni non deve tener conto del fatto che non si parla solamente ai giuristi di uno stato o dell'altro ma si a tutti e due potenzialmente un discorso già molto molto più complicato e che non credo sia necessario fare in questa in questa sede però senz'altro sono partita dalla mia prima esperienza che è stata quella di giurista linguista all'unità della traduzione italiana e che ho vissuto in un'epoca certamente lontana all'epoca si traduceva partendo dalla carta ad esempio si traduceva scrivendo al computer oppure al dittafono attualmente vi rassicuro le cose non sono più così il carico di lavoro è tale e la tecnologia avanzata la scienza della traduzione avanzata adesso si parla ormai di traduzione assistita traduzione neuronale la capacità della la capacità della direzione generale della traduzione alla corte di giustizia non è aumentata in maniera proporzionale al carico di lavoro in pratica al numero delle sentenze che vengono emesse ogni anno e quindi ci sono e sono allo studio e sono si stanno mettendo alla prova delle tecnologie nuove diverse e che evolvono in continuazione per assistere i giuristi linguisti nella traduzione quindi direi questo è un mestiere un mestiere molto importante per la corte di giustizia anche un mestiere che i ragazzi devono immaginarsi sapere che esiste prepararsi con anticipo anche direi nel senso che quando studiamo all'università ho detto già da precedenti relatori però quello che vorrei sottolineare ancora è che l'apprendimento delle lingue non è diciamo così favorito forse all'interno dell'università almeno per quanto riguarda la mia esperienza mettiamola da parte spero che attualmente sia più incoraggiato ma non è solo l'università che deve insegnare o dirigere i ragazzi a studiare le lingue penso che siano moltissime le occasioni che i ragazzi hanno oggi per imparare delle lingue straniere è verissimo che la lingua straniera principale è l'inglese ma vorrei aggiungere una postilla per quanto riguarda la corte di giustizia e ricordare ai ragazzi che fossero interessati che è molto importante anche il francese nella carriera internazionale in passato penso si sia potuto dire che era la lingua della diplomazia il francese il francese è stata una lingua molto di certi circoli particolari adesso è sicuro che è stata soppiantata dall'inglese l'hanno detto dei relatori prima di me ma ancora una postilla alla corte di giustizia non è così purtroppo per fortuna non lo so la corte si è organizzata ha organizzato la sua procedura i suoi meccanismi interni ma proprio anche la procedura giurisdizionale in un panorama in un momento storico in cui l'inglese non si affacciava ancora all'orizzonte o comunque non si affacciava all'orizzonte dell'Unione Europea delle comunità europee l'inglese non è stata lingua ufficiale dall'inizio il diritto dell'Unione Europea non ha avuto come riferimento il mondo anglofono e quindi il francese è stata il francese è stato allora ed è attualmente diciamo il meccanismo la base su cui si organizza tutto il lavoro di traduzione e avanzamento della procedura per gestire al meglio il carico di lavoro della traduzione anche quindi le sentenze vengono redatte in francese quindi questo è veramente il clou della ragione per cui il francese è una lingua estremamente importante alla corte di giustizia è una lingua che viene sempre richiesta ai giuristi linguisti nonostante il mondo si diriga verso il ecco verso altri altri lingue veicolari come l'inglese ma ancora una cosa se mi consentite sulle lingue tutte le lingue dell'Unione Europea sono importanti allo stesso modo alla corte di giustizia perché tutte le lingue sono lingue ufficiali e perché chi svolge questo lavoro del giurista linguista traduce sempre da lingue diverse verso la sua lingua madre quindi anche lingue che paiono magari minori ecco nel parlorama generale lingue meno esotiche le lingue baltiche le lingue del sud dell'Europa tutte sono ugualmente importanti e per tutte è necessario avere delle capacità di appunto tradurre perché sono i giuristi di questa lingua che traducono verso queste lingue tutte lingue ufficiali quindi assolutamente nel caso in cui ci sia non so nel caso in cui si disponga di un accesso anche verso queste lingue minori io consiglio veramente di valorizzarle e di coltivarle perché il giurista che dispone di queste competenze ha senz'altro è molto richiesto è molto richiesto in questo panorama lussemburghese della giurisdizione europea Stellina Stella scusa però tu sei stata un po' una forerunner perché se ben ricordo già all'università parlavi inglese francese tedesco stavi imparando lo spagnolo e quante altre lingue hai imparato mentre eri all'Unione Europea io avevo iniziato con diverse lingue per passione perché mi è stata instillata la passione diciamo in famiglia e la passione rimane quello che vorrei dire è che nell'ambito delle istituzioni europee c'è veramente un'attenzione all'apprendimento per chi svolge il lavoro di giurista e linguista la professionalità richiede di apprendere altre lingue di incrementare il proprio patrimonio linguistico e le istituzioni sono da questo punto di vista veramente molto stimolanti perché non solo ci si trova in un ambiente super internazionale multiculturale torneremo se volete sull'argomento ma perché le istituzioni ci insegnano delle lingue nuove ci chiedono di imparare delle lingue nuove di imparare anche durante l'orario di lavoro di imparare andando all'estero investono moltissimo su questo su questo aspetto perché le lingue sono un patrimonio non vengono mai considerate un costo anche se poi si deve fare le istituzioni devono fare i conti con i bilanci con 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 le disponibilità in organico che sono comunque molto limitanti però veramente le istituzioni investono sul personale e sulla loro capacità e voglia di incrementare le loro conoscenze linguistiche quindi veramente è una porta aperta se si ha la passione delle lingue all'interno delle istituzioni questa passione può essere coltivata in tutti i sensi sia a livello personale perché ci si ritrova appunto lavorare in un ambiente assolutamente multiculturale multilinguistico sia a livello proprio di disponibilità di tempo e di incoraggiamento a livello lavorativo quindi ecco io ho imparato anche molte altre lingue ho imparato altre lingue mi sono trovata nella situazione ideale per apprendere altre lingue qui in Lussemburgo e Lussemburgo da questo punto di vista è un è un paese in cui la multiculturalità e il multilinguismo si vive in maniera assolutamente quotidiana anche ricreando a distanza dalla patria diciamo anche ricreando tutti noi vedo che siamo lontani nel tempo si ricrea un ambiente familiare è vero che abbiamo una particolare particolare diciamo inclinazione magari nel frequentare i nostri connazionali i nostri corregionali con cittadini è vero però a Lussemburgo non puoi esimerti e incontri vista la dimensione del paese e vista la quantità di stranieri presenti in questo paese veramente il multilinguismo si vive 24 ore 24 ore su 24 si se posso si dimmi volevi aggiungere ancora qualcosa sulla quello che stai facendo adesso volevo aggiungere ancora qualcosa perché in effetti chi si affaccia sul mondo delle istituzioni è già stato detto lo ripeto e entra nelle istituzioni entra magari per porte diverse ci sono vari modi per accedere e poi la carriera si può svolgere in maniera anche molto versatile e molto interessante sempre per stare nell'ambito dei giuristi e nell'ambito che conosco quello della Corte di Giustizia esistono altri mestieri giuridici ci sono giuristi che svolgono il mestiere di ricercatori diciamo più assimilabile al mondo accademico c'è una direzione di ricerca e documentazione che è la direzione che supporta il lavoro dei gabinetti dei giudici degli avvocati generali la ricerca e documentazione alla Corte di Giustizia impiega dei giuristi nazionali con formazione completa che 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 svolgono un lavoro di analisi di sintesi di un lavoro molto direi molto assimilabile al lavoro accademico e anche essi vengono reclutati attraverso dei concorsi poi c'è un'altra professionalità che è quella del referendario e che i referendari sono gli assistenti giuridici dei giudici i giudici ormai sono più come 91 non si conta più su due mani ma ci sono 81 gabinetti ormai questi gabinetti dei giudici e degli avvocati generali sia della Corte che dei giudici del Tribunale sono formati da vari giuristi oltre al membro in questione ci sono vari giuristi che sono la mano del giudice o dell'avvocato generale che scrivono le sentenze o le conclusioni e che vengono questi vengono reclutati in maniera anche più ampia diciamo che c'è proprio una ricerca e un intuito persona che determina questa questo tipo di collaborazione senz'altro è un impiego di grande prestigio e anche di grande interesse dal punto di vista giuridico ecco si è veramente al centro della creazione giuridica su questo poi credo che scusa interverrà anche la nostra collega Silvia Marino senti Stellina scusami credo di dover passare la parola anche agli altri relatori perché sennò usciamo fuori dai tempi che ci siamo prefissati magari torniamo a te poi con le domande perché nel frattempo arriveranno anche delle domande da parte degli studenti quindi rimani con noi ancora un attimo solo un'ultima cosa le professionalità all'interno delle istituzioni sono variegate per quanto riguarda la corte di giustizia devo ancora aggiungere che esiste una direzione importante che è la direzione della comunicazione in cui lavoro adesso dove l'attività del giurista si combina con l'attività del comunicatore e con gli strumenti della comunicazione in pratica diritto non solo per gli addetti ai lavori professori i giudici gli avvocati ma diritto per i giornalisti che sono i nostri diciamo alleati nella divulgazione e per i cittadini attraverso strumenti che ormai sono di ogni genere non sono solo più i comunicati stampa ma sono i canali youtube tweet e via discorrendo lì la formazione giuridica è indispensabile ma si combina con altre capacità e altre conoscenze che sono eventualmente quelle che attraverso la curiosità o la versatilità ci assurdo in noi crea e insegue e che poi possono essere combinate con il patrimonio e la conoscenza giuridica se volete torniamo anche su questo che è la mia esperienza più attuale grazie stella grazie mille adesso io chiederei all'avvocato Tonetti di parlarci nostra laureata grazie per essere qui oggi avvocato presso il foro di Monza e aveva svolto un periodo di stash presso il Parlamento europeo e vorrei che lei ci parlasse di questa esperienza grazie per la parola buongiorno buongiorno a tutti grazie per avermi coinvolto in questa giornata entusiasmante è un piacere parlare ai giuristi che adesso stanno frequentando la mia stessa università appunto come diceva la professoressa Pozzo io sono una laureata dell'insubria oramai mi sono laureata dieci quindi anni fa più o meno con una tesi in diritto internazionale privata e processuale poi ho proseguito il mio percorso accademico con un dottorato di ricerca sempre all'insubria e lo stesso giorno in cui ho discusso la tesi di dottorato mi è arrivata la chiamata da Bruxelles e da quel giorno 15 giorni dopo ho iniziato il mio tirocinio al Parlamento europeo presso una deputata italiana è stata un'esperienza entusiasmante che ha contribuito alla mia professionalità che sicuramente consiglio a tutti ci sono due modi per approdare al Parlamento europeo come tirocinanti uno è prendere il treno dei tirocini Schumann che sono i tirocini presso il segretariato generale quindi sono tirocini presso il corpo amministrativo del Parlamento europeo proprio in senso stretto e l'altro invece sono i tirocini presso i deputati del Parlamento europeo al tirocini Schumann si accede attraverso una selezione che è pubblicizzata sul sito del Parlamento europeo secondo due stagioni che sono un po' anche le stagioni della moda l'autunno e inverno con i tirocini da ottobre a febbraio e la primavera estate i tirocini tra marzo e luglio è un tirocino retribuito che dura se non sbaglio circa cinque mesi ed è appunto nel corpo amministrativo quindi si entra a far parte delle diverse DG delle divisioni amministrative del Parlamento i requisiti li leggete nel sito del Parlamento europeo sono principalmente requisiti di virginità rispetto a qualsiasi esperienza nell'ambito delle istituzioni europee quindi non aver mai fatto tirocini precedenti e non aver mai fatto visite di studio precedenti e quindi ecco finalmente un'occasione di svolgere dei tirocini veramente all'inizio della carriera senza vedersi scritte quelle aberrazioni di cerca di tirocinanti con un minimo di esperienza ecco qui ci vuole la virginità da qualsiasi esperienza nelle istituzioni io non ho seguito il tirocino Schumann io ho fatto un tirocino presi deputati anche questo lo potete vedere nel canale del Parlamento europeo è un canale di solito riservato a chi fa politica nel territorio che quindi ha un contatto più o meno diretto con il deputato che a seconda delle proprie esigenze a seconda delle esigenze del proprio ufficio cerca un tirocinante da inserire all'interno del proprio staff anche in questo caso il tirocinio è retribuito a seconda della disponibilità del MEP del Member of Parliament a cui si assiste e anche qui la lunghezza temporale del tirocino è concordata con il deputato di volta in volta quali sono i vantaggi per un giurista di approdare al Parlamento europeo e di fare un tirocino al Parlamento europeo beh innanzitutto per un giurista è interessante vedere e vivere il procedimento legislativo e al Parlamento europeo ovviamente lo si vede nel vivo si assiste e si può prendere parte al dibattito politico e infine ma non da ultimo si può veramente partecipare alla vita politica e alla vita diplomatica che entra nelle stanze del Parlamento e nelle piazze di Bruxelles adesso riempio di contenuti questi tre vantaggi che si hanno nel fare un tirocino al Parlamento europeo vedere il processo legislativo e viverlo ecco ricordo con grande fibrillazione i momenti in cui in ufficio attendevamo l'arrivo della proposta della Commissione europea che veniva all'epoca parlo del 2013 la mia esperienza che veniva recapitata nelle caselle di posta dei deputati quindi con grande fibrillazione in quel momento nei giorni precedenti nelle settimane precedenti nel frattempo il Parlamento nominava il relatore a quel progetto legislativo e il relatore ombra a quel progetto legislativo per cui diciamo che il gruppo politico e le commissioni nominavano questi due protagonisti tendenzialmente di colori politici differenti che lavoravano che lavorano in simultanea e che si occupano quindi di redigere una prima opinione politica ovviamente sul progetto della commissione e si occupano di raccogliere in prima persona le istanze dei gruppi di interesse che partecipano alla vita politica del Parlamento europeo mi riferisco alle lobby tecnicamente negli uffici dei deputati vengono ricevuti i lobbysti che propongono le loro istanze le loro esigenze rispetto a un'iniziativa legislativa e sottopongono anche le loro losing le loro provocazioni ovviamente quindi c'è un momento in cui la vita l'attività politica raccoglie le istanze della società civile e qui c'è lo scambio quindi con i lobbysti e con i gruppi di interesse mi riferisco a lobby più disparate perché siamo abituati a pensare alla lobby del tabacco la lobby delle farmacie eccetera io in quei momenti mi stavo occupando del regolamento del made in e ad esempio mi rapportavo e mi rapportavo ad esempio con i lobbysti della pellicceria della cosmetica o addirittura degli accendini nemmeno io sapevo che esistesse una lobby degli accendini ma tant'è quindi la raccolta delle istanze a quel punto che cosa succede all'interno degli uffici dei deputati si lavora si lavora allacremente sugli emendamenti quindi raccolte le istanze vista la proposta della commissione si fa proprio un lavoro certosino sugli emendamenti quali emendamenti vanno bene quali rispondono al sentimento politico quali no e quindi si spulcia passo per passo emendamento per emendamento la proposta della commissione questo lavoro viene svolto nella lingua madre quindi il lavoro di emendazio e il lavoro di relazione viene svolto nella lingua madre e poi questa documentazione viene passata all'ufficio di traduzione che traduce la cosa che mi aveva colpito è che quando parte il procedimento legislativo arriva all'ufficio del deputato una procedura strettissima cioè un procedimento strettissimo con tanto di termini e di decadenze quindi ci sono determinate attività di relazione che vanno fatte entro un preciso termine ad esempio si deve considerare la relazione entro un preciso termine all'ufficio di traduzione che entro un altrettanto preciso termine deve tradurre e così via fin tanto che il lavoro di relazione e di emendamento approda nella parte di dibattito politico quindi entra nelle aule di discussione dei gruppi politici e delle commissioni fino poi alla fine arrivare al voto in plenaria a Strasburgo quindi qui si apre la vera e propria fase di voto nella fase di voto il Parlamento Europeo si riunisce a Strasburgo e quindi effettivamente il Parlamento di Bruxelles si trasfesce si svuota e riempie il Parlamento di Strasburgo con tutte le polemiche e le considerazioni che ogni mese venivano sollevate una settimana al mese quindi si va a Strasburgo e c'è il voto in plenaria capita spesso che i deputati portino con sé parte del gruppo dei tirocinanti per fargli assistere al voto in plenaria perché dico una settimana effettivamente il voto il lavoro al Parlamento Europeo è diviso in settimane ogni mese c'è la settimana del voto della plenaria c'è la settimana verde che è la settimana in cui i deputati tornano nel proprio paese d'elezione per fare politica sul territorio ebbene quindi che lo facciano tutti più o meno nella stessa settimana così da non svuotare il Parlamento di Bruxelles e quindi far venire meno la permanenza dell'organo legislativo e poi ci sono le settimane dei lavori di gruppo e le settimane dei lavori in commissione in queste due settimane si sviluppa il vero e proprio dibattito politico ed ecco che arrivo al secondo vantaggio di fare un tirocino al Parlamento Europeo che è quello di prendere parte del dibattito politico vero e proprio nelle settimane dei lavori di gruppo e dei lavori di commissione il Parlamento Europeo diventa quasi un teatro si rientra di locandine di incontri eventi e riunioni dei temi più disparati dal bilancio agli interventi di pace ai bambini soldato alla protezione dei neonati prematuri alla parità di genere e chi più ne ha chi più ne metta quindi riunioni più o meno ampie più o meno aperte dove si dibatte di ogni tema che cosa succede molto spesso il deputato che non ha il don dell'ubiquità invia in diverse riunioni i propri tirocinanti o il proprio staff che sono quindi richiesti di aguzzare le orecchie prendere appunti e poi relazionare il deputato rispetto a quello che hanno sentito non solo aguzzare le orecchie e prendere appunti ma anche prendere contatti perché questa è una delle attività che è più in fermento nel Parlamento europeo è fare networking è creare una relazione di contatto non solo per il deputato ma anche per chi fa il tirocino per chi fa parte degli staff dei deputati e quindi ricollego al terzo motivo per cui un tirocino al Parlamento europeo è una buona un'ottima opportunità che è quello di partecipare alla vita politica accanto a tutti questi interventi sui temi più disparati eccetera c'è tutta una parte di attività sicuramente più gioiosa più festosa ma non direi ludica perché significherebbe sminuirla tutta una parte di attività fatta di serate di rappresentanza eventi al Parlamento europeo celebrativi di artisti tradizioni eccetera che sono momenti in cui si sperimenta la vita politica di relazione si sperimenta ad esempio l'esistenza di rigidissimi protocolli e cerimoniali ricordo con con simpatia quando la deputata con cui collaboravo era stata invitata al compleanno del Dalai Lama e noi ridevamo tantissimo di questa cosa scherzando per l'intera settimana su che cosa regalare al Dalai Lama ma in realtà ci cervellavamo su un cerimoniale invece rigorosissimo sul quale dovevamo essere preparatissimi e preparare il nostro deputato in tutta questa vita quindi di relazione quello che può dare veramente un tirocino al Parlamento europeo è un gran numero di contatti e di occasione di networking come diceva chi mi ha preceduto fare un tirocino all'interno delle istituzioni dell'Unione europea non significa automaticamente entrare e lavorare nell'Unione europea non sono tirocini finalizzati all'assunzione ma sono tirocini che fanno assaporare la vita delle istituzioni europee e che sicuramente possono contribuire ad un bagaglio professionale molto particolare e ad accrescere una rete di contatti sicuramente diversificata e che raggiunge tutti i punti cardinali dell'Europa io dopo l'esperienza al Parlamento europeo sono tornata in Brianza sono tornata a casa a fare l'avvocato perché nel frattempo durante il dottorato facevo la pratica forense e sono diventata avvocato e questo potrebbe sembrare un passo indietro per qualcuno in realtà sono tornata a fare l'avvocato e grazie ai contatti che ho sviluppato a Bruxelles mi occupo anche di diritto internazionale e mi occupo di diritto internazionale in provincia che non è scontato io so di rivolgermi adesso ad un pubblico di studenti di provincia e questo non è affatto scontato perché tutti diamo per scontato che si possa entrare in un grande studio internazionale a Mirano o a Roma o in qualsiasi metropoli d'Europa ma fare diritto internazionale in provincia o avere una visione internazionale in provincia secondo me è qualcosa di diverso è un plus perché siamo in pochi e quindi è un plus che secondo me va veramente considerato va veramente considerato quindi non temiate di avere una visione europea ed internazionale in provincia perché questo potrebbe anche distinguervi la carta vincente potrebbe essere addirittura grazie grazie mille grazie mille avvocato Tonetti adesso darei la parola alla dottoressa Franca Fogliani Franca anche lei è un'amica di vecchia data rimanete con noi perché se arrivano le domande degli studenti poi ve le giro qua si passa di generazione in generazione perché quello che quello che stella cigni è stato per me Franca Fogliani lo è stato per la mia allieva per cui praticamente faccio anche la mamma delle amiche delle allieve ormai sono vecchia ma mi piace così allora Franca Fogliani brillantemente laureata dottorato di ricerca ed eccoci qui adesso Legal Advisor at European Commission come ci sei arrivata come ci sei riuscita raccontaci allora io sono arrivata alla commissione piuttosto tardi in realtà come dicevi tu io ho iniziato prima di tutto a Milano mi sono laureata ho iniziato si è menzionato prima ho iniziato la mia carriera in un grosso studio legale internazionale click for chance in finanza quindi lavorando in uno studio inglese dopo aver fatto questi famosi corsi a Strasburgo aver fatto un dottorato che comunque era in diritto civile ma era comunque portato verso un discorso di diritto comparato sempre quindi dicendo avendo sempre avuto un occhio piuttosto lungimirante sul fatto di portarsi fuori dall'Italia perché questo fino a quel momento mi era servito anche per una carriera nazionale chiaramente lavorando a click for chance io ero tutta contenta nelle mie prime esperienze lavorative di avere il mio troll per fare ping pong tra Milano Londra New York mi piaceva molto poi cosa è successo è successo che io per motivi personali mi sono dovuta trasferire all'estero ed io ho passato un anno di insegnamento a Parigi all'istituto de droit comparei che tu conosci benissimo a Parigi 2 diritto comparato ho preso una pausa i bambini quindi tanti discorsi personali per una donna e mi dicevo ma io poi ho veramente voglia di ritornare a lavorare in uno studio legale 24 ore su 24 è un'esperienza bellissima però in quel momento mi domandava avendo dei bambini piccoli perché no essendo curiosa di altre cose visto che mi trovavo a Parigi mio marito si trovava a Bruxelles e allora lì mi sono detta vabbè la Bruxelles Commissione Europea istituzione europea andiamo un po' a vedere cosa c'è io ho messo il mio curriculum in questo famoso sito EPSO che il collega Francesco Rosso menzionava prima così mi sono detta durante l'anno parigino che è stato per me un po' un anno sabbatico di vediamo cosa faccio di me stessa quindi già tardi nel mio percorso professionale mi sono detta vabbè facciamo questa cosa e mi hanno chiamato mi hanno chiamato come contract agent contract agent chi è? o temporary agent non mi ricordo come ho iniziato veramente contract agent ti chiamano la commissione può chiamarti sulla base delle tue competenze specifiche io in quel periodo in quel preciso frangente l'ho stata chiamata per delle competenze di diritto finanziario e quindi ho pensato bene ho detto beh questa è un'opportunità io la colgo e vado a vedere che cosa c'è è iniziato così alla commissione ripartendo diciamo dall'ultimo gravino della scala sociale della commissione se si vuole ed è stata un'esperienza bellissima appena arrivata non ho capito niente mi ricordo quest'idea che la commissione è qualcosa di enorme che non si capisce la gente parla per acronimi quindi tu il primo mese sei completamente sbatacchiato tra un ufficio all'altro tra un meeting all'altro vai a parlare di qua vai a fare di là e in fondo dici oddio ma che cos'è tutto ciò pensavo di essere abituata a una grande organizzazione perché in fondo lo studio legale da cui provenivo le università sono grandi istituzioni ma la commissione all'inizio ha avuto su di me che ero già matura quindi non ero certo diciamo una ragazzina neolaureata uno stagiera ha avuto un impatto abbastanza disorientante quindi i primi io direi tre mesi li ho passati a capire il funzionamento della commissione solo della commissione non delle istituzioni e allora la commissione funziona un po' io alla fine mi ero fatta questa idea funziona un po' come un ministero che ha vari come il Parlamento che ha vari ministeri ogni ministero ha una competenza io ho iniziato e sono ancora a DG Fisma che si occupa di finanza e quindi questo sarebbe come il ministero delle finanze e poi c'è la DG che si occupa della giustizia e fa giustizia ai consumatori poi c'è la DG che fa ambiente che adesso va molto di moda DG Environment fanno tutte le policy riguardante l'ambiente e quindi a seconda delle diverse competenze un singolo tornando a parlare del giurista il giurista può decidere di andare a lavorare certo nell'organo della commissione che è DG Justice ma poi va a fare molto su consumatore e tiene specifici di DG Justice ma può andare veramente ovunque può andare perché è una competenza settoriale comporta che come voi sapete la commissione ha il potere di iniziativa legislativa quindi il giurista può lavorare veramente ovunque anche ovviamente nel gabinetto ma quello poi verrò a questo è un discorso più politico ora io siccome è un lavoro anche molto tecnico vi ho preparato una brevissima presentazione che volevo caricare la vedete? Sì perfettamente magari la mi radisci la vedi grande la vedi grande ok perfetto allora come dicevamo all'inizio i requisiti d'ingresso sono certo una laurea in legge ma chi come me ha avuto già un'esperienza professionale piuttosto articolata può direttamente accedere a questi concorsi di AD7 che sono per specialisti quindi vuol dire che tutti i PhD master tutto quello che uno ha fatto tutto il patrimonio culturale acquisito fino a quel momento in cui deve fare il concorso naturalmente perché altro modo non c'è sì si può entrare come agente temporaneo si può entrare come contrat agent ma poi è a tempo più di sei anni non si può stare quindi uno secondo me si ama l'istituzione si è affascinato da questa vita delle istituzioni deve comunque mettersi in mente che un concorso lo deve preparare ci sono dei concorsi specialistici che sono diciamo richiede una preparazione più specialistica quindi l'iter del concorso è un pochino diverso da quello classico naturalmente abbiamo già insistito tanto ma le lingue sono importantissime come si diceva prima io lavoro ho sempre lavorato l'inglese l'italiano lo uso pochissimo lo uso se trovo un collega che parla italiano ma certamente non lo uso per lavorare è vero che si usa il francese un po' brexita ovviamente dato la spinta che il francese aveva perso nel tempo un po' le lingue ufficiali dell'unione sono come sappiamo molte più di tre ma le lingue della commissione sono tre inglese francese tedesco in realtà la nostra vita quotidiana si svolge in inglese col personale amministrativo quindi dalle segretarie al non lo so la persona che si occupa della nostra scrivania tutto quello che è utile però si parla in francese quindi almeno due lingue si devono sapere altre lingue sono molto benvenute poi vedremo perché perché si lavora un po' in tutte le lingue quindi se vuoi capire il tuo interlocutore è sempre bene parlarne più più di due e la commissione si incoraggia ci sono corsi durante gli orari di lavoro quindi però diciamo che l'inglese va benissimo l'inglese è assolutamente essenziale allora dove si va a lavorare in commissione se uno è un giurista il legal service è un po' è un servizio giuridico interno della commissione lavora con la presidente quindi con la con Bonter Lion come sapete quindi è un organo cioè è un si posso dire un organo ma è un ufficio a cui tutte le DG della commissione quindi tutti questi che io vi ho descritto come ministeri si rivolgono in caso di dubbi e inoltre rappresenta la commissione davanti alla corte di giustizia quindi si occupa di tutto il contenzioso della commissione ma è anche io sto lavorando su una direttiva ho un dubbio non riesco a capire se questo lo devo chiamare emendamento modifica qualunque tipo di dubbio io chiedo un parere al legal service quindi è un po' diciamo il nostro aiuto giuridico quotidiano chiaramente i giuristi del legal service è una posizione molto prestigiosa e io lo trovo veramente super affascinante chiaramente anche loro internamente sono divisi per competenze per materie ognuno di loro è affidato a una DG però è un lavoro anche questo è un lavoro bellissimo poi come vi dicevo l'altra DG per antonomasia dove ci sono sono tutti giuristi è la DG Just quindi DG Justice and Consumer che è responsabile delle politiche dell'UE in materia di giustizia diritti dei consumatori e uguaglianza di genere hanno molte più come potete vederle sul loro sito e poi ci sono se uno ha una passione specifica o perché no come me un background specialistico io ho finanza DG Fisma DG Competition DG Environment c'è anche DG Cultura ce ne sono tantissime ci sono tutte quelle che potete immaginare DG Move che è interessato ai diritti umani l'immigrazione ed ecco insomma molto di moda e molto potente naturalmente tutti lo sanno DG Competition DG Competition ha un suo attu soprattutto per il giurista che si occupa di state aid antitrust eccetera questa è una delle più vecchie DG della commissione ha un grossissimo potere poi vedremo perché quindi ci sono delle DG dove il ruolo del giurista è particolarmente forte devo dire anche a DG Fisma ed altre in cui si occupano dipende un po' dalla quantità da quanto legifrano queste DG oggi direi che DG Environment legifra molto moltissimo perché c'è il Green Deal quindi è diventata una delle DG dove i giuristi sono più richiesti quindi diciamo il ruolo del giurista può cambiare a seconda delle DG allora senza voler fare un corso di diritto europeo come abbiamo detto come diceva la collega precedentemente che ha lavorato al Parlamento la commissione ha un organo di iniziativa europea e questo è un organo di iniziativa legislativa e questo è tutto il bello è parte della bellezza del lavoro del lavorare alle istituzioni europee perché perché la commissione fa presenta le proposte legislative cosa vuol dire che improvvisamente si fanno delle consultazioni interne il giurista è chiamato a scrivere una bozza di proposta legislativa è il lavoro che fa il legislatore chiaramente non nasce l'idea di una proposta legislativa non nasce dal giorno alla sera alla mattina richiede tutto un lavoro molto particolare molto articolato che porta poi alla presentazione della proposta alle altre due istituzioni che sono il Parlamento e il Consiglio che sono i colegislatori quindi mentre la commissione ha il potere di proposta e di iniziativa legislativa poi i legislatori ufficiali dell'Unione sono Parlamento e Consiglio allora in questo contesto che cosa fa il giurista alla commissione per prima di tutto quello che viene discusso è quella che internamente si chiama la policy quindi dal gabinetto arriva l'interesse per esempio a legiferare su un determinato settore e quindi noi riceviamo la policy c'è un discorso politico dietro quindi c'è un'esigenza politica di scrivere una legislazione su un determinato argomento il giurista deve quindi innanzitutto incominciare a pensare l'idea che ha da dove nasce qual è il possibile background giuridico quindi è veramente un lavoro creativo in questo senso e presentare delle note le prime note che vengono scambiate internamente nella sua DG vengono messe in inter-service consultation si consulta il legal service e tutte le altre DG per vedere se questa cosa sta in piedi se va nella direzione politica che si voleva dopodiché si chiamano gli esperti dagli stati nazionali questa è una fase molto bella soprattutto io ho preseduto vari gruppi di esperti è molto molto interessante la commissione chiama avvocati professori anche giudici molti giudici da tutti e 27 gli stati li fa sedere a un tavolo sottopone questa prima bozza molto generica ma insomma deve avere un inizio una fine a volte si scrivono direttamente anche già gli articoli come la commissione li sta pensando e gli esperti che rappresentano tutti e 27 incominciano a dare le loro visioni allora questo è un momento dove veramente a me è successo io ero partita con un piano A e il piano è diventato prima B e poi C questo è un momento in cui quello che si diceva prima la flessibilità è fondamentale nel senso che bisogna fare una proposta che copra 27 ordinamenti certo deve essere un minimo armonizzazione fino a un massimo di armonizzazione quindi si va a vedere se è un regolamento una direttiva che tipo di strumento è ma in questo caso diciamo che qui si passa da una fase si continua in una fase creativa e poi si deve imparare molto si deve imparare molto perché gli esperti mandano delle relazioni per esempio questa proposta avrà questa declinazione nel diritto francese ci va bene non ci va bene e la proposta deve cambiare succederà questo nel diritto tedesco che dal punto di vista civilistico come voi sapete ha molte peculiarità e essendo uno stato molto forte molto potente ha sempre molto da dire e poi ci sono anche i stati piccoli la Repubblica Ceca è molto attiva sempre Malta i maltesi ogni stato difende la sua tradizione giuridica quindi tutto questo va preso come diciamo noi on board e trasformato incluso questo serve naturalmente a scrivere l'atto quindi il gruppo di esperti finisce con una relazione con un veramente io devo dire molto spesso scriviamo direttamente gli articoli e poi si passa alla fase successiva cioè si consultano i cittadini si fanno delle domande non si pubblica il testo perché ancora non è pronto ma si fanno delle domande dove tutti le università i cittadini chiunque vanno sul sito della commissione e dicono ci piace questa proposta perché non ci piace pensiamo questo e si raccolgono tutti questi dati e poi si fa si passa ci sono molte fasi una si chiama impact assessment si vede quanto costa allo stato membro implementare una certa direttiva se è efficiente che cosa succede per i vari 27 insomma si vedono più che altri profili economici quindi per quello si chiama impact assessment finché questa proposta finisce si chiude la fase di preparazione la proposta viene redatta legal service controlla ci sono tutta una serie di check interni e arriva finalmente come diceva la collega prima arriva nella casella dei colegislatori arriva arriva nella sua fase di negoziazione quindi esce dalle mani della commissione e arriva al consiglio al parlamento ancora una volta il ruolo del giurista cambia ancora quindi io stessa che mi sono alzato ho scritto questa proposta legislativa ho partecipato a tutto un discorso che è molto tecnico quando mi devo sedere con le altre istituzioni diciamo che la sprospettiva cambia ancora allora cambia molto anche tra consiglio e il parlamento la negoziazione inizia sempre prima col consiglio il consiglio invita la commissione a presentare e difendere la proposta e lì tutti i 27 stati membri ma a quel punto abbiamo seduti al tavolo non più degli esperti ma i ministeri della giustizia e i ministeri della finanza come nel mio caso ci va bene non ci va bene si incomincia a discutere in questi che si chiamano working party discutono la commissione chiaramente cosa fa se hai fatto l'avvocato e se hai insegnato sei un background accademico è molto utile primo perché ci sono diciamo dei discorsi di natura giuridica su altri ordinamenti di cui potresti essere totalmente a digiuno ma che devi velocemente masticare in qualche modo cercare di recepire questi quali ti devi confrontare al momento perché dovete immaginare la situazione in cui c'è un grande tavolo la commissione presiede insieme alla presidenza del consiglio e voglio dire se anche il diritto io mi dico di uno stato come Cipro lamenta una mancanza di quella categoria giuridica sta in quel momento la commissione convincere Cipro che quella è necessaria che il suo ordinamento in quel caso deve cambiare o farebbe meno ad accoglierla quindi ci vuole una certa diciamo prontezza intellettuale anche personale io non lo trovo mai facile il consiglio ma come dirò poco poi ancora peggio per me il Parlamento cioè i consiglieri nel Parlamento io le trovo ancora più difficili perché sul consiglio siamo ancora in un discorso molto tecnico in cui io personalmente sono sempre molto a mio agio perché di diritto si parla e si usano termini molto tecnici certo tecnici nei limiti del possibile perché siamo sempre davanti a 27 legislazioni si parla in inglese quindi insomma però insomma si sta in un ambito tecnico finché la proposta non arriva al Parlamento e al Parlamento io devo dire che la sua declinazione politica incomincia c'è la proposta incomincia a prendere un colore una connotazione politica molto forte adesso vi faccio un esempio concreto siamo tutti in mezzo alla crisi covid non solo lavoriamo da casa quindi è cambiato il modus di lavorare tutte queste plenarie al Parlamento eccetera si fanno online è molto strano ma si può si è fatto si fa si lavora e si litiga comunque si discute animatamente comunque cosa succede al Parlamento il Parlamento in epoca covid dice questa particolare direttiva mi preoccupa adesso perché c'è una crisi economica imminente io voglio che questa direttiva contrariamente a come la Commissione l'ha scritta e anche il Consiglio l'ha discussa mi dia molto più tutele per il consumatore il borrower voglio più cose e emendano e fanno emendamenti che prima non si erano neanche visti perché il periodo storico non lo richiedeva questi processi possono durare anni io sto lavorando su una direttiva da due anni quindi chiaramente insomma cambia un po' e lì è il momento ancora un momento di grosso adattamento anche perché appunto è molto politico quindi lì il tecnico cioè la Commissione che rimane un organo tecnico è veramente chiamata a secondare le visioni dei colegislatori e in questo caso il Parlamento di cercare di tradurre quello che loro vogliono in un emendamento accettabile per noi perché come diceva l'Avvocato che ha parlato prima di me gli emendamenti loro li fanno in una maniera certe volte anche spannometrica vogliono mettere dentro un testo perché gli interessa lo mettono quindi sta poi alla Commissione rilavorarlo in una maniera che sia magari compatibile con tutto l'European Framework quindi insomma c'è molto lavoro sia tecnico che anche personale perché sono discussioni in cui bisogna essere capaci un po' di convincere un po' di convincere un po' anche di ascoltare allora una fase interessante è quella del trilogo finisce diciamo quando finisce quando gli emendamenti del Parlamento finiscono si entra in trilogo dove la trilogo sono le tre istituzioni che si siedono al tavolo insieme il neologismo dell'Unione Europea è il trilogo assolutamente c'è tutto questo c'è questo latinorum che se uno pensa che finisca negli istituti legali non sa che cosa si dice in Commissione questo trilogo ci si siede tutte e tre le istituzioni e si discute anche in questo contesto la Commissione non è un legislatore quindi la Commissione deve in qualche modo tecnicamente tradurre la volontà del Consiglio del Parlamento ci vengono chiesti dei non paper quelli che chiamano non paper che altro non sono dei pareri legali su degli emendamenti presi dall'uno e dall'altro sostanzialmente Consiglio e Parlamento non dico che litigano però insomma possono avere posizioni molto divergenti e sta veramente alla Commissione farli incontrare fare incontrare i punti di vista perché se no la direttiva si può arenare mai vedere la luce io diciamo ho continuato l'attività accademica insegno Company Law a Lille in Francia e devo dire sui pacchetti legislativi della Commissione per esempio in Company Law ci sono almeno otto direttive che non hanno mai visto la luce di cui io parlo perché sono interessanti i contenuti sono interessanti ma non credo che la vedranno mai sono state bloccate perché i collegislatori non si accordano allora qui qual è il valore aggiunto della Commissione la Commissione qua si deve battere nel senso che se proprio la direttiva viene stravolta e perde il suo animo no è chiaro che si può bloccare ma finché si può si negozia e si arriva al risultato perché insomma alla fine se c'è un movente politico e per cui il Parlamento stoppa questa volontà politica deve essere in qualche modo traducibile nel diritto e quindi come diceva prima la collega che lavora alla Corte le lingue la lingua è tutto ma non è solo la lingua nel senso di traduzione chiaramente durante tutto questo processo abbiamo l'assistenza dei giuristi linguisti che grazie a Dio sono lì e tentano di tradurre immediatamente perché si lavora sugli articoli e sugli emendamenti c'è questo four column text quindi le prime tre colonne sono versione della Commissione versione del Parlamento versione del Consiglio e la quarta colonna che si scrive durante la negoziazione è proprio il testo che dovrebbe venire fuori e lì ancora il ruolo del giurista linguista che c'è al Consiglio che c'è in Commissione c'è ovunque è quello di aiutarci un po' a cercare di trovare le parole appropriate è fondamentale perché le parole appropriate equivalgono a concetti appropriati quindi le due cose vanno insieme non è solo un fatto di traduzione ecco poi vabbè senza annoiarvi questo vedo che il tempo stringe ci sono molte altre diciamo situazioni in cui la Commissione legifera anche autonomamente sono le level 2 legislation che sono atti qui vabbè vengono definiti non legislativi ma in realtà lo sono per noi per il giurista italiano lo sono perché sono atti di esecuzione atti delegati qui la Commissione agisce da sola non agisce col Parlamento e il Consiglio certo le proposte vengono sottoposte ma non esiste un trilogo quindi diciamo il procedimento è più veloce e quindi diciamo sono regole di attuazione alle direttive quindi per quello si chiamano level 2 sono comunque binding sono comunque diciamo però non non richiedono questo processo legislativo formale di cui abbiamo parlato prima ed è una competenza esclusiva della Commissione ora un'altra diciamo un'altra funzione molto interessante del giurista della Commissione è quello la Commissione viene definita questo si ripete tantissimo come custode dei trattati cosa vuol dire che si occupa anche dell'implementazione delle direttive quindi se la direttiva non è eseguita la Commissione apre una procedura di infringement contro lo Stato membro va lì e dice caro Stato membro guarda che io ti avevo detto questa direttiva e tu non l'hai implementata nel suo sistema quindi apre questa procedura di infringement ci sono delle sanzioni rappresenta la Commissione davanti all'Unione e allo Stato questo è anche un ruolo bellissimo è molto litigation è molto andare in tribunale alla Corte far capire cosa succede difficilmente lo Stato arriva a una procedura arriva a un procedimento davanti alla Corte di Giustizia ci si ferma prima si danno delle sanzioni si aiuta lo Stato a implementare ci si chiede perché però insomma è una cosa che esiste e soprattutto magari non nel campo dell'infringement contro lo Stato membro ma se uno lavora a DG Competition che come dicevo è molto è molto on fashion qui a Bruxelles è una DG molto potente perché è molto potente perché loro aprono direttamente delle procedure contro non contro gli stati ma contro le compagnie che non hanno seguito il diritto comunitario e quindi questo è l'impresa esatto contro le imprese che devono notificare DG Competition insomma hanno tutto questo dialogo con le imprese e loro danno autorizzazioni su divieti insomma autorizzazioni danno divieti insomma loro hanno un ruolo esecutivo diciamo nel senso di esecuzione di diritto vivente dell'Unione è molto più attivo di altri io personalmente mi occupo di legislazione quindi io sono quella che fa i triloghi e le proposte legislative però so che DG Comp per esempio è molto attiva dal punto di vista dei procedimenti davanti alla Corte loro si divertono molto incontrano tutti questi avvocati anche italiani di questi grandi studi e poi ultimo punto che io trovo molto molto affascinante del lavoro alla Commissione e anche questo su cui ho un'esperienza diretta è che la Commissione rappresenta l'Unione a livello internazionale quindi conclude i trattati cosa vuol dire in questo settore si lavora molto con DG Trade che è un'altra DG molto importante molto antica dell'Unione della Commissione e con il CIS sarebbe l'EAS l'External Action Solvist dove ci sono tutti i diplomatici dell'Unione Europea si lavora per concludere i trattati ultimamente un esempio che avete visto tutti è quella della Brexit Task Force cioè è stata costituita una task force la Commissione lo fa spesso per negoziare Brexit quindi in tutto questo in tutta questa difficile negoziazione chiaramente è stato creato un organo ad hoc nella Commissione per concludere chiaramente questo accordo con l'Inghilterra e vabbè l'avete seguito da tutti comunque questo è uno degli esempi io personalmente mi sono occupata di Iran cioè quindi quando gli Stati Uniti sono usciti dal JCPOA che è un trattato internazionale sul nucleare abbastanza importante insomma direi molto importante hanno ridato le sanzioni all'Iran la Commissione si è diciamo agito un po' veramente con tutta la diplomazia europea per cercare di tenere l'Iran dentro il trattato e quindi sì è stata un'esperienza molto nuova per me che insomma io mi occupo di finanza queste sanzioni queste sanzioni imposte all'Iran avevano che natura finanziare quindi io sono stata mandata a fare questi meeting con gli iraniani è stata un'esperienza molto forte interessante le donne non possono parlare quindi uno deve delegare c'è di tutto quindi io mi chiedevo mi dicevo magari il lavoro del funzionario è noioso non so io dopo anni di studio legale è un'università così interessante magari mi annoierò alla Commissione tutto il contrario ecco tutto il contrario ogni giorno come si diceva può arrivare sul tavolo non si sa quale dossier non si sa quale di risvolti ma è un lavoro bellissimo che fa usare tutte le competenze che uno ha possibilmente accumulato nella vita quindi io invito veramente gli studenti non solo se vogliono dall'inizio fare uno stagio perché insomma la Commissione è piena di questi blue book training ed è un'esperienza molto bella anche molto divertente adesso c'è il covid sono tutti un po' chiusi in casa ma devo dire che è come un po' l'anno Erasmus per loro ma poi dal punto di vista culturale è veramente una continua scoperta una continua messa in discussione insomma quello quello che di bello posso dire su questo lavoro io insomma lo direi ma so che abbiamo un limite di tempo Barbara ho già sforato grazie grazie mille ti ringrazio moltissimo anche per la presentazione che spero che ci vorrai dare così la possiamo lasciare ai nostri studenti ti chiederei di interrompere la condivisione così do immediatamente la parola la professoressa Silvia Marino che ringrazio per essere qua con noi oggi abbiamo sforato coi tempi ma questo è un last but not least perché proprio Silvia Marino insegna da noi diritto dell'Unione Europea e la sua voce oggi non poteva non poteva mancare a te Silvia la parola molte grazie Barbara buongiorno a tutti e ringrazio per il coinvolgimento in questa bella giornata delle carriere internazionali io torno un po' indietro cioè torno alla Corte di Giustizia per fare qualche segnalazione ulteriore rispetto a quella che quelle che già sono state fatte sul ruolo dei referendari presso la Corte di Giustizia il referendario non è una figura particolarmente conosciuta ad esempio nei corsi base di diritto dell'Unione Europea non ne parliamo perché cerchiamo di focalizzarci su altri ruoli che formalmente sono più importanti e sono anche disciplinati dai crattati ma ciò non toglie che il referendario è una figura assolutamente essenziale all'interno della Corte di Giustizia perché appunto come si diceva il referendario è un assistente sia del giudice sia dell'Avvocato generale ora il giudice è chiaro l'Avvocato generale è anche una figura molto interessante presso la Corte di Giustizia perché è ancora una volta un giurista esperto l'Avvocato generale ha le stesse competenze giuridiche del giudice che prepara però le cosiddette conclusioni per per le cause quindi ha il ruolo di amicus curia quindi cerca di aiutare anzi proprio aiuta la sezione giudicante e i giudici a raggiungere la loro sentenza raggiungere le loro conclusioni quindi sia ogni singolo giudice sia ogni singolo Avvocato generale ha il suo staff interno che è composto tra i vari appunto dai referendari chi sono questi referendari beh come competenze diciamo minime è necessaria una laurea in giurisprudenza è una buona conoscenza della lingua francese almeno buona certo che altre competenze sono molto utili all'interno della Corte di Giustizia quindi spesso accade che i referendari siano dei giovani dottori di ricerca quindi persone che hanno ulteriormente approfondito i loro studi con un dottorato di ricerca specialmente ovviamente con delle specializzazioni o nel diritto dell'Unione Europea soprattutto o nel diritto internazionale la lingua francese la conoscenza della lingua francese come è stato sottolineato prima è molto importante perché effettivamente è la lingua con cui la Corte di Giustizia lavora al suo interno non necessariamente nei procedimenti e nelle udienze ma al suo interno la lingua utilizzata è quella francese quindi per confrontarsi con le altre persone che lavorano alla Corte il francese è estremamente utile è certo che la conoscenza di qualche altra lingua ulteriore rispetto alla lingua madre e alla lingua francese è estremamente utile quindi se è vero che ci potremmo accontentare di una laurea in giurisprudenza e della conoscenza di una lingua diciamo che qualche elemento di competenza in più così attestato è particolarmente utile cosa fa il referendario il referendario appunto assiste giudici il proprio giudice o il proprio avvocato generale nella stesura rispettivamente delle sentenze e delle conclusioni quindi al referendario spetta tutta una parte di ricerca grazie anche alle norme biblioteca di cui dispone la Corte di Giustizia una ricerca sui precedenti e molto spesso anche sulle legislazioni nazionali perché lavora sulle diverse formulazioni linguistiche sulle diverse versioni linguistiche in modo tale da poter presentare già una prima idea una prima bozza di quelle che potranno essere le conclusioni dell'avvocato generale oppure la sentenza della Corte di Giustizia la nomina del referendario è essenzialmente fiduciaria ciascun giudice ciascun avvocato generale può scegliere il referendario la persona di cui ha fiducia e molto spesso capita che il giudice e l'avvocato generale scelgano dei referendari provenienti dal proprio stesso Stato membro e ora volevo condividere un attimo lo schermo dovrei riuscire ok vedete ad esempio che il giudice alla Corte di Giustizia la professoressa Lucia Serena Rossi ha un bel un bello staff lì che il segretario è essenzialmente il referendario ha cinque persone che la assistono e tendenzialmente si preferisce scegliere delle persone che provengono dal proprio paese quindi tre su cinque sono sicuramente italiani sella che trovate qui ha ancora una maggior preferenza rispetto all'origine italiana come vedete dai nomi perché si ha questa preferenza semplicemente per maggior facilità di lavoro all'interno di quel di quell'ufficio quindi magari in quell'ufficio effettivamente si lavora in lingua italiana anche se poi l'elaborazione dei testi sarà eventualmente in un'altra lingua che poi attenzione bene gli avvocati generali possono scrivere le loro conclusioni in una lingua di loro scelta quindi non sono né vincolati alla loro lingua madre né vincolati a quelle che sono né vincolate al francese né alle lingue di lavoro delle altre istituzioni di cui abbiamo parlato prima molto spesso la lingua scelta dall'avvocato generale e la propria lingua madre evidentemente però non è sempre così ad esempio ricordo una battuta di una giurista linguista presso la corte di giustizia che un po' scherzando e un po' seriamente ringraziava l'avvocato generale finlandese per il fatto di scrivere le proprie conclusioni in lingua inglese facilitando tutto il lavoro di traduzione certo che ci sono i giuristi linguisti anche per la lingua finlandese che ha lo stesso valore di tutte le altre lingue ma nel momento in cui il testo è in inglese è più facile la traduzione in altre lingue semplicemente perché più persone sono competenti per la lingua inglese che non per la lingua finlandese quindi può capitare che all'interno del gabinetto del giudice o dell'avvocato generale si lavori nella lingua ufficiale dell'Unione Europea in cui vi è la maggioranza alla lingua ufficiale dell'Unione Europea nativa del giudice o dell'avvocato generale pur sempre però nella stesura eventuale del testo in altre lingue la durata trattandosi di un incarico fiduciario ossia il numero di referendari per giudice avvocato generale è variabile forse l'avete notato nella schermata precedente l'avvocato generale tedesco ha solo tra virgolette quattro referendari e anche la durata dell'incarico dipende dalle da alterne sorti cioè il dottor Paolo Iannuccelli ad esempio ha cominciato come referendario per il giudice professore Antonio Tizzano che è stato giudice presso la corte di giustizia per molti anni fino a divenirne vice presidente conclusosi il lavoro del professor Tizzano presso la corte di giustizia il dottor Paolo Iannuccelli dopo una decina di anni presso la corte di giustizia anche qualcuno in più effettivamente ha un'esperienza notevolissima come referendario tanto che il giudice della corte di giustizia successivo la professoressa Rossi ha rinnovato la fiducia verso il dottor Iannuccelli quindi un po' la durata dell'incarico un po' è legata ovviamente alla qualità del proprio lavoro un po' è legata dalle vicende della persona stessa da cui si viene nominati e un po' può dipendere come questo caso specifico dal fatto che la persona con esperienza viene comunque nuovamente nominata anche dal successore per quanto riguarda l'Italia come da trattati vi è un giudice italiano presso la corte di giustizia in senso stretto perché vi è un giudice per stato membro vi sono due giudici presso il tribunale due giudici per ogni stato membro e poi siede in maniera permanente un avvocato generale italiano gli avvocati generali sono 11 quindi meno rispetto agli stati membri ma l'avvocato generale italiano è quello fisso ce ne deve essere sempre uno nominato individuato dall'ordinamento italiano e quindi in effetti anche se c'è questa regola non scritta ma una regola molto pratica per cui vi è una preferenza per un giurista proveniente dallo stesso ordinamento del giudice dell'avvocato generale in realtà avendo quattro posti complessivamente intesi riservati all'Italia vi sono anche numerosi posti come referendario si tratta di un'esperienza estremamente interessante che consente non solo di lavorare nella pratica della Corte di Giustizia anche se un poco dietro le quinte approfondendo quindi anche la ricerca gli strumenti di ricerca è un'esperienza sicuramente molto coinvolgente tanto che molti dei referendari hanno delle carriere estremamente di estremo successo quando ritornano nei loro paesi di origine quindi conclusasi questa esperienza alcuni grazie all'esperienza di ricerca hanno un curriculum già pronto e adeguato per la carriera accademica nei loro ordinamenti di provenienza oppure altri preferiscono o hanno miglior successo presso studi internazionali quindi ora non so se suggerire una carriera come quella del dottor Iannuccelli che evidentemente si trova molto bene presso la corte di giustizia e con quel ruolo ma sicuramente un periodo di lavoro come questo apre non solo la mente nel momento in cui Selima apre a grandissime opportunità nel momento in cui anche per motivi personali abbiamo appena sentito che ci sono motivi personali che spingono a fare certe scelte anche se per motivi personali poi si volesse lasciare la carriera presso un'istituzione europea e individuarne una nuova all'interno di uno Stato membro solo per concludere solo i gabinetti del Presidente e del Vicepresidente della Corte di Giustizia sono molto più ampi evidentemente perché Presidente e Vicepresidente hanno anche ulteriori compiti e competenze per cui in questo momento il Presidente della Corte di Giustizia ha un gabinetto che comprende altre 12 persone di cui appunto alcuni referendari e altre persone però con altre funzioni visto il suo ruolo è una carriera che va costruita un po' fin dall'inizio visto che appunto non solo serve la laurea in giurisprudenza ma anche qualcosa in più quindi la competenza linguistica va sempre a braccetto con le competenze giuridiche e sarebbe sicuramente un un'esperienza pluriannale quanto meno pluriannale che consiglierei a chiunque voglia farsi un buon bagaglio culturale sia per una carriera all'interno delle istituzioni prima sia per una brillante carriera a livello nazionale nel caso di rientro in Italia vi ringrazio per l'attenzione grazie grazie mille Silvia Marino noi abbiamo sforato un po' con i tempi per cui vedo che non ci sono domande nella chat molto probabilmente visto uno degli studenti poi ce le porranno in un secondo momento comunque voglio ringraziare tutte le relatrici di questa mattina la dottoressa Stella Cini Angelidis la dottoressa Martina Tonetti ora avvocato la dottoressa Franca Poliani e la professoressa Silvia Marino ringrazio anche i tecnici che ci hanno seguito dall'inizio in modo solerte vorrei dire una parola agli studenti perché spesso arrivano gli studenti e mi dicono ah ma lei quella lì è stata fortunata perché ha avuto questo quell'altra è stata fortunata perché ha avuto quella idea ma ragazzi guardate che la fortuna non esiste esiste il momento in cui il talento incontra l'occasione per cui cercate di credere nel vostro talento alimentate il vostro talento e soprattutto cercate la vostra occasione Michela vuoi riprendere tu la parola per concludere dall'appuntamento alle 14 io in realtà volevo ringraziare anch'io perché pur non essendo un giurista mi sono divertita tantissimo cioè avete raccontato un mondo veramente che mi ha divertita tantissimo e avete dato una quantità di dettagli fondamentali quindi io vi ringrazio di cuore non estendo il mio mestiere a me è piaciuto veramente tanto ringrazio anch'io i tecnici appuntamento alle 14 facciamo un salto nel mondo dei fisici in ambito internazionale ma sempre comunità europea rimaniamo perché almeno uno di loro uno è vincitore di ERC l'altro lavora per la comunità europea quindi è proprio un legame stretto 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 grazie a tutti veramente grazie 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 a voi welcome to the physics session della giornata interna delle carriere internazionali buongiorno anzi buon pomeriggio ormai e benvenuti ai nostri relatori del pomeriggio ovviamente di nuovo rinnovo il benvenuto a tutti i ragazzi che sono collegati spero che alcuni di loro siano rimasti in collegamento anche stamattina se siete tutti nuovi sapete che questa è la una delle due giornate che organizziamo nell'ambito della dell'iniziativa New Career Opportunities nell'ottica di raccontarvi un mondo un mondo a cui magari non avete mai pensato dal punto di vista delle professioni della vostra professione oppure a cui avete pensato ma non sapete come arrivarci stamattina abbiamo spaziato dai dottorato a lavorare nell'ambito della carriera diplomatica da come si entra in una carriera nell'Unione Europea a quello che fanno i giuristi all'interno dell'Unione Europea oggi pomeriggio ci occupiamo di scienza ci occupiamo dei fisici in ambito internazionale che saranno in strettissimo collegamento con quello di cui abbiamo parlato stamattina un po' perché alcuni di loro sono vincitori di progetti un po' perché tutti loro lavorano più o meno sparsi in giro per il mondo e se non per il mondo per la comunità europea e un po' anche perché il nostro primo speaker che sarà il dottor Antonio Bulgeroni fa proprio parte della European Commission questo è un evento live quindi voi non potete fare direttamente le domande a voce purtroppo agli speaker ai relatori quindi però potete scrivere via chat quindi io mi aspetto oggi pomeriggio un pollulare di domande via chat i moderatori siamo io e la professoressa Levy quindi voi farete le domande e noi le faremo ai relatori e grazie ai servizi tecnici che ringrazio di nuovo come ho ringraziato stamattina tutti questi eventi sono videoregistrati per chi ovviamente ci ha fornito la liberatoria e quindi rimarranno sul nostro sito fino alla fine dei tempi quindi i nostri futuri studenti possano sempre cliccare sulle presentazioni dei nostri ospiti della sessione di oggi pomeriggio ricordo ai relatori che ringrazio ovviamente per l'entusiasmo con cui hanno accettato di essere presenti e ringrazio Alessia alla professoressa Levy che è riuscita a organizzare una sessione tutta dedicata ai fisici di cui sono particolarmente orgogliosa e ricordo di stare abbastanza nei tempi perché abbiamo una tempistica massima diciamo non vorremmo sforare più di tanto però ovviamente se poi le domande saranno tante vi chiederemo la pazienza di rispondere a tutte le domande e adesso mi taccio e lascio subito la parola al dottor Antonio Bulgeroni ciao a tutti grazie Michela grazie Alessia per avermi dato questa possibilità adesso se i mezzi tecnici me lo permettono faccio partire la presentazione che spiro vediate tutti e quindi vi ringrazio per avermi invitato e vi ringrazio già in anticipo per la pazienza che porterete se vi va nei prossimi 10-15 minuti cercherò di spiegarvi che cosa ci fa un fisico che si è laureato all'Insubria come spero tanti di voi farete a lavorare alla Commissione Europea come Michela mi ha già presentato sono Antonio Bulgeroni ma sia qui in Germania dove lavoro sia all'Insubria tutti mi chiamano Toto quindi se mi chiamate Antonio c'è il rischio che risponda a qualcun altro ora cominciamo da un po' di storia questo sono io più o meno qualche settimana fa e non sono molto diverso da quello che sembro sì mi è venuta la barba bianca da quando ho lasciato l'Insubria qualche decennio fa ho lasciato l'Insubria dopo la laurea in fisica che ho fatto ho svolto con il professor Caccia sullo sviluppo di rivelatori a pixel per quello che doveva essere per quello che è stato appunto l'esperimento di fisica delle alte energie ad Atlas a CERN dopodiché ho fatto un dottorato di ricerca a metà strada tra Como e Milano nel senso che Milano mi pagava e il lavoro lo faceva a Como ancora sui rivelatori di particelle ma questa volta con elettronica integrata dopodiché si sono susseguiti una serie di assegni di ricerca tra Roma e Milano sempre su sviluppo di rivelatori per i futuri acceleratori e i futuri esperimenti agli acceleratori lineari dopo questa breve introduzione c'è stato della mia carriera c'è stata una vera e propria rivoluzione perché per la prima volta ho cambiato posto all'interno di un impianto di accelerazione di particelle cioè fino ad allora andavo ai test beam per sedermi dalla parte di quelli che volevano il fascio e dopodiché mi sono trovato a lavorare come cyclotron engineer come ingegnere di macchina all'acceleratore che c'è al centro comune di ricerca di Ispra è stata un'esperienza bellissima che ha decisamente cambiato la mia vita professionale perlomeno perché un ciclotrone è un acceleratore sufficientemente piccolo perché scusate l'annuncio è sufficientemente piccolo perché ci possa stare all'interno di un edificio di piccole dimensioni ma al tempo stesso per un giovane e curioso scienziato è un vero e proprio parco giochi perché ogni giorno c'è qualcosa di nuovo qualche sfida nuova con cui cimentarsi è stata un'esperienza fondamentale perché è stato anche il mio primo e vero incontro con la commissione europea questo perché l'acceleratore questo ciclotrone era al cosiddetto joint research center della commissione europea che cos'è questo joint research center ve lo voglio presentare utilizzando un minuto e mezzo del vostro tempo facendovi vedere questo breve spot pubblicitario è in inglese ma il messaggio è abbastanza chiaro e se non c'è qualcosa che vi sfugge vedremo di raccontarvelo più avanti spiegarvelo più avanti quindi se siete pronti faccio partire il video di raccogliere di raccogliere based on scientific evidence. A job we do at the joint research center. We are the European Commission's in-house science service. We act as a knowledge broker providing scientific and technical support to EU policymakers. Our research contributes to a healthy and safe environment. Secure energy supplies, sustainable mobility, financial stability, innovation and growth. and consumer health and safety among others. We collaborate with international organizations and work with more than 1000 research organizations worldwide. Taking part in more than 100 networks at national, EU or global level. Want to know more about what we do and how we do it? Visit our science hub or follow us on Twitter at EU underscore science hub. Perfetto. Quindi, se vogliamo riassumere, possiamo dire che il Centro Comune di Ricerca, o in inglese il Joint Research Center, si occupa di fornire quelle che sono le basi tecnico-scientifiche, i fatti su cui i legislatori europei, siano questi di base a Bruxelles oppure nelle varie capitali degli stati membri, possono basare lo sviluppo delle loro politiche, in modo da avere delle leggi, delle regolamentazioni, che sono basate su fatti scientifici e non su ipotesi azzardate o fatti non proprio comprovati. Ora, sia chiaro, il nostro compito come scienziati è fornire le informazioni vere, i fatti scientifici, se poi i politici decidono di seguirlo o meno, quello è un discorso che purtroppo esula dalle nostre competenze. Ma nella pratica che cosa vuol dire? Allora, cercherò adesso di rappresentarvi qualche esempio di attività. Queste vanno dagli studi sulla contraffazione alimentare, per esempio per sapere se il pesce che stai mangiando è veramente quello che è indicato sull'etichetta che al supermercato hai visto, studi sulla mobilità sostenibile, come possono essere l'impatto delle stazioni di ricarica sulle interferenze date e trasmesse sulla rete elettrica, oppure andare a vedere qual è l'impatto dell'uso o l'abuso di antibiotici, come viene fatto oggigiorno, sull'ambiente, oppure monitorare con tecniche di analisi delle immagini satellitari lo spostamento e la migrazione delle foreste sul territorio europeo. Si tratta quindi di uno spettro di attività che è veramente ampio, si tratta di tantissimi ambiti di ricerca, sono tutti però sostanzialmente ambiti di ricerca applicata. Quindi se il vostro pallino è quello di studiare il bosone di Higgs, probabilmente non troverete un gruppo all'interno del JRC che se ne occupa, ma se siete invece più interessati a scienza applicata, fisica, chimica applicata, allora sicuramente troverete qualcosa che fa al vostro caso. Dove facciamo tutta questa ricerca? I più di 3.000 dipendenti del Joint Research Center sono sparsi su 5 stati membri dell'Unione. A parte il quartier generale che è situato a Bruxelles, il più grande sito è appunto quello di Ispra, che si trova sulle sponde del Lago Maggiore per chi non avesse un'idea, seguito dal sito tedesco di Casrue, dove sono io, dove lavoro io. Poi ci sono i due centri in Belgio, a Ghele e a Petten, nei Paesi Bassi, per concludere poi con l'ultimo nato che è il centro di Sevilla in Spagna. Quindi, come vi dicevo, ognuno di questi siti ha più o meno una vocazione chiara e il sito di Casrue sin dalla sua origine ha ispirazione nucleare, per così dire. Ora, forse non tutti hanno riconosciuto, ma questo schizzo colorato a mosaico sullo sfondo di questa slide è la cosiddetta carta dei radioisotopi di Casrue in forma stilizzata. prende il nome proprio dalla nostra città perché siamo noi a compilare questa raccolta e per chi non lo sapesse si tratta di una evoluzione della tavola periodica degli elementi, dove oltre ad rappresentare tutti gli elementi conosciuti, vengono rappresentati anche tutti gli isotopi di ciascuno degli elementi che sono conosciuti. e quindi ogni due anni esce una nuova release di questa collezione che è curata da alcuni dei nostri colleghi e il signor radioisotopo di Casrue e il mio collega che vedete qua in primo piano con la giacchetta marrone, mentre partecipa all'inaugurazione di una rappresentazione molto artistica della carta dei radioisotopi all'interno del nostro edificio qui al Joint Research Center. A Casrue ci occupiamo di tutto il ciclo del combustibile nucleare. Cosa vuol dire? Che se escludiamo tecniche di tecniche minerarie per l'estrazione dell'uranio da sottoterra, ci occupiamo di tutto il resto, quindi di arricchimento, di conversione, fino a formare quelli che sono i cosiddetti pellet, le pastiglie che vengono messi all'interno del reattore per generare energia, per poi completare il ciclo con eventualmente un riprocessamento del combustibile, la separazione dei prodotti di fissione e andare a studiare quelli che sono gli aspetti legati alla sicurezza per il cosiddetto final disposal, ovvero la gestione del rifiuto nucleare all'interno dei siti geologici. Ora, a tutto questo dobbiamo aggiungere anche le cosiddette attività di salvaguardia nucleare, la ricerca forense ancora in ambito nucleare e le non power application come per esempio la alfa immunoterapia che anche questa è svolta all'interno del nostro sito. Come lo facciamo? Beh, abbiamo principalmente due metodologie. Nel caso di... nel caso dobbiamo utilizzare o maneggiare delle quantità di radioattività che sono limitate, ma sono comunque pericolose in termini di contaminazione, quindi si parla di sorgenti aperte che possono essere polveri oppure liquidi, utilizziamo le scatole a guanti. Questi sono dei piccoli laboratori chiusi all'interno di quella che potrebbe rassomigliare ad una incubatrice dove si mettono i bambini nati prematuri. E quindi tutto viene... tutto l'accesso al piccolo laboratorio all'interno avviene attraverso questi guanti spessi bianchi che vedete Bert che sta maneggiando in questa fotografia. Invece quando le quantità di radiazioni sono molto più importanti, quando per esempio si tratta di utilizzare interi pellet di combustibile esausto, combustibile nucleare esausto, allora utilizziamo le celle calde, hot cell in inglese, che il concetto è simile solo che il laboratorio è messo all'interno di una... di un... di un locale schermato che... da cui... il cui accesso è consentito attraverso l'utilizzo di pinze comandate dall'esterno, questi cosiddetti telemanipolatori. In questa terza fotografia vedete una di queste pinze che sostiene appunto un frammento di combustibile irraggiato. Ognuna di queste celle, giusto per darvi un numero, è autorizzata ad operare fino a un milione di curi. quindi si tratta veramente di una quantità di attività veramente molto alta. E che cosa faccio io di preciso? Beh, io mi occupo di microstruttura, di analisi di microstruttura su materiali nucleari. Lo faccio principalmente con tecniche di microscopia ottica ed elettronica e in questa fotografia mi vedete maneggiare all'interno di una scatola guanti la sorgente di elettroni di un microscopio elettronico. E lo faccio quotidianamente anche oggi con lo scopo... lo scopo fondamentale di studiare quelle che sono le evoluzioni che avvengono durante il processo di irraggiamento, cioè durante l'utilizzo del combustibile nucleare e valutare quelle che possono essere le conseguenze in termini di sicurezza durante il irraggiamento e in termini di comportamento dello stesso combustibile durante la fase di stoccaggio fino a quando tra 100 mila anni o 200 mila anni quando sarà il combustibile per essere arrivato un livello di radiotossicità da non porre più problemi per l'eventuale interazione con la biosfera. Dicevo appunto che utilizziamo tecniche di microscopia non solo per visualizzare le immagini ma anche per fare spettroscopia come spesso accade. Ora lì ci sono una serie di sigle che purtroppo non c'è tempo per entrare nel dettaglio ma voglio giusto farvi vedere due rapidissimi esempi. Il primo esempio è tratto da una ricerca che abbiamo fatto un mio collega ed io per studiare gli effetti di interazione della ablazione laser su cristalli singoli di uranio. Ora non sto a spiegarvi che cos'è la laser ablation. quello che voglio semplicemente dirvi è che molto spesso capita che tecniche comuni come quella che possono essere spettrometria di massa in questo caso non abbiano un bagaglio di conoscenze in letteratura molto ampio quando applicate a materiali nucleari perché non è così comune avere un laboratorio dove si può maneggiare appunto ossido di uranio. Per tale motivo sempre dobbiamo ripartire da capo per così dire e quindi dobbiamo metterci a studiare tutte quelle che sono l'ottimizzazione dei parametri della strumentazione in modo da poter ottenere il massimo. quello che vedete nella foto è l'effetto di aver sparato un laser ad alta potenza sopra un cristallo singolo di uranio e si vede proprio come la forma sia come quella di un sasso che cade sulla superficie di un lago piatto. ancora di più è se aumentiamo un po' la magnificazione e guardiamo sul bordo dove si vedono questi splash che dimostrano come in meno di 4 secondi abbiamo portato l'uranio solido in un liquido che è fuoriuscito dal bacino rappresentato appunto dal fondo del cratere per andare a spargersi tutto intorno. a parte la bellezza intrinseca di questa foto scusate il mio romanticismo c'è della scienza dietro che siamo andati a quantificare e di cui vi riporto alcune informazioni qua sulla sinistra. un secondo esempio per essere proprio così breve è invece legato alla ricerca di un'altra collega che è passata dal nostro laboratorio. lavorare nel laboratorio di microscopia vuol dire che molto spesso si fa come una sorta di conto terzi nel senso che tante persone tanti colleghi arrivano con delle loro ricerche e chiedono l'aiuto dei microscopisti per fare delle analisi. ecco nel caso specifico abbiamo fatto con la dottoressa Andrello un lavoro di studio per la interazione del sodio liquido con l'uranio nell'ipotesi di sviluppo di reattori di quarta generazione raffreddati a sali fusi. la dottoressa Andrello oltre ad aver ottenuto così facendo un PhD all'Università di Lione ha anche conseguito il primo premio alla Numart Competition quindi è la competizione per artistica sui nuclear material proprio di quest'anno del 2020 con questa foto che ha definito come un Rocky Cliff o Sodium Uranate o Uranium Oxide Single Crystal. E quello che vedete in poche parole qua, non so se vedete il pointer del mio mouse quello che vedete è un mare rappresentato da una superficie quasi piatta del cristallo singolo di uranio sormontata appunto da questa ripida scogliera che invece è lo strato di interazione generato dall'uranio con il sodio liquido. anche in questo caso oltre alla bellezza di questa immagine la dottoressa Andrello ha ottenuto tutta una quantità di informazioni relative alla cinetica di questa interazione che andrà ad aiutare gli enti che faranno la release della licenza per questi reattori sulla safety di giudicare la safety di questi nuovi tipi di combustibili. Questo mi porta alle conclusioni più o meno in tempo e quindi riassumendo il tutto la mia esperienza internazionale è qui al Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea ci occupiamo non solo di nucleare, questo è quello che faccio io, ma l'ambito di applicazione del JRC è veramente amplissimo e tutti gli ambiti che sono di interesse per la vita dei cittadini europei e non solo. La Commissione come il mio collega di EPSO stamattina probabilmente ha già accennato a chi era presente è un ottimo datore di lavoro e non lo dico solo per gli stipendi, anche come qualità del lavoro e come per esempio la possibilità di offrire integrazione per le famiglie. Ora lo so, magari qualcuno di voi è troppo giovane per pensare alla famiglia, ma prima o poi questa arriverà. devo dire che è molto bello lavorare in un centro che è così internazionale e lo è per natura nel senso che non è il centro italiano, non è il centro tedesco, è un centro della Commissione Europea quindi ci siamo veramente tutti e se magari non vi va di fare questa scelta per il resto della vostra vita e comunque resta comunque una valida occasione di crescita personale e professionale anche per una posizione a tempo determinato per un postdoc o per un dottorato, 2, 3 anni, 4, 5, 6 anni dipende un po' da quanto voi siete disposti a investire in questa tipologia di lavoro. Ci sono sempre delle posizioni aperte, come vi spiegava stamattina il mio collega di EPSO seguire la procedura EPSO vi permetterà di avere accesso anche alle posizioni a tempo indeterminato per il JRC esiste anche una, chiamiamo la scorciatoia, nel senso che per le posizioni a tempo ecco, guardiamo un secondo la sua mano di telefono e esiste anche la possibilità di avere delle posizioni a tempo determinato sottomettendo un curriculum e facendo un pre-test di selezione e questo lo tenete cliccando sul primo link che vedete qua sopra. se avete domande sono qui a vostra disposizione. Grazie mille Toto, intanto mentre guardo se Roberto mi manda eventuali domande una domanda ce l'ho io, oltre alla possibilità di un percorso dal punto di vista tempo determinato, tempo indeterminato visto che immagino che nella platea ci siano degli studenti più o meno giovani e che abbiamo detto studenti che stanno seguendo il corso di laurea o studenti addirittura che devono ancora scegliere. Esiste anche la possibilità di un tirocinio o una tesi di laurea? Cioè esiste la possibilità di entrare prima al GRC e non semplicemente con un cioè non semplicemente e non già a livello del dottorato? Sì certo, ci sono sempre sul primo link che vi mostravo ci sono le possibilità per le cosiddette trainership. Questi sono dei percorsi che hanno una durata solitamente limitata e che diciamo coprono più o meno sei mesi e sono piuttosto difficili qui a Casrue nel senso che essendo un centro, un sito nucleare abbiamo una quantità di requisiti per l'accesso che è piuttosto alta quindi ci vogliono tre mesi prima di poter iniziare veramente a lavorare e i restanti tre mesi sono veramente pochi per fare un buon esperimento. Questo non toglie però che a Ispra e in tutti gli altri siti queste posizioni da sei mesi siano molto interessanti. Al link che trovate qua sopra ci sono le posizioni per tutti i siti quindi non è limitato al sito di Casua. Dopodiché abbiamo la possibilità per dottorati quindi noi non possiamo chiaramente dare il titolo di dottore di ricerca questo spetta all'università ma abbiamo dei contratti di collaborazione con alcune università che hanno partecipato ad una selezione e con cui possiamo avere appunto dei dottorati di ricerca in cui l'università dà il titolo e noi diamo la possibilità di svolgere attività di ricerca per esso ai nostri laboratori. Un ultimo punto è quello del open access ai nostri laboratori. un po' come succede per il beam time al CERN piuttosto che ad ESI anche noi abbiamo una serie di facility per cui è possibile accedere tramite l'applicazione di una sottomissione di un piccolo progetto e abbiamo sia qui a Casua sia a Gale e a Petten la possibilità di fare esperimenti chiaro, Corona permettendo, quindi tutto questo era valido nell'era pre-pandemica nell'era pre-22 febbraio 2020 diciamo siamo tutti nella stessa barca. allora ovviamente ricordo se per caso qualcuno non si è collegato stamattina stamattina il dottor Francesco Rossi Career Student Ambassador ha raccontato tutto il percorso di selezione per arrivare fino alla posizione finale all'interno di una istituzione come questa quindi ha raccontato la pre-selezione la prima selezione la seconda selezione e poi gli hands on in cui ti valutano proprio in situazione per poterti selezionare che è tutto il percorso che ha fatto Toto per arrivare fino a a diventare parte diciamo della dell'Unione Europea all'interno del GRC e se ce l'ho fatta io madda ok questa era una battuta detta così per dire in realtà lui è un grande tutti quelli che ci sono qua oggi pomeriggio sono dei grandi quindi stiamo parlando proprio guardateli come un faro ecco ragazzi pensate dove si può arrivare è chiaro che fisica sì sì è chiaro che far fisica è già una passione ma qui si tratta proprio di metterci quel po' di più quel pepe in più che fa veramente la differenza grazie Toto grazie mille ovviamente questo sarà registrato e lo ritroverete sempre ogni volta che volete io adesso passo la parola al professore Alberto Sesana dell'Università degli Studi di Milano Bicocca che è anche vincitore di Uniersi e quindi ci parlerà di quello che sta facendo e di come si vince Uniersi ah devo parlare di quello allora no puoi parlare di quello che vuoi ovviamente ci manca altro ci manca altro piena libertà share vediamo un po' vedete il mio schermo sì vediamo il mio schermo le 100 taps le vedete le famose 100 taps sì sì quelle le vediamo allora vediamo un'altra ma è difficile parlare dopo Toto perché insomma sei preparato così bene per questo evento il filmato eh ha fatto la differenza esatto ok vedete questa cartina del mondo la vedete? la vediamo la vediamo perfetto ok allora io sì diciamo che non ho da raccontarvi una carriera così particolare se volete come quella come quella di Toto nel senso che io ho fatto un percorso se volete accademico standard nel senso ho studiato ho studiato all'università dell'Insubria anch'io mi sono laureato ormai quasi vent'anni fa quindi insomma il tempo passa e e da lì eh da lì dall'Insubria ho fatto anche il dottorato diciamo ma non contento diciamo della mia permanenza durante la laurea ho anche fatto tre anni e mezzo di dottorato in astrofisica con il professor Francesco Art e e nel 2007 eh dopo il dottorato ho iniziato diciamo il 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 carosello come come diceva anche Toto il carosello degli assegni che se volete in ambito internazionale si chiama il carosello delle borse di post doc cioè di post dottorato quindi subito dopo eh diciamo aver conseguito il dottorato nel 2007 seguendo queste freccette sono andato per un annetto nella ridente Birmingham nel nel nello UK eh dove ho lavorato appunto eh lì nel dipartimento di di fisica per per circa un anno dopo di che mi sono spostato per due anni negli Stati Uniti eh in Pennsylvania eh alla a Penn State Pennsylvania State University lavorando anche qui come eh come come post doc poi vi dico vi dico anche cosa ho fatto e adesso vi 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 racconto un attimo il mio percorso dopo questi due anni in Pennsylvania ho fatto domande per altre posizioni sempre tempo determinato e eh ho avuto un po' di offerte e sono tornato ho rifatto fatto il salto diciamo riattraversato l'Atlantico per atterrare questa volta a Berlino dove ho passato praticamente cinque anni al eh eh al Max Planck Institute for us for gravitational physics l'Albert Einstein Institute ehm prima come prima come assegnista e poi come come senior scientist diciamo finché nel nel 2014 2015 ho fatto il il salto sostanzialmente eh vincendo una eh una university fellowship della Royal Society che sono delle delle fellowship eh abbastanza prestigiose eh del 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 Reunito che mi hanno riportato mio malgrado nella ridente Birmingham dove sono stato eh dove poi sono diventato lecturer eh senior lecturer che è l'equivalente di 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 professore associato diciamo nel nel sistema accademico italiano finché eh un paio d'anni fa eh sono ho vinto un concorso qui all'Università di Milano di Cocca e tutto questo carosello internazionale si è concluso eh a trenta chilometri da poco sostanzialmente ok quindi sono attualmente eh professore associato qui all'Università di eh di Milano di Cocca ci sono anche un altro paio di cerchi su questa su questa mappa che eh che eh praticamente vanno a localizzare posti dove diciamo non ho vissuto ma ho passato significativa parte del mio tempo mentre ero postdoc negli Stati Uniti e poi a Berlino ho passato diversi mesi eh in Australia eh e diversi mesi a a Pechino in Cina in dove sono stato anche in diverse occasioni quindi insomma diciamo che eh per quelli di voi che sono interessati alla alla carriera accademica eh una una cosa che insomma una cosa cui uno deve deve essere pronto è eh andare in giro anche nei tempi di pandemia infatti adesso adesso che appunto come diceva Michela eh sono titolare di questi fondi europei insomma far spostare i ricercatori per farli venire in Italia in periodo di pandemia non è proprio una cosa semplicissima allora cosa faccio io io mi mi occupo fondamentalmente di di onde gravitazionali allora forse appunto molti di voi ne avranno sentito parlare queste onde gravitazionali che sono diciamo delle perturbazioni della della geometria stessa dello spazio delle onde di spazio se volete che si propagano alla velocità della luce che erano sono state predette dalla teoria della realtà generale già appunto subito dopo la sua formulazione quindi la il primo primo articolo sulle onde gravitazionali dello stesso Einstein e dell'anno dopo diciamo la teoria della realtà generale però sono state osservate per la prima volta solamente eh ormai sei anni fa nel nel settembre del duemila del del duemila e quindici e qui io praticamente eh ho iniziato mi sono dottorato nel duemila mi sono laureato nel duemila e tre con una tesi sulle onde gravitazionali eh quindi duemila e duemila e quindici corrono dodici anni quindi diciamo io mi sono occupato di onde gravitazionali ben prima che fossero di moda e questo se volete in un certo senso eh al di là del fatto che io sia scarso è anche una delle motivazioni per cui prima di sedermi da qualche parte con una posizione ho viaggiato per una decina d'anni perché va bene Alberto sei tanto bravo e simpatico però eh le onde gravitazionali interessano quello che interessano finché ovviamente nel duemila e quindici non sono state osservate e adesso diciamo i miei giovani colleghi che eh escono dal dottorato eh fanno onde gravitazionali spesso e volentieri magari hanno delle offerte di di lavoro anche permanenti magari nel giro di due o tre anni dopo il dottorato perché adesso è diventato uno dei campi di punta di tutta l'astrofisica della fisica fondamentale ok quindi seconda se volete primo punto siate pronti a andare in giro secondo punto eh quanto dovete andare in giro e quanto potete soffrire in accadema per trovare un posto dipende molto da quanto è insomma non prendetela in modo negativo questa parola di moda cioè da quanto sia di moda diciamo quello che fate sostanzialmente ok onde gravitazionali del 2007 eh adesso Michela permettimi la parola non se le cacava nessuno onde gravitazionali del 2020 le vogliono tutti ok quindi questo eh questo insomma è un punto da tenere da tenere presente ehm io mi occupo di onde gravitazionali però mi occupo di due di due modi di vedere le onde gravitazionali di due esperimenti per vedere le onde gravitazionali che sono diversi da quelli che hanno visto le onde gravitazionali per adesso cioè stiamo parlando degli interferometri LIGO negli Stati Uniti e Virgo qui in Italia a Cascina che sono degli interferometri che servono per vedere onde gravitazionali ad alta frequenza che sono emesse da eh da oggetti compatti tipo buchi neri di massa stellare ok per quelli di voi che hanno una vaga idea di quello che sto dicendo quindi oggetti tipo il sole che però invece di essere una stella sono dei buchi neri ok io invece mi occupo di buchi neri supermassicci e come vedete questa figura qui se volete è un è un cartoon che vi fa vedere questa è una galassia all'interno di questa galassia al centro di questa galassia ci sono due buchi neri supermassicci che stanno eh che si scontrano si fondono in un unico buco nero e mettono onde gravitazionali ma a bassa frequenza e per vedere queste onde gravitazionali eh abbiamo diversi diversi modi diciamo ci sono le diverse tecniche una è quella dell'interferometria laser e qui vedete sempre in questa figura raffigurato l'ISA l'ISA che cos'è l'ISA che sta per laser interferometro space antenna di fatto è un è un interferometro però composto da tre satelliti questa in questa figura in alto a sinistra vedete il sole eh c'è questa è l'orbita della terra che c'era intorno al sole e dietro alla terra puntiamo a mettere in orbita tre satelliti a distanza di 2.5 milioni di chilometri l'uno dall'altro questi satelliti girano intorno al sole dietro alla terra e eh di fatto sono un interferometro solo che invece di essere lungo alcuni chilometri è lungo alcuni milioni di chilometri quindi serve ad osservare onde a frequenza molto più bassa perché ha il braccio molto più lungo e quindi da oggetti molto più grandi da buchi neri supermassicci allora vi dico tutto questo perché laser interferometro space antenna è di fatto adesso un progetto dell'agenzia spaziale europea dell'ESA un progetto approvato siamo in fase a stiamo disegnando di fatto stiamo facendo il design stiamo progettando la missione e io faccio parte sin dall'inizio della mia carriera della comunità diciamo che sviluppa eh questo 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 strumento eh che è il lisa consorzio lisa consorzio è un consorzio internazionale di scienziati che eh di scienziati ingegneri tutto che conta più di 1300 persone adesso e e di fatto eh unisce eh unisce scienziati di tutto il mondo fondamentalmente la maggior parte siamo diciamo dislocati in Europa e negli Stati Uniti perché la missione è guidata dall'ESA dall'agenzia spaziale europea con una junior partnership si dice eh della NASA ok però abbiamo anche una serie di eh di eh di membri del nostro gruppo in in altri in altri paesi in altri continenti dall'Australia alla 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 Cina all'India e tantissimi altri posti ok ehm questo è l'organigramma di lisa se volete ok qui avete l'ESA al centro che è responsabile di tutto l'Ambaradan diciamo così e la missione diciamo sì il core della missione è formato da questi tre gruppi che vedete sotto che sono lisa instrument group ok il lig che sono proprio quelli che sono che costruiscono lo strumento ok il lisa data processing gruppo che sono quelli che si occupano di mettere insieme le pipelines che serviranno per per costruire per per insomma per analizzare i dati di lisa e il lisa science group che se volete la comunità astrofisica che si occupa della scienza che lisa deve fare in particolare dà l'input sulle domande scientifiche a cui lisa deve rispondere che quindi guidano il design dello strumento perché per rispondere a certe domande lo strumento deve essere in grado di far di avere delle certe performance e quindi deve essere deve avere un certo design e se vedete se si riesce a vedere in questo lisa science group c'è un quadratello che viene chiamato dov'è che sta interpretation qua in basso che sembra lì così ma in realtà è un quadratello molto importante che è il science interpretation work package che è in che diciamo ha il compito di preparare l'interpretazione scientifica dei dati di lisa quindi in che modo lisa risponderà alle domande fondamentali che ci ci poniamo e io sono uno dei chair di questo gruppo ok quindi io diciamo negli anni mi sono occupato tanto di lisa e adesso occupo diciamo una posizione di responsabilità all'interno di questa comunità ok lisa non è l'unico modo lisa volerà tra una decina d'anni se tutto va bene diciamo anche 10-15 diciamo ok e un altro e questa gran parte diciamo del lavoro che faccio un'altra cosa di cui mi occupo invece è cosiddetto pulsar timing che è un altro modo per vedere onde gravitazionali che è diciamo raffigurato in questa immagine voi potete immaginare lo spazio tempo come curvato dal passaggio di queste onde come vedete in questo come rappresentato da questo reticolato verde le pulsar sono delle stelle di neutroni che girano molto rapidamente e di fatto questo emettono dei getti radio dai poli magnetici e quando questi getti radio intercettano la terra di fatto voi vedete un faro sostanzialmente sono come degli orologi perfetti che fanno tic 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 ok ogni sono esattamente come dei fari cosmici e il passaggio di un'onda gravitazionale altera il tempo di arrivo di questi tic ok quindi misurando i tempi di arrivo di una famiglia di pulsar ok che sono delle stelle di neutroni nella nostra galassia siamo possiamo essere in grado di osservare onde gravitazionale ci sono un manipolo di eroi in giro per il mondo che hanno preso questa si sono fatti carico di questa di questa sfida e in particolare sono organizzate in tre collaborazioni internazionali la european pass out timing array nanograv in nord america e parks pass out timing array in australia si stanno aggiungendo negli anni i nostri amici indiani della indian pta suda america suda 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 africani di mirkat e cinesi della cia in della cines ptieri e tutti insieme appassionatamente formiamo l'international pass out timing array interesse a pass out timing array è una collaborazione internazionale veramente internazionale che coinvolge gli stati qui rappresentati che praticamente monitora millisecond pulsar con tutti i grandi radiotelescopi che abbiamo a disposizione nel mondo ok che li vedete raffigurate qui è una collaborazione che conta centinaia di di persone e di cui appunto faccio parte da 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 15 anni ormai abbiamo un chair della collaborazione internazionale che ruota ogni anno e nel 2016 sono stato il chair di questa collaborazione internazionale ok e l'idea è quella di osservare un debito fare il timing di queste millisecondi per osservare onde gravitazionali a bassa frequenza quindi anche qui insomma grande collaborazione internazionale colleghi in tutte le parti del mondo meeting in tutte le parti del mondo pre corona ovviamente post corona meeting davanti al tuo zoom però insomma questa diciamo è anche parte del mio del mio lavoro ora vi dicevo le onde gravitazionali sono diventate molto molto come dire appetibili e molto di moda negli ultimi anni tant'è che appunto due due anni fa mi è stato conferito un un grosso fondo europeo un fondo del fondo europeo del european research council un nursing consolidator grant che praticamente questi questi sono praticamente soldi che la la commissione europea di fatto da direttamente alla persona ok a un ricercatore per mettere in piedi il proprio gruppo di ricerca ok e questo è lo scopo diciamo di questi soldi è quello di appunto realizzare un progetto di ricerca solamente in base all'eccellenza della proposta quindi voi dovete avere un ricercatore deve avere una buona idea una buona implementazione di questa idea deve essere un'idea cutting edge per dire ok e non dico rivoluzionaria però insomma un'idea un'idea nuova e un'idea forte e se siete se uno insomma se siete bravi e devo dire anche fortunati potete ricevere questi fondi che sono tanta roba nel senso che parliamo di insomma un milione e mezzo 2 milioni di euro ok e ora che sono tornato in dopo tutto questo bagare sono tornato in Bicoc a partire da questa l'anno scorso quindi Bicoc ho iniziato a costruire il mio gruppo grazie a questi a questi fondi europei che vedete qui che vedete qui raffigurato quindi tramite questi fondi ho sono riuscito ho potuto assumere di fatto 5 6 ricercatori tra l'altro l'ultimo di questi il buon golem che vedete qui nel mugshot dopo essere stato arrestato no scherzo arriverà a Milano lunedì e completerà questo gruppo di ricercatori come vedete molto molto variegato molto internazionale abbiamo questa foto che hanno tre italiani uno spagnolo indiani e niente per i prossimi 5 anni porteremo avanti questo progetto di ricerca cercando ovviamente di giustificare i fondi che l'Unione Europea ci ha fornito quindi niente questo è dove sono dove sono ora sono partito appunto da dall'insubria 20 anni fa ho girato per il mondo quasi 15 anni per finire poi a Milano con appunto un finanziamento con diciamo il piacere di avere questo finanziamento europeo e di mettere insieme un gruppo di ricerca con delle validissime persone che insomma con le quali stiamo stiamo portando avanti un progetto di frontiera diciamo così e niente io non ho finito qui e se avete se avete domande ovviamente sono qui grazie Alberto grazie mille sapete cosa mi piace da morire di queste presentazioni l'idea che tutto sommato quando uno fa un percorso scientifico in realtà non è parte di una di una nazione di uno stato no per gli scienziati cioè il laboratorio è il mondo e a volte anche al di là del mondo perché quello che ci hai fatto vedere è assolutamente fantasmagorico cioè stamattina io ho aperto con un'immagine dello spazio nel senso che per parlare di carriere internazionali ho parlato prima del robottino che è appena arrivato su marte che è stato veramente emozionante secondo me e poi della famosa immagine pale blue dot che il voyager ha scattato il 14 febbraio del 1990 che in qualche modo ti fa mettere tutto in una prospettiva un po' diversa quindi quest'idea che la valigia è sempre pronta e che giri ai quattro angoli del mondo è un'idea che abbiamo con cui siamo partiti l'anno scorso la prima giornata delle carriere internazionali e che ci continuiamo a portare dietro quest'anno perché l'anno scorso abbiamo parlato di una fisica che ha costruito un satellite e che adesso lavora che si occupa di armamenti nucleari di disarmo nucleare in giro per il mondo quindi e che ci ha raccontato delle storie bellissime quindi queste sono storie che fanno capire come cioè voi dite di non essere bravi in realtà siete molto bravi il peregrinare anche perché noi scherziamo molto bravo esatto si scherza molto però il peregrinare è anche il risultato di una mente sempre attiva e che ha voglia sempre di qualcosa di nuovo quindi cioè non confondiamo è vero che poi è vero che la richiesta è anche basata su quello che in quel momento è lotto topic no finché si era il bosone di X cercavano tutti i bosone di X poi il bosone di X l'hanno trovato e adesso non è che si parla poi così tanto del bosone di X se dobbiamo dirla tutta no quindi è chiaro che una mente sempre attiva si guarda sempre intorno ed è disposta a spostarsi un po' dappertutto quindi nel frattempo che immaginiamo cioè che vediamo se escono domande dal nostro parterre o Antonio ha risposto alla domanda di Federico di prima dicendo che sono svariate le cose che hanno la fisica che hanno hanno nanotecnologie una camera anecoica per le microonde e anche l'istituto del reference materiale europeo l'equivalente del NIST americano e ok dalla regia mi dicono se puoi chiudere la condivisione Alberto così ti vediamo esatto io trovo che sia ecco il fatto che anche questo aspetto non ti vediamo in realtà vediamo solo un pallino per il momento perché non sei telecamarizzato eccoci qua ecco adesso compare dal nulla da Bicocca sei a Bicocca adesso non sei tanto lontano da qui e anche questo fatto di essere responsabile di aver vinto un progetto europeo è vero ce lo siamo detti anche stamattina che a volte è questione di fortuna però relativamente cioè ho questione di essere pronti quando c'è l'opportunità e questo secondo me è quello che fa la differenza soprattutto in una carriera internazionale io quello che dico quello che effettivamente io sono molto cinico su queste cose però una cosa che è vera è che per vincere un IRC ci vuole sicuramente fortuna perché sono tanti ricercatori bravi e tanti ricercatori bravi non riescono a vincerlo ok però se sei scarso non lo vinci ok quindi è vero che ci vuole fortuna ma dietro la fortuna bisogna averci anche un po' la ciccia e quindi insomma ci vuole tanto insomma tanto impegno tanti anni di carriera costruita per arrivare a quel livello dove poi te la puoi giocare ok e magari ti va male e ti va male e magari ti va bene però se non arrivi a quel livello lì non te la puoi nemmeno giocare e mi piace anche questo fatto che riprendiamo quanto detto stamattina il il primo segretario dell'ambasciata di Bratislava ha detto per arrivare qua bisogna studiare 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 impegnarsi 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 rimboccarsi le maniche e farlo da subito non pensare che da un certo punto in poi si potrà fare questa strada questo late motive che sta veramente portando e late motive della giornata di oggi l'impegno da un lato e la flessibilità e la versatilità dall'altro oltre ovviamente alle competenze personali che quelle sono un must insomma se uno non ha le competenze per fare il fisico da lì non possiamo portarlo grazie a Linsubre vai Alessia vai volevo chiedere ad Alberto una curiosità ma quante volte hai tentato di applicare per unirsi prima di vincerlo hai vinto subito al primo colpo? no al secondo la prima volta la prima volta non mi hanno proprio neanche considerato nel senso sono stato eliminato nella fase 1 e la seconda volta invece diciamo l'ho sistemato un po' come l'ho fatto leggere un po' di colleghi l'ho sistemato un po' l'ho aggiustato un po' e è andata bene quindi l'ho provato due volte l'ho provato sì a lei si sorride c'è gente che lo prova molto di più sì sì no lo so bene insomma io conosco ho degli amici che l'hanno l'hanno beccato subito e degli amici che hanno provato 3, 4, 5 volte non gli è mai andata bene conosco gente che è andata 3 volte all'interview quindi vuol dire che e 3 volte l'interview non l'ha preso quindi insomma insomma c'è quella componente di c'è quella componente comunque di aleatorietà che che ogni tanto gioca a tuo favore ogni tanto gioca a tuo sfavore c'è poco da fare devo dire certo ma come dici tu non si può essere scarsi e il progetto non può essere scarso perché il progetto è scarso persona scarsa non si arriva da nessuna parte non c'è anche sì no questo sì questo è vero perché appunto io poi adesso ovviamente adesso che ho che ho un ERC che sono professore così mi mandano gli ERC le domande da valutare no io da valutatore giù cioè guardo il progetto guardo le carriere se il progetto è scarso la carriera è scarsa non si va da nessuna parte pollice verso eh sì assolutamente ok grazie mille Alberto interessantissimo adesso passo la parola ovviamente se arrivano domande poi rispondiamo per ordine al dottor Marco Ramilli che lavora all'European X-Ray Free Electron Laser Facility che adesso vediamo se si palesa e accende il microfono e che ci racconta la sua esperienza ovviamente sempre partendo dall'insubria tra le altre cose questi tutti questi giovani e brillanti scienziati sono partiti da qua da qualcosa ci rende molto orgogliosi a dire la verità allora buongiorno anche per me che sono arrivata dopo certo ti sentiamo sì allora giustamente a me è stato chiesto di parlare un po' della come si dice del mio ambito del mio lavoro nell'ambito delle della mia carriera a livello internazionale e come è stato fatto come hanno fatto tutti gli altri però più o meno un piccolo riassunto della quello che di solito nelle job interview è la prima slide queste qui diventeranno 5, 6, 7 slide però cercherò di dettagliare un pochettino i passi della mia carriera negli ultimi circa dieci anni e un po' di più anzi mi è stato chiesto di parlare dare una certa enfasi diciamo al mio lavoro nell'ambito di collaborazioni a gruppi internazionali e mi sembrava giusto partire dal fatto da dove sono dall'insubrio esattamente perché il primo ambito di lavoro internazionale in cui ho lavorato è stato quando sono diventato il PhD student studente di dottorato col professor Massimo Caccia però immersi all'interno del razzo di project e come potete vedere qui ho messo se vedete le slide che vedete ho messo una stellina sulla sede circa intorno al Como col simone ti chiedo solo una cosa sempre dalla regia io faccio la portavoce della regia se mandi sotto la tua miniatura di Teams dove ci sono io che ti faccio ciao ciao dalla regia è esatto bravo grazie grazie mille adesso è venuta su ok ok e niente vedete che comunque praticamente l'ambito di il progetto era una ricerca per era orientata la ricerca di nuovi detector nell'ambito della mammografia radioattività naturale eccetera eccetera e comunque il concetto è che comunque all'interno di questo già mi sono di provare a interagire con diverse parti internazionali che è il produttore della tecnologia di photodetector che utilizzavamo che sono i silicon fontifier che è irlandese istituto di G.H. di Cracovia di Tepa Mosca e più altre compagnie a Friburgo e a Ginevra e già questo è stato un ottimo punto di partenza perché mi ha messo diciamo nel mindset di lavorare nella quotidianità insieme a foto che avete visto prima e comunque tutti i giorni con gente che non viene esattamente dal mio immediato avvicinato e comunque mi sono dottorato ormai quanto dieci anni fa ho iniziato casualmente ho visto quello che vedrete praticamente è la carriera di una persona più o meno che ha dedicato il suo ambito di ricerca che ha la detector a rendi fondamentalmente e quindi diciamo dopo il dottorato mi è stato consigliato dal professor Caccia di mandare il mio CV a una collega che anche lei lavorava parecchio nell'ambito dei silico fotomultiplier la dottoressa costretta Erika Garutti appencoming new professor all'università di Hamburgo a cui è piaciuto il mio CV fondamentalmente mi ha assunto per cui per un primo assegno di come che nominava Alberto assegno di postdoc post dottorato all'università di Hamburgo dove sono stato tre anni e mezzo abbondanti dal 2011 al 2015 e in quel punto sono entrato a far parte in quanto membro del suo gruppo di ricerca all'università di Hamburgo è andato a far parte anche di una collaborazione di Detector R&D un po' più grande di quella di quella in cui ero parte quando ho lavorato con il professor Caccia all'Insubria che è la Calis Collaboration come vedete dal tag qui Calorimetri for ILC qui vedete ho aggiunto un po' di cose fondamentalmente vedete la foto un momento marcord per me perché questa foto ormai ha quasi dieci anni ed è uno dei primi Calis Collaboration meeting a cui ho partecipato non mi si vede tantissimo sono questo tizio nascosto in prima fila e questo qui è il primo meeting a cui ho partecipato la collaborazione come dicevo faceva e fa tuttora peraltro calorimetria al tempo per ILC adesso in generale per un linear collider non specificato e comunque nel mio piccolo mi occupavo sempre della tecnologia con cui avevo preso familiarità lavorando con il professor Caccia all'insù che si riconforto multiplier che è qui zoomati e che comunque era un grosso interesse all'interno del dipartimento di fisica sperimentale delle particelle per cui ho lavorato all'università di Hamburgo si occupavano di detector Rarendi in generale nell'app di Calis in quanto CPM in quanto tali radiaci ma occupavano anche di per esempio sono stati molto attivi e sono attivi tuttora nel pixel upgrade di CMS e c'era anche un altro gruppo che faceva data analysis per CMS però volendo focalizzarsi un attimino sulla Calis collaboration in cui ho partecipato ho dedicato diciamo buona parte del mio lavoro è una collaborazione relativamente piccola per il mondo della fisica delle particelle sono circa 360 al momento ricercatori di visi in 60 istituti per 18 paesi diciamo non raggiunge i livelli delle CMS diciamo con le migliaia di collaborazioni però è stato diciamo un salto in più di qualità come dire nell'interagire diciamo con studenti colleghi di mentalità nazionalità origini diverse è stato estremamente formativo e interessante ho lavorato lì mi sono imparato tantissimo mi sono divertito anche tantissimo in realtà per appunto dicevo tre anni e mezzo fino a quando finito l'assegno di dottorato stavo cercando un nuovo posto di lavoro e tramite un contatto che sarà abbastanza palese nella prossima slide ho deciso di fare un salto sempre a rimanere nell'ambito del detector R&D ma passare dalla fisica delle particelle a quella che viene detta nell'ambito photon science cioè costruire detector dedicati a esperimenti con luce di quella che viene chiamata luce di sincrotrone ma che adesso viene generata anche praticamente da i cosiddetti qui electron laser che in pratica sono raggi X con cui si fanno esperimenti di perché quella è la lunghezza d'onda che è necessaria a misurare diciamo interagire con i livelli elettronici degli atomi delle molecole diciamo allora a quel punto sono trasferito a inizio 2015 febbraio 2015 mi sono trasferito da Hamburgo a una piccola cittadina nel nord della Svizzera Filigan al Paul Scherer Institute dove andiamo a lavorare nel detector gruppo di quella del Paul Scherer Institute che è un centro di ricerca che ha anche un sincrotrone e a sviluppare a fare detector R&D per questo gruppo e qui potete vedere il Sir Rouge non so molti di voi non lo riconosceranno ma qui a questo punto qui c'è un altro ex studente dell'Università dell'Insubri Aldo Mozaica che ha lavorato con successo e lavora tuttora con successo come membro importante del detector del Paul Scherer Institute e ha iniziato a lavorare insieme a lui a vari detector che sono stati disegnati e sviluppati in parte o completamente in quel detector gruppo la missione fondamentale di quel detector gruppo è produrre e disegnare detector che vengano utilizzati alla Swift Life Source in breve che è il sincrotrone che è presente al Polsciare Lewis ma anche per esempio allo Swiss che è l'istituto gemello e letteralmente al di là della strada dell'edificio dove sedevo io e c'è tutta una scienza dietro nel mio dettaglio mi sono occupato di diverse cose ma più nel dettaglio mi sono occupato nel prototipo di uno di questi detector che si chiama Nensh e non so se voi siete appassionati di montagna è il nome di una montagna in uno dei massicci svizzeri ed è una caratteristica del loro gruppo che come potete vedere anche qui da questa slide loro tendono a dare nomi di montagna a tutti i detector che hanno sviluppato Pilazzi Gotthard è un passo tecnicamente ma il gruppo è molto importante molto noto diciamo che il primo detector che hanno lasciato in ordine di tempo è Pilatus e ha stata una sorta di rivoluzione copernicana nel mondo degli esperimenti con luce di sincrotrone perché non posso non entrare in dettaglio in tre prossime e praticamente la loro tecnologia sia per la qualità del lavoro che producono che insomma per l'efficienza per il fatto che è molto utilizzata dagli istituti di spari di sincrotroni e fie elettro laser in giro per il mondo e questo mi porta al prossimo step perché anche lì in questo caso dopo qualche anno la fine di dottorato andava a scadere sono arrivato a cercare un certo di lavoro e mi è capitato sotto gli occhi che lo European XSL guarda caso proprio da Hamburgo dove avevo vissuto qualche anno prima che ci sono provato parecchio bene cercava un detector un detector scientist per operare proprio una tipologia di detector che sono stati sviluppati al Porsche nello specifico questo detector qui è un prototipo di nuovo detector l'ho applicato ho fatto il mio colloquio e mi hanno preso e ho iniziato a lavorare dall'autunno di novembre 2017 e lavoro tutto allo European XSL XSL che questo salto diciamo è stato un po' uno shift un ulteriore shift nella diciamo nella specifiche competenze di lavoro pertinenza del mio lavoro rispetto a quando lavoravo per esempio al Paul Scherer Institute lavoravo nel detector group che si faceva si sviluppava era molto più focalizzato sulla rendita dei detector e certo installava forniva i propri detector alla Swiss light source e allo Swiss fell ma lo Swiss fell non era ancora in funzione quando lavoravo io ma quella è la miscia fa manutenzione dei detector upgrade eccetera eccetera però loro sono focalizzati il loro core e il detector a rendita mentre nel detector group dove lavora adesso è più focalizzato verso l'installazione il supporto ci sono branche dell'oreo pianistre fiel che fanno a detector rmd per il momento non lavoro in una di queste e sono più concentrate qui per esempio vedete due foto che ho aggiunto sono installazioni di youngfro questo è una youngfro che ha 4 megapixel ma 8 moduli di youngfro qui sono e qui è un altro in una delle in una delle scientifiche gli strumenti dello european xfl e qui è invece un'altra distanza differente dello youngfro detector in un altro degli scientifiche ma giusto per spendere un attimo o due parole sullo european xfl perché è differente perché lo european xfl rispetto al sls è una user facility come core mission come è praticamente molto simile a quello che diceva il mio collega toto antonio qualche minuto fa è più focalizzato verso la realizzazione degli esperimenti non necessariamente da parte di external user cioè gente che viene espressamente qui per fare l'esperimento però è il nostro core diciamo il nostro nucleo di utilizzo molto più non specifico giusto per dare un taglio rispetto all'internazionalità l'european xfl è tecnicamente quella che in germane si chiama la gambea cioè una società tra azioni con la differenza che gli azionisti sono tutti enti di ricerca pubblici qui ci sono 12 al momento partner countries l'ultimo che è stato è UK UK un anno dopo Brexit hanno deciso di unirsi allo European xfl qui vi metto il link del sito se volete se volete guardare di più è giusto per dare un'idea blow up un po' maggiore su cosa vuol dire lavorare qui come il mio collega Alberto non voglio subissarvi con troppi dettagli però fondamentalmente questo qui è una grafica che rappresenta come strutturata e ci sono a parte il management che è la la testa diciamo la direzione ci sono tre grosse branche e in realtà questa rossa e questa verde sono i core della qui non sono meno importanti però questa qui è l'amministrazione ma la parte scientifica è gestita da questa rossa e questa verde questa è quella più puramente scientifica nel senso sono quelli sono gli esperimenti cioè i sei strumenti scientifici più la parte di teoria e quelli che sample environment e questi dettagli che permettono all'esperimento di avere di avere che valutano la scienza dell'esperimento aiutano gli esperti user esterni a mettere in pratica la loro visione dell'esperimento e poi c'è la parte qui verde che è quello che è development and operation che sono tutta l'infrastruttura che c'è diciamo dall'esperimento dal punto di interazione in poi vuol dire il detector vuol dire la presa dati vuol dire la gestione dei motori vuol dire il software development vuol dire lo storage dei dati non ho una slide a questo però ne andiamo nell'ordine di petabyte al mese come dati e io lavoro in questo piccolo quadratino qui per il momento nel detector operation non sono ovviamente solo nel mio gruppo siamo in una ventina ma più nello specifico l'opinette scale al momento ha circa 450 480 persone che però non sono ovviamente limitate a membri dei 12 paesi di origine qui vedete viene dal nostro dipartimento di HR una statistica più recente a cui ho avuto accesso per la composizione internazionale dello europeo speciale qui include tutto lo staff non solo personale scientifico e tecnico ma tutti tutti veramente vedete che ovviamente essendo la seconda città più popolosa della Germania diciamo di grosso nucleo la maggioranza assoluta sono composto da tedeschi però ecco qui c'è un errore i colori non rendono tantalmente bene però diciamo che l'Italia arriva seconda di distanza ma seconda e dopo di che Russia Polonia Inghilterra Francia eccetera eccetera però per dire ci sono 50 nazionalità rappresentate incluse 12 cittadinanza a quanto vedo tra dipendenti di l'Oriukenet che si acciede ma da quanto di vista dell'interazione diciamo come dire multiculturale non finisce qua perché come il mio collega Antonio molto spesso quello che parte della mia descrizione di lavoro è supportare gli utenti esterni che vengono adesso venivano prima del Corona adesso si cerca di fare qualcosa però è ovviamente in maniera molto ricotta sì però vengono in teoria lì nel principio a fare il loro esperimento alle nostre linee di forcio e molto spesso mi tocca e fa parte del mio lavoro interagire con gli instrument scientist e con gli intenti aiutarli per esempio nella configurazione del detector nella data nella correzione di problemi effetti errori che hanno che hanno il più possibile nell'ottenere la qualità migliore dei dati e questo qui è giusto per dare un'idea anche qui della di quanto è variegata l'utenza che riceviamo ovviamente che si il european XSL è in funzione da autunno del 2017 sono quattro anni abbondanti l'anno scorso non abbiamo fatto granché per la verità per via della pandemia in corso però potete vedere che ovviamente anche qui il core degli utenti sia per il 2019 che il 2020 è tedesco però ci sono membri da tutta l'attività europea più Corea del Sud Stati Uniti di che più ne ha pienamente diciamo quindi direi che concludendo questa qui è più o meno è un'overlook sulla mia esperienza diciamo all'interno di gruppi scientifici internazionali finirei qua togli la esatto togli la condivisione intanto però io approfitterei per fare la domanda che è stata fatta ad Alberto per rivolgerla più o meno a tutti coloro che hanno già parlato e cioè come si fa a costruire un curriculum di questo livello a partire già dalla magistrale come ci si fa come si fa a distinguersi all'interno di un gruppo perché effettivamente tu venga scelto tu possa portare ovviamente dando per scontato che uno il talento ce l'abbia e cioè diamo per scontato che uno abbia le capacità cioè non diciamo però in quel caso come si costruisce un curriculum di questo tipo allora io non so come posso non posso dare una ricetta generale posso parlare della mia opinione personale e nel mio nel mio caso la capacità la lascio giudicare agli altri quello che ci ho messo sempre di mio è stato il fatto che il mio lavoro mi piace e quindi credo di aver dimostrato più o meno costantemente a tutte le persone con cui ho lavorato con me il fatto che entusiasmo e la volontà di imparare e di dedicarmi al mio lavoro nel senso questo credo che abbia colpito molto ed è un un anno e mezzo fa un anno fa a inizio gennaio 2020 ho fermato il mio contratto a tempo determinato con la european xfl qualche mese prima sono andato a parlare con il mio nuovo capo a chiedergli guarda tra l'anno miscare il contratto cosa devo fare e lui ha risposto guarda ho parlato con gente gli è piaciuto come lavori ti vogliamo tenere questa è la cosa secondo me magari non passa sempre e ci saranno anche lì la fortuna che dice Alberto che ha nominato Alberto è anche questo purtroppo o per fortuna come nel mio caso un elemento ineludibile cioè bisogna essere la persona giusta al momento giusto quello che posso dire che nel mio caso è che non è non è sempre il momento giusto non è arrivato la prima la seconda volta la terza volta è arrivato e quindi la costanza dell'impegno questa è una cosa e la seconda cosa che a me personalmente ha aiutato parecchio è sembra una brutta parola perché in Italia in Italia purtroppo indice però il networking mi ha aiutato parecchio nel senso cercare di lavorare il più possibile con persone che sai essere eccellenti perché cercare di lavorare con persone da cui puoi da cui puoi imparare le quali a loro volta ti possono dire guarda ha lavorato con me sono sicuro che è una persona affidabile perché ha imparato queste e queste cose e questo questo aiuta è una sorta di snowball effect nel senso una volta che inizi a lavorare con in ambiti diciamo di eccellenza non voglio dire che è deterministico che succederà sempre così e che non ci possono essere passi indietro però se ripeto unito al fatto che ha la mentalità la disposizione e all'entusiasmo per il proprio lavoro diciamo tende a produrre risultati che presto o tardi si ritornano diciamo ma questa ripeto è la mia esperienza ma poi chiaramente possono essere code nella statistica Camille direi che è una descrizione magnifica però anche perché da un lato coniuga la passione con anche la capacità di mettersi in gioco Alessia ho visto la tua manina alzata sì io volevo fare un'altra domanda sempre a Marco visto che hai mostrato nelle slide anche questa multinazionalità volevo chiederti a livello di gender quante donne ci sono che lavorano in questi ambiti allora anzitutto devo fare una shout out alla European XFL noi abbiamo un rappresentante per la parità di genere che è stato eletto l'anno scorso se non mi sbaglio nuovo è stato entrato in carica il nuovo e ogni tanto ci vengono ci vengono date queste statistiche mi sembra non ce l'ho sulla punta della lingua però all'Europe XFL se guardi il numero totale tra tutto lo staff mi sembra che siamo intorno al 20 20 20 donne al CERN più o meno è uguale al CERN mi sembra che siamo intorno a 20 80 non so non so se si non ti posso dire se la percentuale cambi se uno si riduce per esempio il personale tecnico o il personale scientifico non ce l'ho non idea diciamo che il numero globale che aumenta il 20 80 devo dire che secondo me se si la mia impressione però ripeto prendetela come impressione lo sottolineo visto che sono videoregistrato che se secondo me se ci restringiamo al personale scientifico no non lo posso dire ho l'impressione che salga se ci restringiamo al personale scientifico quelli del quadratino rosso diciamo puramente scientifico degli instrument scientist può essere che salga e salga ulteriormente se invece ci restringiamo al personale amministrativo però diciamo che globalmente la facility è 20 80 è un numero abbastanza comune oserei dire vabbè al CERN abbiamo il direttore donna quindi fisica italiana quindi primo direttore riconfermato nella storia del CERN quindi da quel punto di vista lì il soffitto di cristallo è andato in frantumi in un colpo solo adesso vediamo se questa cosa ne abbiamo diverse la mia diretta scopo gruppo è donna nella management board ce ne sono circa la metà direi questo è un bel segno per le ragazze che sono collegate in questo momento che hanno deciso di intraprendere questa carriera tra le altre cose Alberto dice non posso far altro che sottoscrivere quanto detto da Marco e effettivamente sì lo sottoscriviamo tutti se dobbiamo essere sinceri grazie Marco è stato bellissimo veramente a parte il fatto che è bellissimo rivedervi tutti e sentirvi raccontare queste storie bellissime con il prossimo gioco in casa perché il dottor Daniele Guffanti che in questo momento è postdoc all'università di Mainz che rientrerà in Italia diciamo dopo l'estate gioco in casa perché è partito da qua è partito da questo laboratorio e per il quale abbiamo tutte le dita incrociate perché ha fatto parte di una collaborazione che chissà potrebbe vincere un premio molto prestigioso diciamo così Daniele ok allora noi non lo diciamo teniamo solo le dita incrociate non facciamo altro non lo diciamo assolutamente no hai parlato tu allora buon pomeriggio a tutti buon pomeriggio ringrazio tantissimo professoressa Prester professoressa Levi per l'invito io sono sempre contentissimo di tornare all'insubio ogni volta che posso questo periodo ovviamente ancora più complicato del solito ma ci ho lasciato davvero un pezzo di cuore in quel laboratorio lì di fianco al draghetto allora adesso ho preparato anch'io due proprio due slide che condivido ok immagino che le vediate in questo momento allora sì come diceva Michele la mia carriera comincia all'insub mi sono laureato all'insub nel 2015 in questa foto vedete qualche qualcuno di voi riconoscerà perché è molto familiare beh allora io forse visto che sono quello con la carriera più corta finora vorrei spendere anche due parole su quello che è stata la mia formazione all'insubio che per me è stata davvero importante ho avuto modo all'insubio di nonostante le dimensioni dell'ateneo e del dipartimento siano relativamente contenute questo rende possibile per gli studenti mettere già le mani in pasta su quello che sull'attività di ricerca in particolare io mi occupavo nel gruppo della professoressa Prest di analisi sviluppo di liberatori per la fisica delle alte energie e negli anni tra il 2010 e il 2015 ho avuto modo di partecipare a della vera attività di ricerca già durante gli anni di studio che è una cosa non propriamente standard ho fatto la mia dose di test BIM con la vita con la vita agra dei test BIM tra FERM i laboratori di Frascati e i laboratori di Rattrofodatterton in Inghilterra e una volta lavorato diciamo mi sono trovato a farmi due domande sul mio futuro e in particolare l'idea di continuare a lavorare nella fisica facendo un dottorato di ricerca mi interessava molto e ho seguito diciamo l'amore nel senso che negli anni di università avevo preso una specie di cotta per la fisica del neutrino è una particella diciamo piuttosto sfuggente però molto peculiare del modello standard e quindi ho fatto domanda per una borsa di dottorato al Gran Sasso Science Institute all'Aquila allora il Gran Sasso Science Institute è un posto un po' particolare per fare il dottorato è un istituto piuttosto recente è stato fondato è stato stabilito nel 2012 in seguito al terremoto del 2009 ed è una scuola di dottorato che vuol dire che non è una università nel senso che non ci sono corsi di lauree ma solo corsi di dottorato ci sono quattro corsi di dottorato matematica computer science urbanistica o meglio quella che era una volta urban sciences e fisica delle astroparticelle il GSSI nasce come spin off lascia l'Aquila come spin off dell'istituzione di fisica nucleare dei laboratori del Gran Sasso che sono uno dei centri più importanti per la fisica delle astroparticelle nel mondo diciamo questi anni per me sono stati davvero davvero importanti sia per la mia formazione scientifica ma anche a livello personale perché è stata un'esperienza molto importante il dottorato è tipicamente un tempo piuttosto provante ci sono diciamo la gente si dispera in continuazione perché il suo esperimento non funziona perché l'analisi crescia perché siamo apprendisti della ricerca e fare l'apprendista non è un lavoro facile imparare tutte queste cose non è facile però diciamo vivendo tutti assieme come una specie di comunità molto coesa ha aiutato molto e ha anche permesso di imparare tante cose perché comunque alla fine della giornata si va si torna a casa del laboratorio si torna a casa sempre in macchina in tandem con l'amico che lavora un esperimento diverso dal tuo e ci si scambia informazioni su un tipo di fisica che non è la tua non è quella che ti interessa di più impari tante cose su altri su altri rivelatori eccetera eccetera allora i laboratori nazionali Gran Sasso per chi non li conoscesse sono dei laboratori sotterranei sono i laboratori sotterranei più grandi al mondo ancora diciamo ce ne sono altri in costruzione ma sono probabilmente i più grandi laboratori sotterranei i più importanti sono accessibili attraverso la mistica A24 Roma l'Aquila Teramo dal traforo del Gran Sasso e sono divisi in queste tre grandi sale sperimentali che schermano gli esperimenti dalla radiazione cosmica con i 1400 metri di roccia che stanno sopra io al GSSI ho iniziato a lavorare per l'esperimento Borexino che sta qui nella All Sea dei laboratori Borexino è un esperimento che misura neutrini prodotti dal sole il sole produce una quantità di neutrini davvero impressionante sono circa sulla terra il flusso è di circa 70 miliardi al secondo per centimetro quadrato ma come immagino molti di voi sapranno i neutrini benché tanti sono estremamente difficili da misurare per via della infinitesima sezione d'urto cioè la piccolissima probabilità che hanno per interagire con la materia Borexino vedete qui uno schema del rivelatore il volume attivo del rivelatore è questo qui più all'interno in questo palloncino di nylon sottilissimo stanno circa 270 tonnellate di scintillatore liquido i neutrini prodotti dalle reazioni nucleari che avvengono nel sole interagiscono con gli elettroni del mezzo facendo scattering elastico gli elettroni depositano energia all'interno del rivelatore che produce una luce di scintillazione che viene letta da più di 2000 fotomultiplicatori che sono montati su questa sfera di acciaio inossidabile la cosa molto complicata che è veramente la caratteristica fondamentale di Borexino è che purtroppo l'interazione di neutrino che fa scattering su un elettrone è assolutamente indistinguibile da un elettrone prodotto in un decadimento beta o dallo scattering compton di un raggio gamma su un elettrone per il rivelatore per la luce di scintillazione è esattamente la stessa e quindi è necessario ridurre quanto più possibile il contributo di background radioattivi nel rivelatore per darvi un'idea noi ci aspettiamo all'interno di Borexino un centinaio di interazioni di neutrini al giorno per 100 tonnellate di scintillatore liquido voi fate il conto che la radioattività di un litro d'acqua quello che esce dai rubinetti di tutte le case più o meno dell'ordine di un litro per litro che vuol dire qualcosa come 10 alla 9 decadimenti radioattivi al secondo per 100 tonnellate al giorno per cui è veramente vitale purificare lo scintillatore quanto più possibile e selezionare tutti i materiali che compongono l'esperimento in modo da ridurre le contaminazioni radioattive Borexino è stato in grado di fare di ottenere questo questo grande risultato dopo con anni di ricerca e sviluppo per purificare lo scintillatore liquido a livelli davvero davvero eccezionali per dare un'idea la concentrazione di isotopi della catena dell'uranio all'interno all'interno di Borexino è inferiore a 10 alla meno 19 grammi per grammo di scintillatore liquido che vuol dire che praticamente non ne vediamo in anni di data tracking ciò nonostante misurare i neutrini all'interno di Borexino anche con questo liberatore super puro è piuttosto complicato il mio lavoro all'interno di Borexino durante il dottorato e che sta continuando diciamo un lavoro che sta continuando ancora adesso anche se con intensità un po' minore arrivato proprio l'analisi dei dati dell'esperimento per estrarre la misura dei flussi dei neutrini solari allora i neutrini solari vengono prodotti in diverse reazioni nucleari il sole produce energia attraverso la stessa reazione cioè la fusione di quattro protoni in un atomo di elio questa reazione può questo processo avviene in diversi in diversi step che appartengono a due grandi filoni una è la cosiddetta catena PP e l'altro è il ciclo CNO i neutrini solari se avete studiato queste cose nei vostri anni sono stati misurati già alla fine degli anni 60 e l'investigazione dei neutrini va avanti ancora oggi perché diversi esperimenti nella storia sono stati sensibili a diverse energie dei neutrini solari in particolare fino all'anno scorso eravamo riusciti a misurare con ottima precisione quasi tutti i neutrini prodotti all'interno della catena PP che è quella che domina la produzione di energia nel sole i neutrini del ciclo CNO invece erano particolarmente difficili da misurare e nessun esperimento fino all'anno scorso era riuscito a dare un evidence o fare una discovery nella mia tesi mi ero occupato anche di quantificare le possibilità di vorexino di misurare questi neutrini prodotti al ciclo CNO che sono particolarmente importanti per l'astrofisica e per la fisica solare perché da un lato la catena PP è dominante nel sole ma questo non è vero per stelle che sono più pesanti e più calde del sole perché la produzione di energia attraverso il ciclo CNO dipende dalla temperatura delle stelle e nell'universo ci sono tantissime stelle che sono più calde del sole e che ci aspettiamo che siano tenute accese proprio dal ciclo CNO dall'altro lato il ciclo CNO dipende anche l'efficienza del ciclo CNO nel sole dipende anche dalla quantità di carbonio e azoto nel core del sole che è un parametro per chi si occupa di modelli solari che è un po' è un po' dubbio per cui una misura dei nutrienti solari del CNO ti ritorna molto utile anche alla comunità che si occupa di fisica solare dopo anni di tentativi finalmente Borexino quest'anno è riuscito a misurare i nutrienti della catena CNO e la prima è una scoperta che ha avuto un discreto eco internazionale ed eco scientifica siamo riusciti a pubblicare abbiamo pubblicato il paper della scoperta di CNO su una rivista molto importante e per cui siamo tutti molto soddisfatti questa è un'immagine della collaborazione di una parte della collaborazione prima che iniziassimo ad incontrarci solo nelle nostre camerette davanti al computer e vedete le dimensioni della collaborazione non sono enormi siamo sull'ordine del centenario di persone provenienti da molti paesi diversi principalmente Italia Germania Russia Polonia e Stati Uniti e Francia sicuramente me ne sarò dimenticato qualcuno e i miei colleghi mi perdoneranno lavorare in una collaborazione internazionale insegna molto è molto bello confrontarsi con persone che hanno un'esperienza accademica simile ma non identica alla propria per cui ci sono alcune persone con un'expertise più forte ad esempio sull'analisi dei dati persone con un'expertise più forte sulla comprensione degli effetti del la comprensione del rivelatore di tutti gli effetti ad esempio dovuti ottici nella propagazione dei fotoni all'interno dello scintillatore liquido insomma è veramente arricchente se uno ha l'attitudine giusta impara tantissime cose che non ha mai studiato che non si è mai trovato a dover studiare su un libro ecco e muovendomi in avanti ecco alla fine verso la fine del mio dottorato un membro della collaborazione il professor Wurm mi ha proposto di proseguire la mia ricerca sui neutrini nel suo gruppo all'università di Mainz dove oltre a continuare il mio lavoro su Borexino ho potuto iniziare a far parte di questo R&D per sviluppare una nuova generazione di riglatori di neutrini sempre basati sui fotoni per cui ma che sia ibrida nel senso che combini due classi di rivelatori che hanno dato dei risultati grandiosi negli ultimi vent'anni in particolare i rivelatori Cerenco e i rivelatori a scintillatore l'idea è in un futuro di poter costruire un rivelatore piuttosto grande per misurare neutrini prodotti da una varietà di sorgenti che possono essere acceleratori o neutrini solari o neutrini prodotti dall'esplosione di supernove sfruttando sia la luce di scintillazione che la luce Cerencove dei dei prodotti dell'interazione dei neutrini nel rivelatore in conclusione qui smetto di condividere le slide e reattivo la telecamera in conclusione diciamo la carriera di un fisico in contesto internazionale per certi versi è inevitabile perché una cosa che avevo già sentito negli anni dell'università quando ci capitava di andare a fare test BIM da tutte le parti si respira nei centri internazionali di ricerca e si vive il fatto che la scienza è un'impresa collettiva per cui non ha molto senso misurare i neutrini solari dicendo questa è una misura italiana o questa è una misura di italiane buffanti uno perché non è vero nel senso che le collaborazioni in cui lavoro sono sempre piuttosto numerose e hai bisogno di tantissime persone che si occupano di parti diversi senza le quali un esprimento non funziona o non ha i risultati che si ottengono dall'altro è il fatto che la realtà il sole in questo caso il sole è una cosa che appartiene a tutti e che tutti hanno il diritto di conoscere e di continuare a conoscere sempre meglio per cui diciamo questa parte qua è inevitabile condividere informazioni condividere e condividere attività di ricerca quindi è una cosa che viene piuttosto naturale avere un approccio internazionale a questo attività di ricerca scientifica dall'altro lato la cosa che magari volevo sottolineare speriamo un po' di più che un po' più che magari non è stato toccato tantissimo dagli altri speaker la mia esperienza è stato molto molto positivo l'aver fatto un dottorato in un posto particolare come il Gran Sasso dove ho potuto interagire anche a un livello umano molto profondo con persone con un background particolarmente diverso ad esempio lavorando in Borexino ho lavorato a strettissimo contatto strettissima interazione con il mio amico e collega cinese con cui abbiamo iniziato il dottorato assieme abbiamo vissuto praticamente assieme per tre anni ed è stato da lui ho imparto tantissimo credo di avergli insegnato anche io qualcosa ad esempio come cucinare la pasta o qualcosa del genere anche questo è una cosa che è stata molto avvicchente dal mio punto di vista spero che diciamo di non aver annoiato troppo passo la parola assolutamente no Daniele ogni tanto mi capita di pensare non capita solo a me è capitato anche all'ONU di pensare questa cosa non per niente il CERN ci siede è che effettivamente nei grandi centri di ricerca lavorano spalla a spalla e fianco a fianco persone che fanno parte di paesi che altrove combattono guerre che a casa loro combattono guerre ed è impressionante questa cosa in un ambito di carriera internazionale pensare che in qualche modo la scienza va oltre quello che è il quotidiano di un paese cioè si lavora insieme per un fine comune e c'è questo proprio questa capacità di lavorare insieme secondo me l'hai sottolineato molto bene il GSI è sicuramente una realtà italiana di altissimo livello l'INFN in primis si è battuto fortissimamente per per aprirlo perché non è stato una passeggiata è un dottorato internazionale un dottorato internazionale importante di solito non prendono dei fisici sperimentali delle particelle tu sei stato il nostro portabandiera al GSI come vero fisico sperimentale delle particelle quindi questa cosa e poi hai fatto tutt'altro con i neutrini o quant'altro quindi e questo è è bello c'è una carriera internazionale nel tuo paese che poi ti fa da lancio come tutti quanti avete raccontato verso il resto il resto del mondo diciamo grazie Daniele adesso io passo siamo un po' in ritardo ma avrete tutti pietà passo la parola alla dottoressa Elena Donegani che lavora allo European Spallation Source che rappresenta degnamente le donne oggi in questo contesto e che pure è partita da qua prego Elena dunque volevo ringraziare per l'invito a partecipare a questo meeting virtuale e visto che in questo periodo come già stato detto è particolarmente difficile spostarsi viaggiare vedere posti nuovi ho pensato di proporre anche una sorta di tour virtuale per ripercorrere quelle che sono state le tappe principali nei miei studi e nella mia carriera internazionale devo dire che ho concluso l'Insubria gli studi per la laurea specialistica in fisica medica otto anni fa e ci tengo a sottolineare che per me il punto di partenza è stata l'università degli studi dell'Insubria dove ho studiato nel gruppo della professoressa Michela Prest sia per la laurea triennale sia per la laurea specialistica in fisica medica come spero abbiate già potuto notare durante i vostri studi secondo me all'Insubria ci sono innumerevoli occasioni per prepararsi se uno volesse ad una carriera internazionale nel mio caso direi che ci sono state principalmente tre propulsioni fondamentali che possono essere di ispirazione per gli studenti connessi oggi pomeriggio al punto uno direi che è stato fondamentale il periodo di tirocinio in laboratorio in ospedale al Sant'Anna dove ho studiato e collaborato con fisici medici dottori tecnici altri fisici altri ricercatori altri studenti visto che al giorno d'oggi penso che sia estremamente importante saper collaborare comunicare imparare anche il più in fretta possibile gli uni dagli altri specialmente nel caso di progetti interdisciplinari al punto due direi che è stata fondamentale per me anche la partecipazione a conferenze internazionali sia durante la triennale sia durante la specialistica e anche la partecipazione al meeting di Lindau dove ricordo che solitamente partecipano ogni 2-3 anni circa 500 studenti di fisica e giovani ricercatori da tutto il mondo e anche una ventina di premi Nobel per la fisica quindi penso che queste siano state occasioni fondamentali sia per il networking e anche per ampliare gli orizzonti e come terzo punto alla fine della triennale è stato per me altamente istruttivo lo stage di circa tre mesi al PSI che è l'istituto di ricerca svizzero che è già stato menzionato da Marco oggi pomeriggio volevo aggiungere il fatto che il PSI è un centro di ricerca multidisciplinare e risale nel 1988 dall'unione di due centri che a loro volta risalgono agli anni 60 e il motto del PSI è quello di creare conoscenza oggi per domani come ho riportato nel titolo di queste slide in tedesco e così è stato per me durante il mio stage al PSI ricordo di aver trovato tantissime ponti di conoscenza e tantissimi esperti in molti campi della fisica quindi non solo photon science non solo fisica delle particelle ma anche ad esempio nella scienza dei materiali fisica dello stato solido nella sicurezza nucleare e anche in generale diciamo sulla energia nucleare e la ricerca nel mio caso in particolare mentre ero ancora studente alla specialistica ho avuto l'occasione di contribuire al progetto chiamato Megapai l'acronimo in inglese sta per Megawatt Pilot Experiment e in italiano si direbbe che Megapai è stato un esperimento pilota su una sorgente di neutroni per spallazione che ha raggiunto per la prima volta al mondo un megawatt di potenza e il progetto per riassumere è stato dedicato fondamentalmente allo studio della trasmutazione di scuole nucleari e all'epoca era su un sistema cosiddetto Accelerator Driven System che dieci anni fa erano non convenzionali e nel mio caso in tre mesi di stagio al PSI mi ricordo che ho imparato tanto di fisica nucleare non solo sui libri e dagli articoli ma anche direttamente da fisici nucleari ingegneri nucleari e esperti di simulazioni Monte Carlo e tutt'oggi ancora utilizzo lo stesso codice di simulazione Monte Carlo ad esempio per calcoli di attivazioni di shielding oppure per il design di rivelatori che sono direttamente esposti a intensi flussi di protoni come nell'acceleratore di ISS di cui vi parlerò tra poco prima di arrivare a parlare di ISS e del lavoro mio odierno in Svezia volevo brevemente passare alla seconda tappa del mio percorso sono stata anch'io ad Hamburgo nel nord della Germania per il mio dottorato di fisica sperimentale delle particelle elementari ero in un gruppo dell'università di Hamburgo che si occupava e si occupa tuttora dello sviluppo di rivelatori per vari esperimenti di fisica delle particelle anche di fisica medica il lavoratorio si trovava nel campus del DESI che vedete in questa slide che è una sorta di villaggio scientifico quindi una fonte di conoscenza e di ispirazione immensa per uno studente di dottorato durante il mio dottorato mi sono occupata dello studio di rivelatori al silicio in particolare dei danni e delle performance dopo che sono stati raggiati e disposti operati in intensi flussi di particelle e particelle di alta energia come nell'LHC come ho detto prima Daniele è stato un periodo intenso di studio di approfondimenti ma è stato anche un periodo in cui ho viaggiato tantissimo per i vari esperimenti per i meeting per le conferenze e anche per i raduni che periodicamente venivano organizzati per i dottorandi da tutta la Germania che sono organizzati principalmente dalla società tedesca di fisica partendo da Hamburgo ho viaggiato parecchio in tutta la Germania avanti invieto dal CERN e poi anche nei Paesi Bassi dove ad esempio ho fatto gli ultimi raggiamenti di campioni per il mio dottorato e quindi devo dire che come ho riportato nel titolo della slide per me Hamburgo è stata veramente una sorta di porta sul mondo come solitamente si dice quando si riferisce ad Hamburgo e al suo porto che risale a circa 800 anni fa ed è sempre stato storicamente importante per lo sviluppo della città e dell'Europa in generale e penso che nei tre anni e mezzo di dottorato ci siano state tante importanti occasioni di confronto di presentazione dei miei risultati di imparare a presentare i risultati e anche di mettere in discussione e capire come migliorare i risultati e tutto questo penso che sia servito per ampliare il mio bagaglio professionale e poi anche la mia conoscenza scientifica in generale e devo dire che in Germania il giorno dell'esame di dottorato vengono fatte domande non solo nel settore di ricerca specifico ma in qualunque altro campo della fisica quindi penso che sia estremamente importante mantenersi aggiornati leggere tanto non solo in vista dell'esame finale ma oserei dire sempre comunque e dovunque per avere sempre nuove idee per imparare dalla storia della fisica dalla fisica contemporanea e avere sempre nuove idee poi essendo io musicista penso che sia stato facile anche conoscere scienziati da tutto il mondo visto che tanti scienziati sono anche musicisti e visto che la musica è un linguaggio universale non ha bisogno di traduzioni e devo dire che per vivere una città tedesca come Hamburgo è altamente consigliato imparare il tedesco quindi una lingua in più oltre all'inglese e nel mio caso mi ricordo di aver aderito al progetto Tandem dell'Università di Hamburgo dove essenzialmente due studenti di due nazionalità diverse si trovano e si insegnano vicendo la propria lingua e così si imparano tante curiosità locali e non e una volta concluso il dottorato sono rimasta ad Hamburgo per un breve contratto nello stesso gruppo del dottorato intanto ho cercato un postdoc e sempre volevo rimanere in un centro di ricerca e ho cercato ho trovato un postdoc qui a ISS a Lund dove mi trovo oggi e così ho fatto nuovamente le valigie come tanti altri e mi sono trasferita ancora più a nord nel sud della Svezia e in questa foto potete vedere il cantiere di ISS cioè l'European Spallation Source così com'era quando sono arrivata a maggio del 2018 qui in fondo si intravede il tunnel di circa 600 metri per l'acceleratore di protoni lineari si intravede il target per spallazione in costruzione che sarà di 5 megawatt e a fianco sulla sinistra le primissime beam line per i vari esperimenti che verranno fatti con i neutroni e durante il mio postdoc ho partecipato al commissioning della nuovissima sorgente di protoni della prima sezione dell'acceleratore e sono stata e sono tuttora nel gruppo che si occupa della strumentazione della diagnostica per tutto l'acceleratore di protoni e il gruppo è di 16 persone fa parte del dipartimento dell'acceleratore e questo gruppo di 16 persone sta sviluppando installando e testando circa 1500 rivelatori di 22 tipi diversi insieme a collaboratori da tutto il mondo e quando non sono nella control room sono nel tunnel per le installazioni per i test oppure faccio simulazioni in Monte Carlo e analisi dati e purtroppo penso che non ci siano tante università dove ci sia un corso sulla fisica degli acceleratori e dico purtroppo perché penso che sia un ramo della fisica molto entusiasmante e interdisciplinare in particolare poi per quanto riguarda la strumentazione e lo sviluppo di rivelatori per la diagnostica dei fasci e devo dire che sono molto felice di far parte del team in cui lavoro dove ci sono tecnici ingegneri meccanici ingegneri elettronici sviluppatori di FPGA e altri fisici che hanno diversi background diversi dal mio per cui penso che sia fondamentale imparare da subito saper comunicare e comprendere le informazioni dai colleghi dai ricercatori e da con chiunque con cui si lavora e qui a DSS lavorano circa 500 persone da 57 nazioni diverse e diversamente dagli altri docenti che ho menzionato prima fino a pochi anni fa non c'era proprio nulla e ogni giorno ci sono nuovi sviluppi ci sono novità ci sono sorprese insomma non c'è un giorno uguale ai precedenti e così ho imparato tanto prima che scadesse il mio postdoc da gennaio dell'anno scorso sono accelerator system scientist e penso che per arrivare a svolgere questo tipo di lavoro sia importante innanzitutto essere flessibili e non fossilizzarsi su un unico argomento durante gli studi così in questo modo si può essere il più possibile versatili e si possono affrontare le varie sfide che compaiono ogni giorno nel lavoro di un fisico sperimentale e se poi il progetto interessa veramente non sia tra virgolette semplicemente un lavoro da svolgere ma un lavoro che si fa molto volentieri penso che ormai il tempo sia scaduto quindi volevo concludere con una foto più recente di ISS e volevo anche concludere con un augurio per tutti gli aspiranti scienziati in particolare per le studentesse che sono connesse visto che è appena passato anche l'8 di marzo dicendo che la Svezia è un paese modello dal punto di vista della tutela del lavoro femminile e quindi volevo semplicemente augurare a tutti gli studenti connessi e in particolare a tutte le studentesse di poter trovare un paese dove possiate veramente vivere e svolgere in serenità il lavoro che vi piace fare grazie mille per la vostra attenzione Elena vorrei farti un applauso enorme devo dire tutto questo è incredibilmente emozionante grazie grazie a tutti